Vuoi anche tu passare da montare un video da così? A così. Seguimi in questo videocorso per Premiere Pro, per riuscire finalmente a dare una svolta ai tuoi montaggi. Sono Gianluca Guidone, fondatore di HPV Film. Durante la mia carriera ho realizzato migliaia di video, e quindi di montaggio. Ho realizzato e realizzo tuttora video per alcune delle aziende più importanti d'Italia, ma anche lavori per tutta Europa. Ho formato decine di persone che poi sono venute sul set con me, o che hanno montato video da me realizzati. Questo utilizzando il nostro protocollo, ormai consolidato. Ho utilizzato praticamente tutti i software di montaggio esistenti, e alla fine ho deciso di affidarmi alla suite Adobe, quotidianamente per i miei lavori. In questo videocorso avrai accesso a tutta la teoria base del software, divisa per capitoli, così da poter navigare tranquillamente tra i vari argomenti, e ripetere le lezioni tutte le volte di cui hai bisogno. Avrai accesso anche ad una prima esercitazione pratica, tramite materiale fornito da noi, che ti permetterà di mettere in campo le nozioni teoriche di queste circa 7 ore di corso. Ovviamente 7 ore non sono sufficienti per imparare una professione come quella del montatore video. Ti ci vorrà molta pratica ed esperienza, ed è per questo che ho realizzato e continuo a realizzare esercitazioni pratiche per aiutarti in questo percorso. Ti lascio il link al nostro sito per accedervi. Inoltre c'è un canale Discord al quale puoi accedere dove possiamo parlare di problemi e dubbi, e aiutarci a risolverli e migliorare ogni giorno. Perché tutto questo? Perché HPV Film sempre di più è insediata nel panorama nazionale, con produzioni ogni giorno, e questo può essere un modo per entrare in contatto con altri che vogliono fare di questo fantastico mondo la loro vita. E perché no, magari il prossimo collaboratore sarei proprio tu. Ma non voglio rubarti altro tempo. Quando sei pronto, inizia con la prima lezione. In questo videocorso andremo a vedere le differenze tra i vari programmi di montaggio e perché sceglierne uno rispetto all'altro. Impareremo a creare un progetto nella maniera corretta e più funzionale. Vi insegneremo il nostro metodo per farlo. Andremo poi a lavorare su questo progetto, creando una timeline, capendo le differenze che ci offre a livello video e a livello audio, per poi applicare degli effetti molto semplici come le maschere, il tracking, e andremo anche ad approfondire il concetto molto importante che muove un po' tutti i movimenti del montaggio, che è il keyframe. Un aspetto molto importante per chiunque non lo conosca. Insomma, crea una svolta poi in questo lavoro, per poi arrivare alla color correction, il color grading e l'export. La fase di export, appunto, è la fase che riesce a rendere file tutto il lavoro che abbiamo fatto fino a quel momento. Ecco quindi che andiamo ad esplorare quelli che sono i diversi tipi di programmi di montaggio. Ecco, come abbiamo detto, questo aspetto è molto importante affrontarlo in funzione del risultato che si vuole ottenere, quindi delle necessità che si hanno. Noi utilizziamo Adobe Premiere Pro in questo videocorso appunto per la sua facilità di comunicazione, anche con altri programmi, sempre della stessa suite, che sono appunto quelli come After Effects, Audition o Photoshop. Questo ci permette di creare i cosiddetti dynamic link, che permettono ai vari software di comunicare tra di loro in maniera dinamica, come dice anche il nome stesso. Questo porta dei grossi vantaggi, a parer mio, nel nostro mestiere, di evitare ciò che sono export secondari e quindi di avere tutti quanti i file in un unico progetto che comunicano bene qualora ci sia bisogno di aggiungere con After Effects effetti particolari, con Audition, modificare gli audio o importare grafiche personalizzate con Photoshop, ad esempio. Quindi questo diciamo è il motivo principale per cui noi lo utilizziamo e lo consigliamo e soprattutto per cui abbiamo deciso di crearne un videocorso. Pensiamo appunto che questo tipo di comunicazione sia poi molto utile nella carriera del videomaker finita, in quanto ti permetterà di realizzare veramente un video completo di tutto. Come abbiamo detto appunto esistono altri programmi, uno che utilizziamo molto è DaVinci Resolve, che è addirittura gratuito nella sua versione di prova, che contiene praticamente il 99% delle funzioni del programma. Ecco, però non ha quelle funzioni di dynamic link, è molto più complesso come programma e molto improntato sulla color correction. Quindi diciamo, ecco, noi per esempio lo utilizziamo solo per quella fase là, per farla in maniera un po' più avanzata. Però ecco, io non imparerei su quel programma là. Non è il tipo di programma su cui imparerei. Vi sono anche programmi come Movie Maker, molto più semplici di Premiere Pro. Quindi in base al tipo di video che dovrete realizzare, sono anche magari gratuiti o comunque non hanno il costo mensile che ha la suite di Adobe. Quello che vi consiglio comunque è di provare ad imparare veramente su un programma completo come questo, perché vi darà poi tutte delle chiavi per aprire le diverse porte del mondo del montaggio video, che vi permetteranno di realizzare dei video veramente di livello molto più alto. Quindi andiamo senza perdere altro tempo ad aprire Adobe Premiere Pro e a vedere come è strutturato. Ecco, questa è la schermata di caricamento che vi aprirà in base alla vostra versione. Ecco, questa è la prima schermata che vi troverete davanti una volta aperto il programma. Andiamo quindi ad esplorarla nel dettaglio. Adesso noi ci troviamo sulla tab di inizio, che come vedrete ci dà determinati collegamenti rapidi a diverse funzioni. La prima, che vediamo qua in alto, è migliora le tue competenze. Questo è un vantaggio che ha questo software, in quanto vi dà la possibilità di esercitarvi direttamente con dei tutorial forniti da Adobe stessa. Sono molto basilari, però possono essere un aiuto in più. Ecco che sicuramente altri software non vi danno. E per quanto riguarda questa tab qua, vi è in tutti i programmi della suite di Adobe. Come vediamo, vi sono altri collegamenti a informazioni a didattica che Adobe vi fornisce e poi vi sono i recenti, che sono i recenti progetti aperti. Come vediamo, vi sono i nomi dei progetti sulla sinistra. Da quanto tempo non apriamo il progetto, le dimensioni e la tipologia. Qua abbiamo addirittura la possibilità di filtrare il tipo di file da trovare. Comunque, come abbiamo esplorato nel metodo per archiviare i progetti, il consiglio è sempre quello di averli su una cartella sul desktop o insomma dove archiviate i progetti con il nome del progetto stesso. Quindi in maniera tale da andare nella cartella, aprirla e poi all'interno, adesso questa cartella è vuota ad esempio, all'interno andare a trovare il progetto di cui si è bisogno. Qua sulla sinistra andiamo avanti con tab inerenti alla community di Adobe e poi abbiamo il sincronizza impostazioni. Ecco, questa funzione è molto utile nel momento in cui voi lavorate in un team più grande, quindi realizzaste un progetto con più persone, con più operatori, allora questa tab vi tornerebbe utile. O comunque anche solo avendo più supporti su cui lavorate in contemporanea, quindi più computer. Questo vi permetterà sicuramente di avere sincronizzate le vostre impostazioni per quanto riguarda le preferenze di comandi alla tastiera, eccetera, eccetera. Però insomma adesso non è un concetto che ci interessa esplorare. Qua vi sono le novità che cliccando, insomma, è sempre questo concetto della community Adobe e vi porterà al sito in cui potrete vedere le novità del programma. Quindi che cosa si fa una volta che ci si trova in questo tab qui? Quello che possiamo fare è aprire un progetto, quindi andandolo a cercare. Un'altra cosa che possiamo fare è un nuovo progetto. Quindi ecco, questo è il tab del nuovo progetto. Come vediamo vi sono un sacco di informazioni in questo tab. La prima cosa è il nome. Ecco, questo aspetto secondo me è sottovalutato ed è molto importante. Noi adesso abbiamo creato precedentemente sul desktop appunto questa cartella chiamata PRJ videocorso, PRJ sta per progetto, progetto videocorso. È utile che anche il nome del progetto di per sé abbia senso e sia coerente con tutta la lavorazione. Io all'inizio mi ricordo rinominavo le cose veramente a casaccio, cioè rinominavo tipo tizio pelato o cose a caso. Quindi non era sicuramente funzionale poi nel caso in cui si dovesse riprendere il progetto più avanti o si creassero più progetti, perché una cosa che può succedere su una singola lavorazione è di creare anche più progetti. Quindi è molto importante nominare in maniera intelligente. Io quello che faccio è inserisco il nome, quindi in questo caso videocorso, metto un trattino basso e faccio intendere che è il progetto. La posizione è il secondo tab che ci viene proposto. Possiamo inserirne una in realtà poi dalle preferenze, che ogni volta che creiamo un progetto appunto poi ci viene in automatico salvato là. Io quello che vi consiglio comunque è di avere tutto insieme. Questo è un progetto per esempio in cui vediamo che appunto il programma poi creerà altre sottocartelle per quanto riguarda la parte di edit. Quindi quello che conviene fare è cercare di salvare tutto, non cercare anzi, bisogna salvare tutto nella stessa cartella. Quindi io semplicemente creo una cartella edit, la seleziono e quindi avremo il nome del progetto salvato nella cartella di destinazione videocorso. Qui vi sono altre informazioni importanti che il programma ci dà. Per questo progetto noi che tipo di rendering vogliamo utilizzare? Questo dipende molto dal tipo di hardware che utilizziamo a livello di computer. Quindi possiamo decidere per il rendering di avere l'accelerazione GPU oppure possiamo decidere di eliminare dal rendering insomma la scheda grafica e utilizzare solo il software. Poi vi è la parte video, quindi il formato di visualizzazione. Di solito si usa o in codice di tempo o in fotogrammi. Il codice di tempo sarebbe semplicemente appunto secondi, minuti e ore, i fotogrammi, la quantità di fotogrammi. Come sappiamo in base al tipo di progetto che creiamo un secondo è formato da 25, 50, 100 fotogrammi. Teoricamente nello standard italiano. Come formato di visualizzazione io vi consiglio di lasciare invariato codice di tempo e per quanto riguarda l'audio appunto abbiamo la possibilità di scegliere anche qua il formato di visualizzazione in campioni audio e millisecondi. Io ho sempre lasciato invariato campioni di audio. Qualora facciate un progetto solamente audio su Premiere Pro il consiglio che vi do è di invece andare in millisecondi in quanto sarà molto più preciso. E poi vi è la tab di acquisizione che serve insomma ad acquisire i file da un determinato supporto teoricamente analogico quindi ci permette di selezionare che tipo di formato di acquisizione vogliamo se il dv o l'hdv. Questo anche lo lascio invariato in quanto non è una funzione che in questo progetto ci servirà. Ok queste sono le funzioni generali della tab progetto. Come vediamo vi sono un sacco di informazioni anche solo in questo primo step in questo primo passaggio della creazione di un progetto. E vi sono altri elementi all'interno della creazione di un nuovo progetto. Uno di questi appunto riguarda i dischi di memoria. Questo è quel passaggio che vi dicevo prima che vi permette di salvare determinati file che sono quelle sottocartelle del progetto che vengono create come vi ho fatto vedere prima e di deciderne il dove salvarle. Il mio metodo è quello di salvarle come il progetto. Quello che vi consiglio di fare è di fare come ho fatto io e di mettere come preset il come progetto. Questo secondo me semplifica di molto il salvataggio dei file. Come altre soluzioni ci dà di salvarle in documenti come penso sia per il primo start del programma. Quindi in realtà è un qualcosa che vi consiglio poi di controllare e di modificare nel caso. E poi vi è la tabella di assimilazione. In realtà questa è una tab molto recente e vi sarà utile soltanto nel caso in cui giriate con formati molto grandi come possono essere quelli di una red in 6k, in 8k. Questo vi permetterà di fare quella transcodifica che serve appunto per rendere quei file molto pesanti dei file più leggeri su cui montare. Insomma è un concetto abbastanza complicato secondo me per chi è alle prime armi ed è una cosa che sicuramente si vede in fase più avanzata e appunto solo qualora lavoriate con file molto grandi. In questo caso non è una tabella che andiamo ad esplorare maggiormente. Una volta creato il progetto quello che ci rimarrà da fare è appunto dare la conferma e aprire. Quindi se siamo sicuri di aver selezionato tutti gli elementi che ci sono utili, che ci servono facciamo ok e ci si aprirà il nostro programma. Ok. E questo è come appare il programma una volta aperto. Sembra molto confusionario, sembra molto molto difficile ma appunto come vedete sembra quasi la piantina di una casa come abbiamo detto precedentemente. E tutti questi spazi vanno semplicemente esplorati uno alla volta per capire la loro funzionalità. Sono tutti appunto in funzione di qualcosa di ben preciso che andremo ad utilizzare quindi in realtà andremo a scoprire anche molto velocemente quanto sia molto intuitivo molto personalizzabile e molto semplice come impostazione e impaginazione. Ma questo lo vedremo nei prossimi moduli. Benvenuti in questa lezione. Oggi andremo a parlare per la prima volta di un aggiornamento di Premiere Pro. Infatti il tema di oggi è l'aggiornamento alla versione 2022. Se hai già guardato il videocorso questa lezione può essere un modo per ritrovare per via del redesign grafico alcune cose che magari non riesci più tanto a trovare bene nel caso tu abbia comunque effettuato l'aggiornamento alla versione 2022. Se no nel caso se stai iniziando il corso adesso sappi che appunto nelle altre lezioni che vedrai ci sarà una versione di design grafico differente ma le funzionalità del software rimangono le stesse identiche. Andiamo a vedere però come ogni aggiornamento di qualsiasi altro software di qualsiasi cosa che ci ritroviamo ad utilizzare tutti i giorni ma a livello digitale porti anche delle migliorie e semplifichi di molto il processo di editing. Quindi questa è la schermata iniziale del nuovo Premiere 2022. La prima cosa che possiamo notare che è il design è un design molto più appunto 2022 è un design molto più fresco e che potenzialmente ci semplificherà di molto ci renderà più intuitivo il processo di editing. Come prima cosa appunto abbiamo la possibilità di creare un nuovo progetto di aprire un progetto già esistente e in maniera molto semplificata prima appunto di entrare nel vivo del programma abbiamo la possibilità tramite questo pulsante scopri di raggiungere tutte delle guide degli aiuti che appunto Adobe ci dà per prendere confidenza con il software e tramite appunto sempre il tab iniziale la schermata iniziale abbiamo la possibilità anche di iniziare delle esercitazioni appunto che ci aiutano a scoprire le nuove funzionalità che il software implementa o comunque le nuove necessità che il mercato richiede a livello di editing. Quindi questa sicuramente è una cosa molto interessante che questo software ci offre. Proseguendo su quella che è questa schermata andando in maniera abbastanza spedita abbiamo la possibilità di accedere ai progetti aperti recentemente quindi abbiamo questa sezione recenti in cui in più abbiamo questa possibilità del filtro per ricercarli quindi avere anche la possibilità di ricercare dei progetti qualora appunto dovessimo avere tanti progetti recenti. altre funzionalità che in questo corso al momento a meno che appunto non sia un vostro interesse specifico nel caso lo fosse vi invito ad esprimerlo nella sezione domande e risposte abbiamo la possibilità anche di creare un nuovo progetto di team e di aprire un progetto di team e anche dei progetti di Premiere Rush infatti l'interfaccia in generale questa piccola parentesi è molto più simile all'interfaccia appunto di Premiere Rush. ora proseguiamo quindi e creiamo il nostro progetto cliccando su nuovo progetto avremo subito aperta quindi la schermata in porta nella schermata in porta come vediamo appunto abbiamo la possibilità di creare il progetto e di farlo con una suddivisione secondo me ottimale finalmente per questo procedimento quindi sviluppata da sinistra a destra con degli step che è naturale che vengono effettuati in questo ordine la prima cosa da fare sicuramente è creare il nome del progetto utile appunto come abbiamo già detto nelle puntate con la scorsa veste grafica importantissimo rinominare i progetti in maniera efficiente in maniera tale che siano univochi in maniera tale che sia facile riconoscerli e ritrovarli e che sia facile riconoscerli e ritrovarli anche eventualmente in un futuro per dei collaboratori quindi mi raccomando rinominate sempre i progetti in maniera furba intelligente e funzionale dopo aver rinominato il progetto è importante anche dargli una destinazione quindi il percorso del progetto è la seconda cosa che possiamo selezionare quindi scegliete il percorso e avrete la possibilità appunto di averli poi quelli più utilizzati subito qui pronti quindi anche questa è una cosa ottimale quello che consiglio che abbiamo consigliato anche all'interno di questo corso con il miglior modo per riordinare appunto i progetti è quello di avere tutto in un'unica cartella suddivisa per il materiale girato una cartella solo con l'edit una cartella con l'audio una cartella per ogni singola contenuto che abbiamo all'interno del progetto così da avere il progetto tutto in un'unica posizione comunque abbiamo scelto il percorso del nostro progetto sulla sinistra abbiamo quindi la possibilità di visualizzare la posizione dei nostri file quindi abbiamo il locale che sarebbe i file sul computer che sono suddivisi per desktop documenti download file cioè filmati musica immagini eccetera ok anche qua possiamo inserire altre cartelle e poi abbiamo i dispositivi che in questo caso sono gli hard disk esterni che secondo noi sono il modo migliore per un videomaker per avere il proprio materiale insomma è meglio averlo sistemato su hard disk esterni in maniera tale che siano un po' più indipendenti da ciò che succede al computer ok e che siano anche più trasportabili insomma quello che vi consigliamo è di avere degli hard disk esterni per i vostri file in questo caso abbiamo qua un hard disk esterno e poi di nuovo un rimando a quella che è poi in realtà la voce locale suddivisa in questo modo intuitivo e poi un altro rimando è quello alla rete ecco la rete non è un argomento che andremo a sviscerare all'interno di questo corso perché è un qualcosa già di più avanzato però avrete la possibilità tramite appunto questo collegamento di accedere direttamente ai file che sono sul vostro cloud se avete un servizio di cloud in questo caso per noi Google Drive la trovo una funzione utile che sicuramente nel futuro verrà molto di più esplorata dal punto di vista dell'editing video perché si sta passando veramente a un sistema più cloud ok quindi sicuramente è un qualcosa che nel futuro vedremo molto di più e anche altri software si stanno si stanno come dire avvicinando a questa cosa e finalmente anche Premiere c'è da dire che su questo era un po' indietrino ok poi qui abbiamo un altro i preferiti e per spiegarvi i preferiti passiamo direttamente alla cartella ok alla schermata centrale che è dove noi visualizziamo i nostri file e li visualizziamo in maniera personalizzabile ok un po' come poi è dentro il software quindi possiamo scegliere come visualizzare questo contenuto e ne abbiamo anche scorrendo sopra con il mouse una una preview ok quindi questo è molto utile per identificare direttamente se il contenuto è quello che abbiamo intenzione di importare abbiamo quindi facciamo il percorso completo questi sono dei file che sono sul desktop andiamo su desktop ok cerchiamo la cartella che è backstage corto gabri dove abbiamo effettivamente le clip che ci interessano per il nostro progetto quello che possiamo fare è appunto mettere questa cartella nei preferiti se è una cartella che andremo ad utilizzare più volte ok se è una cartella che dove solitamente noi mettiamo il contenuto allora qua ci rientra sicuramente utile il posizionare nei preferiti e averla subito a portata cosa possiamo fare con queste clip quindi possiamo riordinarle ok tramite questi tasti possiamo ingrandire cambiare la visualizzazione possiamo vederne un'anteprima semplicemente scorrendo con il mouse sopra ma possiamo anche appunto cambiarne l'ordinamento ok per nome data di creazione insomma per delle specifiche ma possiamo anche e questo è molto utile applicare un filtro questa è una cosa molto utile perché se noi dovessimo avere una cartella tipo questa qua backstage corto gabri invece che essere solo video fossero video immagini audio file differenti ma noi abbiamo bisogno solo dei file video e non delle immagini allora qua diventa molto utile applicare il filtro solo video o se cercassimo solo delle immagini applicare il filtro solo immagini e come vediamo non ci appare altro quindi questo è molto utile un'altra funzione molto utile è quella della ricerca perché per esempio una cartella ben più piena di questa dove abbiamo tantissimi file dobbiamo cercare un nome di un file di cui sappiamo già il nome e allora andiamo subito a a scrivere il nome e come vedete scrivendo il nome del file abbiamo direttamente solo visualizzato quel file là ok qual è lo step successivo quindi selezionare il contenuto di cui di cui abbiamo bisogno per fare il nostro montaggio e lo facciamo attraverso questa spunta qui o addirittura attraverso l'intera cartella nel caso in cui si debba importare l'intera cartella come vedete qua sotto abbiamo una visualizzazione per chi è pratico di Lightroom simile a Lightroom in cui appunto vediamo che cosa abbiamo selezionato nel caso delle cartelle ci apparirà la cartella con un numero indicante i file quindi con più cartelle avremo più cartelle ok oppure nel caso in cui dovessimo selezionare file singoli avremo una previsualizzazione dei file questa è anche una cosa utile per avere un'idea una panoramica del del tipo di del tipo di video che verrà fuori la cosa interessante è che queste queste immagini vengono visualizzate nell'ordine in cui vengono selezionate quindi in realtà questo ci permette già di fare un piccolo un piccolo montaggio ok prima ci vuole questa poi questa poi quest'altra poi bisogno di questa e in realtà lui ce le sta già mettendo in una specie di timeline questo ci ritorna utile nelle prossime impostazioni che sono quelle qua a destra che adesso andremo a sviscerare come prima cosa abbiamo la possibilità di copiare i file multimediali quindi se li abbiamo appunto sul desktop ce li può copiare in una cartella che scegliamo noi ovvero potenzialmente la cartella del progetto non vi consiglio di copiare i file insomma tenete i file tutti insieme già da subito quella è la soluzione migliore però può essere una funzione utile sicuramente ad esempio se i file arrivano dal drive perché i file in cloud richiedono una connessione per essere visualizzati mentre si può appunto decidere di copiarli direttamente nella cartella del progetto quindi in questo caso può tornare davvero utile possiamo decidere di creare un nuovo raccollitore con le nuove clip selezionate quindi lo si può chiamare per esempio selezionate e al momento in cui creeremo il progetto ci creerà direttamente anche questa cartella con all'interno solo queste clip selezionate un'altra cosa interessante è crea nuova sequenza e questa è proprio l'ottimizzazione di cui parlavo prima cioè è tutto ottimizzato ad andare direttamente sul montaggio quindi tagliare assolutamente dei tempi morti questa è una funzione interessante che non vi consiglio di utilizzare all'inizio perché come vedremo nelle prossime puntate nelle prossime lezioni ci sono degli step che è fondamentale riconoscere ok prima di creare una sequenza prima di iniziare effettivamente a montare però devo dire che Premiere per chi ha già più manualità sta improntando il percorso lavorativo su un qualcosa di molto più snello molto più veloce e questo è apprezzabile sicuramente e quindi possiamo creare anche una nuova sequenza non importa il nome possiamo lasciare assolutamente sequenza 0 1 e andiamo a creare il nuovo progetto ok e vediamo che creando il nuovo progetto vediamo come abbia creato effettivamente anche la sequenza nell'ordine in cui avevamo detto siamo all'interno del pannello modifica come vedete abbiamo la possibilità di passare dal pannello modifica al pannello importa in un attimo adesso il pannello modifica lo andremo a vedere nella prossima lezione quindi assicurati di aver appreso tutte le nozioni inerenti a questa questa lezione nel caso in cui dovessi avere dei dubbi delle perplessità ti invito a creare un dialogo nella sezione domande e risposte di questa lezione in maniera tale da anche con gli altri studenti creare un qualche sorta di dialogo utile appunto a trovare delle soluzioni appena sei pronto prosegui con la prossima lezione ok una volta creato il progetto vi si aprirà questa questa schermata più precisamente in realtà se sarà la prima apertura vi si aprirà questa questa schermata qua contenente appunto questi tutorial basici offerti da adobe niente questa è la parte di apprendimento che vi lascia comunque aperte parzialmente delle delle schede dei tab anche qua sulla destra però di per sé serve a seguire i tutorial che che già adobe ci lascia questo è il programma di montaggio una volta aperto sono passato semplicemente dalla da quello di apprendimento ad un impostazione con tutti i pannelli per poterli esplorare al meglio quindi questi questi sono tutti i pannelli che premier ci offre comunque facciamo un passo indietro e vediamo appunto che cosa ci offre effettivamente il il programma partendo dall'alto abbiamo la tabella file ecco file è una tabella molto molto importante ci serve in realtà per molte funzioni adesso ne andremo a vedere alcune in maniera molto rapida per poi iniziare comunque a scoprirle meglio andando andando avanti file ci permette di creare un nuovo un nuovo è un po' una parola generica però ci permette di creare un nuovo progetto un progetto di team che è semplicemente un progetto appunto che comunica con più persone contemporanea una sequenza un raccoglitore eccetera tutti i concetti che andremo a vedere a breve insomma però è quella cosa che ci permette la creazione di nuovi elementi all'interno del progetto poi abbiamo apri progetto ci permette semplicemente di aprire un progetto già precedentemente creato questa funzione si insomma è utile anche prima di aver aperto il progetto poi abbiamo appunto altre altre funzioni riguardanti l'apertura dei progetti la possibilità di chiudere i vari progetti di salvarli ecco questa è una cosa molto importante possiamo salvare con nome quindi andando a creare un nuovo progetto mettiamo caso che abbiamo aperto un vecchio progetto per eseguire delle modifiche le eseguiamo ma comunque vogliamo ottenere un backup di quello che è il vecchio progetto senza quelle modifiche qualora appunto si volesse tornare indietro quindi questa è un po' la funzione del salva con nome almeno per quanto mi riguarda la funzione che utilizzo di più poi c'è il salva comune un tasto che diventerà quasi un qualcosa di automatico da fare per quanto esistono anche gli autosave appunto dei salvataggi automatici fatte operazioni importanti diventa poi un po' una religione premere anche lo shortcut contro l'S in maniera abbastanza continuativa appunto per evitare di perdere le lavorazioni fatte abbiamo l'importa che è uno strumento fondamentale alla realizzazione di un progetto con questo strumento qua con questa funzione qua andremo ad importare dei file che selezioniamo quindi cliccandoci sopra ci aprirà il nostro percorso e potremo appunto andare ad importare i file che sono salvati sul nostro computer una volta importati i file l'altra funzione che ci dà per assurdo è quella di esportarli quindi una volta eseguita la lavorazione questo è un concetto che andremo ad esplorare meglio più avanti una volta lavorato eseguito il montaggio e fatti tutti gli aggiustamenti del caso quello che poi renderà un video effettivamente un file e il processo di esportazione ottieni proprietà per che ci permette di capire quali sono le proprietà come le informazioni di un determinato di un determinato oggetto multimediale e poi abbiamo le impostazioni del progetto ecco questo è un concetto già un po' più più importante da esplorare all'inizio nel senso qualcosa che andremo adesso andremo poi a vedere appunto in maniera più approfondita vediamo appunto che qua ci consigli anche gli shortcut che poi in realtà per acquisire un montaggio più veloce ci torneranno sicuramente utili quindi qua lui ce ne suggerisce diversi preimpostati ma in realtà possiamo anche poi modificare più avanti vi farò vedere come quindi abbiamo visto quanto in realtà anche solo una singola scritta piccolina qua sopra sia piena di informazioni e di funzioni ecco qua in realtà in queste scritte qua sopra abbiamo poi un riassunto di funzioni che sono poi ripetute all'interno del programma quindi qua poi abbiamo un assunto di quelle che sono le possibilità che abbiamo poi all'interno delle diverse tabelle quindi in realtà non vi spaventate se vedete così tante informazioni qua perché molte appunto le andremo a replicare anche nelle diverse schermate comunque abbiamo poi a destra la tabella modifica che in realtà è quella tabella che ci permette di eseguire delle modifiche ai file che poi sono in timeline abbiamo l'amatissimo control z che vi permette di annullare delle modifiche eseguite e poi l'annulla control z insomma che vi permette di tornare invece indietro qualora vogliate recuperare quelle modifiche che poi avete annullato appunto come vedete come vi dicevo prima voi appunto per tornare indietro potete venire qua e premere annulla oppure utilizzare qualora li abbiate appresi gli shortcut da tastiera per rendere tutto più più fluido poi abbiamo il taglio il copio e l'incolla con le loro varie sfaccettature appunto che insomma questo è un concetto molto semplice si tratta di copiare tagliare o incollare determinati elementi lo vedremo poi meglio appunto in timeline abbiamo poi altri vari comandi che impareremo ad utilizzare in timeline come il duplicare eliminare i salti il cancellare eccetera e poi abbiamo questa questa funzione qua che è delle scelte rapide da tastiera qua abbiamo la possibilità di personalizzare tutti i comandi che noi vediamo su modifica o sulle altre tabelle in alto di modificarli come comandi da tastiera io ho la mia personalizzazione che non differisce in realtà molto da quella standard di adobe però insomma possiamo in qualsiasi modo poi tornare a quelle che sono le impostazioni predefinite e alle nostre quindi quindi questa un po' è la è la funzione che hanno le scelte rapide da tastiera acquisirà più senso questa questa funzione qua una volta esplorati meglio quelle che sono le scelte rapide da tastiera sicuramente e poi abbiamo appunto un altro un altro collegamento alle preferenze che sono che riguardano le preferenze del programma una cosa che anche qui andremo ad esplorare più nel dettaglio prima di iniziare poi abbiamo qua sulla destra tutte le funzioni riguardanti la singola clip quindi tutti dei comandi appunto riguardanti le clip quindi rinominarla le impostazioni di sorgente le modifiche le opzioni che si hanno a livello audio video la velocità insomma questi sono tutti i comandi che appunto poi andremo anche a vedere come sono come il programma ci permette di eseguirli da qua di eseguirli con shortcut quindi comandi da tastiera o comunque con un tasto cliccando appunto con il mouse quindi con i tasti del mouse quindi in realtà abbiamo più modi di poter fare qualcosa all'interno del programma questo semplifica di molto in realtà anche l'apprendimento del workflow so che questa parte può sembrare meccanica lenta e noiosa ma vi semplificherà poi la comprensione di alcuni concetti dopo la clip come abbiamo già anche studiato in teoria c'è la sequenza quindi la sequenza non è altro che l'insieme di più clip la sequenza è quella cosa che creiamo in cui poi andiamo a lavorare quindi il progetto è come se fosse il film intero la sequenza è come se fosse la porzione in cui noi andiamo ad inserire poi le singole clip quindi anche qua una volta importate importati file multimediali creare una sequenza risulta molto importante per evitare differenze di formati eccetera quindi anche questo aspetto qua lo andremo a analizzare più nel dettaglio una volta importati dei file multimediali poi c'è la tabella dei marcatori che sono semplicemente i marcatori sono semplicemente quegli elementi che ci permettono di ricordarci di un punto lo andremo a vedere anche in seguito nel dettaglio sono un po' quelle etichette che mettete nei libri insomma per ricordarvi quel punto là sono molto utili anche questi nel caso in cui lavoriate con più persone ad un progetto vi permette proprio una completa personalizzazione di lasciare dei commenti molto molto specifici poi abbiamo grafica grafica anche questo è un elemento aggiunto di recente ci permette di lavorare con i modelli grafici e questa tabella qua ci permette queste funzioni appunto riguardanti la grafica comunque è già un qualcosa di più avanzato lo vedremo in seguito poi abbiamo visualizza ecco visualizza è ciò che riguarda l'anteprima come vediamo adesso molti di queste funzioni sono annullate perché il progetto è privo di file al suo interno ma comunque questo nome qua questa scritta qua ci permette di analizzare tutto ciò che riguarda la visualizzazione all'interno del programma dei nostri file quindi anche la qualità la risoluzione con cui vengono riprodotti i file che possiamo andare a impostare come massima o ad andare a frazionare in base alla velocità con cui viene riprodotta sul nostro computer quindi abbiamo anche questa possibilità di andare a diminuire la qualità qualora il nostro computer non sia dei più performanti con quel tipo di file poi vi è la tabella finestra che è molto molto funzionale perché determina la costruzione dello spazio di lavoro lo spazio di lavoro è questa cosa qua che stiamo vedendo adesso quindi è la composizione di tutti i vari elementi dalla tabella finestra possiamo andare ad aggiungere quelli che mancano quindi io in questo caso ho aggiunto la tabella di apprendimento se per caso lavorando al programma dovessi chiudere per esempio il pannello progetto e non dovessi più trovarlo all'interno dello spazio di lavoro so che da finestra posso andare a recuperarlo e riaprirlo questo potrebbe servire per esempio qualora voi non trovaste un nelle successive lavorazioni nelle successive nelle successive puntate una tabella a cui io sto facendo riferimento vi basterà andare su finestra e la troverete qua io adesso ho messo tutti i pannelli appunto per farvi questo escursus dei pannelli per spiegarveli al meglio quindi adesso sono tutti attivi quindi questo è quello che riusciamo a fare da questa tabella possiamo anche poi ingrandire un singolo riquadro per esempio questo è il riquadro per visualizzare il file possiamo ingrandirlo da qua e viene a tutto schermo e possiamo poi andare a ripristinarlo quindi queste sono funzioni abbastanza abbastanza utili che questo che questo riquadro ci dà abbiamo delle estensioni anche che sono appunto dipendono un attimo dai plug-in che noi abbiamo installato in questo caso io ne ho uno e ci permette di avere come una finestra aggiuntiva appunto in base al tipo di di estensione per lo spazio di lavoro che deriva dai nostri plug-in quindi questa è una cosa che avrete in base ai vostri plug-in i plug-in sono delle aggiunte al programma e appunto possiamo trovare altre estensioni su un motore di ricerca che ci fornisce sempre Adobe poi vi è la tabella aiuto questa in realtà riguarda un po' le informazioni del programma quindi ci dice dove trovare esercitazioni ci dice che tipo di di programma di software abbiamo se ci sono aggiornamenti gestire gli account le informazioni sul tipo di licenza che abbiamo le note legali eccetera eccetera insomma tutte cose a cui non faremo tanto riferimento qualora invece volessimo appunto avere informazioni in più questo può essere un ottimo modo per raggiungere il sito per raggiungere le esercitazioni online insomma può essere una funzione utile ok quindi abbiamo visto la parte in alto del programma in realtà abbiamo già visto molto del programma già solo da questa parte qua perché tutto ciò che andremo a vedere sotto è una rappresentazione di queste porzioni qua come abbiamo detto abbiamo aperto tutto in modalità tutti i pannelli come vediamo come abbiamo visto dallo spazio di lavoro noi qua abbiamo dei dei preset di spazi di lavoro su cui lavorare io per esempio adesso se ne sono iniziato tutti i pannelli come vediamo il programma subito in basso ci dà altre opzioni che potrete modificare anche voi e personalizzare io per esempio ne ho alcune personalizzate perché monto su due monitor quando quando eseguo dei montaggi per i clienti o insomma quando eseguo dei montaggi vi è appunto la possibilità di avere questi preset quello di assemblaggio di montaggio di colore effetti eccetera eccetera in base a quali anche voi salviate questo vi permette di avere una una struttura una composizione dello spazio di lavoro più funzionale al tipo di processo che state seguendo insomma quindi è molto molto funzionale avere non avere tutto quanto aperto per esempio quando siamo semplicemente assemblando le clip e quindi selezionando i file c'è molto più utile avere il progetto qua la timeline e poi insomma dove guardare i vari file però adesso per spiegare che cosa servono tutti i vari pannelli e per avere l'idea un po' più chiara di che cosa sono mettiamo la visualizzazione di tutti i pannelli come abbiamo visto qua abbiamo semplicemente delle scorciatoie su dei preset di impostazione dello spazio di lavoro che comunque è un qualcosa di molto importante avere uno spazio di lavoro funzionale ok arrivati a questo punto abbiamo visto la funzione di tutte queste scritte qua e quindi i comandi e le funzioni che ci offrono abbiamo detto che avremmo ripreso la sessione di preferenze quindi andiamo ad esplorarla velocemente come vedete andando su preferenze ci apre questo elenco sulla sinistra a cui corrispondono poi determinate pagine ovunque andremo a cliccare per ogni sezione ci sarà il tab aiuto che vi permetterà di raggiungere il sito di adobe e di appunto acquisire informazioni più dettagliate qualora vi servano per un determinato obiettivo noi andiamo a visualizzare alcuni di questi elementi che fin da subito possono tornarvi utili nella tabella generale possiamo assolutamente modificare le modalità di avvio del programma quindi possiamo decidere di di selezionare delle azioni che il programma farà in automatico una volta aperto per poi appunto andare anche a selezionare alcune azioni che vengono fatte in maniera generale su tutto il programma quindi in corrispondenza del doppio click del control o dell'alt quindi queste sono insomma delle modifiche generali che noi possiamo apportare poi ci sono quelli di aspetto che insomma modificano solo l'aspetto del visivo che ha il programma quindi non ci soffermiamo poi c'è un punto abbastanza importante che è quello della gestione dell'audio quindi come noi andremo a sentire l'audio sul programma che è differente dai dispositivi audio che vedremo più avanti quindi questo ci permette di andare ad agire in maniera più personalizzata su tutti gli elementi dell'audio quindi di disattivare ad esempio un input durante la registrazione su timeline o di eseguire dei rendering audio durante il rendering video questo può essere utile qualora nell'audio voi inseriate parecchi effetti e vi capiti che durante appunto la riproduzione del video in timeline non si riesca a sentire l'audio in tempo reale poi vi è il punto dei dispositivi audio questo è un punto molto importante perché qualora voi come me usaste una scheda video esterna questo è il punto in cui si possono andare a settare tutti i parametri inerenti all'input e all'output quindi questo è fondamentale qualora voi non riusciste a sentire ad esempio il vostro audio riproduzione sulla timeline o ci fossero problemi di questo tipo insomma sapete che può derivare dal tipo di dispositivo audio impostato quindi qua potete gestire questo tipo di cose poi vi è il salvataggio automatico che è molto importante tenerlo sott'occhio e essere sicuri che sia attivato in maniera tale da evitare tutti i problemi di crash che il programma può avere o insomma evitare di non salvare il proprio lavoro dimenticandosene insomma col salvataggio automatico sappiamo che ad esempio il mio ogni 5 minuti ogni 5 minuti vi sarà un salvataggio automatico i salvataggi automatici poi andremo a vedere dove sono localizzati all'interno delle cartelle che il programma crea un automatico comunque l'abbiamo già visto anche precedentemente vi farò vedere esattamente come sono strutturati poi abbiamo una serie di impostazioni per quanto riguarda l'acquisizione la collaborazione tutte cose che al momento non ci tornano utili in quanto principianti le etichette sono un qualcosa di molto utile in realtà qua abbiamo la possibilità di modificarne il colore la quantità la tipologia e anche il modo in cui sono di preset predefinite quindi poi andremo a vedere più nel dettaglio cosa saranno le etichette però ci danno un riferimento visivo a determinati elementi sulla timeline questo può essere molto utile l'oggetto multimediale è un aspetto già più avanzato che riguarda sicuramente l'utilizzo di proxy o insomma di transcodifiche del materiale che andremo ad utilizzare quindi non è un qualcosa che un principiante deve controllare fin da subito memoria ecco questo anche è un aspetto importante perché di preset io adesso sto utilizzando due programmi insieme e so che la RAM che è destinata a Premiere è quella che io ho deciso per lui qualora visse più RAM di preset il programma la dividesse in una certa quantità noi possiamo andare ad aggiungere quindi questo può essere utile qualora il programma ci sembri troppo lento magari può essere che non stiamo utilizzando abbastanza RAM rispetto a quella di cui disponiamo comunque generalmente questa impostazione non viene cambiata però può essere soprattutto quando lavorate con più programmi un qualcosa da tenere sott'occhio ecco questo anche è un aspetto che possiamo controllare qualora volessimo modificare la quantità di fotogrammi con cui andiamo avanti di base sono 5 se vogliamo fare dobbiamo fare dei montaggi in cui si necessita di una precisione particolare possiamo andare qua a settare una quantità diversa insomma comunque di base questi settaggi qua funzionano per il più delle volte probabilmente se montate dell'audio può essere utile andare ad accorciare questa quantità la sincronizzazione delle impostazioni è un qualcosa che abbiamo visto ecco poi c'è la timeline qua possiamo modificare parecchie cose a nostro piacimento in realtà io per iniziare le lascerei in maniera predefinita comunque avremo la possibilità di cambiare la quantità di fotogrammi per le transizioni video ad esempio o per quelle audio la durata predefinita per le immagini quindi qualora si voglia fare un montaggio prettamente formato da immagini possiamo andare a modificare questo valore in maniera tale da modificarne la durata di ogni singolo oggetto multimediale insomma questi sono piccoli accorgimenti che sicuramente possono velocizzarvi il lavoro in determinate situazioni in cui questi parametri possono essere utili impostati in un'altra maniera e poi abbiamo altre impostazioni che possiamo personalizzare ecco io penso che queste siano molto a gusto e dipendano molto dal tipo di progetto che stiamo affrontando non c'è un qualcosa a cui dobbiamo fare particolarmente attenzione ma sicuramente possiamo venire in questo in questa tabella delle preferenze in questo grafico delle preferenze e per quanto riguarda la timeline andarla a personalizzare secondo i nostri gusti il taglio può tornare veramente utile mi capitava spesso all'inizio di provare a tagliare appunto con il mouse sulla timeline determinati punti e notare che il taglierino che è lo strumento che si utilizza per il taglio andasse da un punto all'altro senza fermarsi esattamente nel punto in cui avevo bisogno ecco questo questo fattore qua era determinato da questo valore qua quindi qua sappiamo che lo scostamento di taglio è ogni 5 frame e a livello temporale ogni unità di tempo 100 quindi insomma andando a modificare anche questo questo valore qua si può scegliere di avere di avere appunto dei tagli più precisi benvenuti in questa nuova lezione oggi andremo a vedere le modifiche che il premiere 2022 l'aggiornamento premiere 2022 ha portato alla suddivisione dei pannelli di premiere pro i pannelli sono spiegati tutti in delle lezioni che sono successive a questa e quindi non vi dovete preoccupare se in qualche modo adesso non vi è ancora ben chiaro ogni pannello che cosa faccia ma sono spiegate semplicemente nella versione precedente e i pannelli non hanno subito assolutamente nessun aggiornamento sono identici l'unica differenzazione rispetto alla versione precedente riguarda gli spazi di lavoro e questa nuova suddivisione che abbiamo visto semplificata di importa modifica ed esporta quindi sostanzialmente ciò che cambia è il fatto che noi possiamo passare da importa con una schermata tutta dedicata a modifica ad esporta con un click quindi tutti questi questi percorsi portano delle funzioni specifiche del workflow di un videomaker quindi importare file modificare ed esportare un po' anche la filosofia che ritroviamo su Lightroom e sugli altri software di editing grafico di Adobe benissimo adesso se anche voi avete seguito gli step che ho fatto io per creare un progetto sicuramente vi ritroverete in una situazione differente a quella che ho io perché perché qui entra in gioco lo spazio di lavoro lo spazio di lavoro è esattamente quello che vediamo a schermo ok ed è una composizione di più pannelli i pannelli sono questi qua queste divisioni qua dove abbiamo la timeline dove abbiamo questo monitor qua e hanno tutti dei nomi lo spazio di lavoro è semplicemente una disposizione diversa ok adesso ne sto cliccando diversi dei nostri pannelli ok come si raggiungono gli spazi di lavoro in questa nuova versione di Premiere si raggiungono da questo pulsante qua adesso io mostra schede dello spazio di lavoro lo tolgo questa è la situazione in cui dovreste trovarvi anche voi e come diremo anche in in futuro cerchiamo di usare tutti uno spazio di lavoro univoco in maniera tale ok da ritrovarci con i vari pannelli ovviamente è una funzione molto interessante quella che Premiere ci dà della personalizzazione però in questa fase di apprendimento è importante standardizzarci tra virgolette per essere sicuri tutti di trovare le cose che ci servono quindi passiamo alla modalità alla vista montaggio ok allo spazio di lavoro montaggio e appunto questo è il pulsante che ci dà accesso ai diversi spazi di lavoro e come vediamo abbiamo la possibilità di avere delle visualizzazioni differenti quindi di avere le schede visualizzate ok che sono secondo me una visualizzazione utile però è un qualcosa di personale in cui semplicemente andando sulla scritta a cui si fa riferimento possiamo trovare effettivamente quello spazio di lavoro in maniera molto immediata quindi è un qualcosa che a me personalmente torna utile avere le scritte grosse da cliccare per raggiungere per raggiungere lo spazio di lavoro quindi questa è la grossa differenza effettivamente che c'è nella versione 2022 per quanto riguarda gli spazi di lavoro un'altra novità per quanto riguarda sempre la sezione di modifica di montaggio è il fatto che è stata aggiunta l'esportazione rapida e anche questo tasto di di magnify ok di ingrandimento del monitor programma ok dunque quindi con esportazione rapida abbiamo la possibilità di creare un export molto veloce in una directory un percorso da noi scelto con un preset appunto a nostra discrezione e questo può essere utile per creare delle bozze oppure quando si ha comunque un predefinito già realizzato che è il nostro standard ci evita di passare per il pannello esporta che per chi ha già seguito il corso lo trovate alla fine della sezione di montaggio e appunto vi faccio vedere le differenze per chi invece sta iniziando prosegua pure con il percorso appunto su scoprire tutto ciò che c'è all'interno del montare del creare un video per poi arrivare all'esportazione che è l'ultima cosa ma comunque la più importante se avete dubbi perplessità qualcosa non vi è chiaro o vorreste che qualcosa fosse spiegato più nello specifico vi chiedo di creare un dialogo anche con gli altri studenti nel domande e risposte qua sotto e appena sei pronto passa alla prossima lezione arrivati a questo punto andiamo ad esplorare lo spazio di lavoro che è questa porzione di programma che ci permette appunto di di visualizzare al suo interno tutti i vari pannelli abbiamo svariati spazi di lavoro predefiniti che possiamo selezionare o possiamo anche creare il nostro personalizzato adesso stiamo visualizzando lo spazio di lavoro che ci permette di visualizzare tutti i pannelli infatti se andiamo qua su finestra vedremo che sono tutti selezionati questo appunto in funzione di di spiegarvi al meglio quali sono allora sicuramente quando iniziamo una lavorazione il primo pannello che ci interessa visualizzare anche nel momento in cui partiamo con con il montaggio ovvero proprio di un progetto è appunto il il pannello progetto di solito appunto almeno in questa impostazione di fianco al pannello progetto vi è browser multimediale e librerie le librerie sono le librerie cloud io non le utilizzo ad esempio però possono essere utili qualora abbiate dei progetti salvati in cloud il browser multimediale ci permette di visualizzare tutti i file che sono all'interno del nostro computer e quindi di andarli a selezionare direttamente da qua il pannello progetto invece è il pannello dove tutti i contenuti multimediali i file multimediali che noi importiamo al suo interno vengono racchiusi se andiamo ad ingrandire il pannello progetto possiamo possiamo notare diversi diversi tasti qua in basso a sinistra e qua in basso a destra è un pannello di ricerca ok andiamo a vedere i tasti che ci offre possiamo rendere il progetto adesso in questo caso questo questo lucchetto qua è sbloccato quindi è scrivibile quindi noi possiamo modificare il progetto possiamo anche renderlo non scrivibile quindi nel caso in cui dovessimo per qualche motivo passare questo questo progetto a qualcuno non vorremmo rendere possibile appunto la scrittura questa funzione può essere utile qualora facciate vedere il progetto a qualcuno e abbiate paura per esempio che per errore modifichi qualcosa qua ci sono varie visualizzazioni che per renderle funzionali dobbiamo andare ad importare qualcosa ok quindi andiamo ad importare i file per importare i file possiamo cliccare due volte all'interno di questa tabella qua andare su file importa o come suggerisce anche il programma controlli oppure trascinare semplicemente all'interno di questa di questa tabella qua di questo tab qua i file di cui abbiamo bisogno noi andiamo su importa e ci aprirà insomma gli ultimi file che avevamo aperto in questo caso noi li abbiamo sul desktop abbiamo il nostro PRJ videocorso in cui al nostro interno abbiamo la cartella clip quello che possiamo fare come vedete selezionando fare import cartella oppure possiamo aprire ed importare i file che selezioniamo in questo caso a noi serve importare l'intera cartella quindi facciamo import cartella in questo caso in base alla quantità di file ci sarà un tempo di caricamento in base alla quantità e anche alla tipologia di file questi non sono tantissimi e neanche troppo pesanti quindi sarà abbastanza rapida una volta che avrà caricato i file come possiamo vedere crea appunto questa questo raccoglitore qua che ha appunto il nome della cartella che abbiamo importato quindi aprendo qua vedete che ci apre questo altro raccoglitore nelle impostazioni generali potevamo decidere appunto se ce lo apriva staccato o ce lo apriva che rimaneva attaccato qua insomma è una scelta io preferisco che sia che sia disancorato è così che si chiama vedete qua da questi tre puntini possiamo andare a decidere se disancorarlo chiuderlo eccetera in questo caso richiudiamolo quindi abbiamo importato i file possiamo decidere come visualizzarli possiamo visualizzarli ad icone possiamo abbiamo questa nuova opzione che è la visualizzazione libera che ci permette di creare una composizione grafica in cui appunto ci spostiamo per come c'è più funzionale i file oppure abbiamo quella ad elenco insomma qua dipende anche dalla quantità di file che state gestendo abbiamo qua con questo simbolo la possibilità di ordinare l'elenco ecco questa è una cosa abbastanza utile può capitare spesso appunto che i file il programma decida di ordinarli per ordine dell'utente quindi come sono stati caricati sul programma però non sempre può essere corretta questa questo ordine quindi a volte è utile ordinarli in altro modo quindi per nome per inizio dell'oggetto insomma qua possiamo decidere in cosa ordinarli io molto spesso appunto li ordino per nome dato che lascio come ho anche consigliato a voi invariata la porzione di nome contenente il codice del file quindi qua abbiamo la possibilità di cambiare l'ordine decrescente crescente e possiamo possiamo personalizzarlo come più ci piace qua sulla destra abbiamo la possibilità di cercare e di creare nuovi raccollitori per esempio se volessimo ancora dividere la la tab clip con ragazza casa e galline perché qua ci sono delle galline possiamo avere ancora più ordine nel progetto andando a dividere la ragazza che è a casa rispetto alle clip delle galline così da avere ancora di più il progetto diviso bene sempre all'interno del pannello progetto possiamo andare a creare tutti questi altri elementi adesso rimpicciolisco qua per rendere più semplice oltre ai raccollitori sempre dal pannello progetto possiamo creare dei nuovi elementi questi sono nuovi elementi che il programma ci permette di creare che sono video trasparenti contatore universale e altre altre tipologie sicuramente quello che più ci interessa è la possibilità di creare delle sequenze dei livelli di regolazione dei video neri dei mascherini colorati e dei sottotitoli insomma questi sono quelli che ci troveremo di più ad utilizzare durante il nostro percorso di montaggio come abbiamo visto precedentemente ogni pannello ha la possibilità di essere disancorato e quindi spostato in autonomia o comunque trascinandolo cliccando all'interno del suo nome di essere spostato dove ci fa più comodo questo ecco può essere molto utile per personalizzarsi in maniera funzionale alle proprie esigenze anche qualora si abbiano più monitor tutto lo spazio di lavoro come vediamo ci danno ci dà altre possibilità questo questo comando qua quindi ci dà la possibilità di creare dei gruppi di chiudere dei gruppi i gruppi sono semplicemente gli elementi i pannelli all'interno dello stesso riquadro vedete che ogni volta che cliccate ogni volta che cliccate su un riquadro vi si illumina di blu ai bordi ecco quelli sono gruppi che all'interno hanno ognuno i propri pannelli quindi noi da questi tre da queste tre linette possiamo gestire un po' come vogliamo ogni singolo pannello ok tornando all'importazione dei file abbiamo importato i file e adesso quello che servirebbe fare è creare una sequenza per creare una sequenza ci sono diversi modi in realtà quello che viene più quello che è più logico fare è sicuramente andare da qua da questo 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 tasto che ci permette di creare un nuovo elemento fare sequenza e creare quindi una nuova sequenza quindi questo è un modo per creare una sequenza un altro modo per creare una sequenza in maniera automatizzata e importando la clip direttamente in timeline questo ci creerà una sequenza direttamente con le peculiarità le proporzioni in pixel e il frame rate della clip facciamo ctrl z e annulliamo e creiamo invece una sequenza in maniera ordinaria quindi creando una nuova sequenza come vediamo abbiamo tantissime impostazioni anche qua abbiamo un sacco di predefiniti disponibili quindi semplicemente delle tipologie di sequenze preimpostate che il programma ci consiglia come vediamo sulla destra ad ogni tipologia corrisponde una descrizione in quantità di tracce audio di tracce video e in proporzione in pixel eccetera eccetera quindi questa è un'opzione andiamo per esempio a selezionare ARRI 1080 se andiamo su impostazioni che è il tasto a destra delle predefinite possiamo andare ad impostare più nel dettaglio tutte le varie impostazioni quindi sempre qua abbiamo la modalità di montaggio che sarebbero semplicemente i predefiniti la base temporale e le dimensioni in fotogramma mettiamo caso di voler fare una timeline una sequenza in 4k andremo a cambiare in 3840 per 2160 e avremo una sequenza in 4k proviamo a creare una sequenza come se avessimo girato in 4k lo standard con cui lavoriamo è 25 quindi lasciamo 25 io quello che vi consiglio comunque di creare una modalità di montaggio personale in maniera tale da avere poi la possibilità nella base temporale di selezionare il tipo di frame rate che più ci interessa mi raccomando se girate con gli standard italiani normali girate cioè la sequenza deve essere in pixel quadrati anche qua il codice di tempo è qualcosa che abbiamo visto anche prima lasciamo codice di tempo a 25 fps quindi un secondo sarà formato da 25 fps per quanto riguarda l'audio possiamo scegliere la frequenza di campionamento di standard ci dà 48000 hertz possiamo decidere di usare il 44100 e anche qua scegliere il tipo di formato di visualizzazione l'anteprima video è una cosa differente nel senso noi infatti come vedete qua è in 1920x1080 ma la nostra timeline video è in 3840x2160 quindi qua è un ultra HD e qua è un full HD questo semplicemente perché a noi non serve avere l'anteprima in 4K ci serve solo che sia corrispondente per quanto riguarda le proporzioni qua possiamo andare a decidere la quantità di tracce video e tracce audio che vengono create automaticamente nella timeline con la creazione della timeline ma in realtà possiamo andare poi a modificare questo elemento anche dopo e poi qua ci sono delle impostazioni per il video in VR che non è qualcosa che in questo momento ci interessa sapere abbiamo la possibilità di rinominare la sequenza quindi la chiamiamo tipo corso e andando a fare un ricerche delle impostazioni premiamo ok e ci creerà la nostra sequenza qua abbiamo la possibilità di salvarla come predefinito qualora sia un'impostazione che useremo spesso quindi premiamo ok e ci avrà creato la nostra sequenza la sequenza viene automaticamente salvata all'interno dell'ultimo raccoglitore aperto quindi possiamo poi spostarla fuori dal raccoglitore cioè spostarla poi in una posizione ottimale a quelle che sono le nostre esigenze di ordine ok se adesso noi proviamo a importare una clip all'interno della sequenza per chiudere l'argomento sequenze vedremo che nel caso in cui non corrispondano le dimensioni ci darà questo avvertimento qua la clip non corrisponde all'impostazione della sequenza questo perché perché le clip sono girate in 1920 mentre la sequenza che abbiamo creato è in Ultra HD quello che possiamo fare in questo caso è modificare le impostazioni della sequenza adattando la sequenza alle impostazioni al formato delle clip oppure possiamo fare mantieni le impostazioni esistenti che ovviamente manterrà le impostazioni della sequenza se noi manteniamo le impostazioni esistenti vedremo appunto che il formato della sequenza è errato rispetto a quello delle nostre clip quindi tornando indietro invece possiamo importare di nuovo la clip e fare modifica le impostazioni della sequenza come vediamo in questo caso invece la sequenza la clip è della larghezza adatta rispetto alla sequenza se andiamo a vedere su sequenza impostazioni sequenza possiamo vedere che sono cambiati i parametri anche la base temporale in quanto le clip sono giurate a 50 e non a 25 fps il consiglio è quello di cercare sempre di avere una una logica tra quello che è la base temporale del girato e quella della sequenza nel caso comunque fossero il progetto debba essere 25 fps e ci siano delle clip e nel caso ci siano delle clip che sono girate a più fotogrammi al secondo appunto in funzione del realizzare dello slow motion allora ha senso tenere la sequenza a 25 in questo caso noi preferiamo avere la sequenza 25 ci avvertirà che non corrisponderanno ma noi premiamo ok ok quindi adesso noi abbiamo importato la prima clip all'interno della sequenza importando la clip all'interno della sequenza avremmo creato una timeline questa è la timeline ed è si chiama timeline appunto perché è una linea a base temporale parte da zero e arriva a un'impostazione che di solito come standard è 10 minuti insomma dipende anche dal tipo di sequenza che è creata appunto mettiamo adesso di voler creare un montaggio e quindi iniziare ad importare le clip nella timeline abbiamo diversi modi per farlo come abbiamo visto importando nella timeline la prima clip questo pannello si è subito riempito dell'immagine che abbiamo importato quindi abbiamo subito capito che questo è il pannello che fa riferimento alla timeline come vediamo anche qua possiamo spostarci all'interno della timeline direttamente da questo pannello come vedete anche sotto cambierà questo questo punto di riferimento cambierà ok in questo pannello possiamo agire in diversi modi possiamo per esempio decidere di vederlo in maniera adattata quindi a schermo intero rispetto alla posizione che occupa nel nostro spazio di lavoro o di zoomare l'immagine o addirittura di rimpicciorirla per averla più piccola qua abbiamo la possibilità di selezionare la qualità di riproduzione appunto quindi possiamo andare su massima e se abbiamo un computer abbastanza performante riusciremo a vedere in tempo reale lo stream della clip oppure possiamo possiamo decidere di abbassarne la qualità di riproduzione in quanto per farne un montaggio di questo tipo non ci serve che la clip sia per forza qualità massima ma che il computer performe al meglio come vediamo qua abbiamo indicati i secondi in questo caso è la base temporale che abbiamo scelto quella 25 fps i secondi a cui corrisponde il punto la testina della nostra timeline come vediamo in questo pannello che è il pannello programma abbiamo diverse altre opzioni che sono la possibilità di aggiungere un marcatore la possibilità di aggiungere un attacco o uno stacco che vediamo subito che cosa sono sono delle porzioni che noi selezioniamo della nostra timeline questo sarà utile soprattutto in fase di export che possiamo gestire anche da qua e abbiamo la possibilità di riprodurre stoppare e spostarci all'interno del nostro monitor e qui abbiamo tutta un'altra serie di comandi che possono essere più o meno utili e possiamo modificarli tramite questa chiave inglese qua grazie a questa chiave inglese qua possiamo agire su tutte le impostazioni che fanno parte del programma quindi possiamo per esempio mostrare dei righelli utili per la realizzazione di grafiche o di materiale scritto possiamo insomma agire veramente su tutto ciò che riguarda la visualizzazione della nostra timeline quindi qua abbiamo la possibilità di attivare determinati elementi compreso quello che è il pannello del programma andiamo a provare ad importare una clip e vediamo diversi metodi per importare una clip all'interno della timeline se noi selezioniamo una clip vediamo che ci si aprirà questo altro pannello che è il pannello sorgente il pannello sorgente non è altro che un pannello un altro monitor in cui noi andiamo a vedere la clip selezionata quindi come vediamo adesso le clip sono molto simili però come vediamo questa è quella della timeline quindi qua vediamo la timeline e qua vediamo eventualmente andiamo a cambiare clip così è più semplice capire il distacco qua andiamo a vedere eventualmente il tipo di immagine che andremo a inserire in quel determinato punto della timeline anche qui abbiamo diverse opzioni abbiamo la possibilità di avere tutti questi comandi di riprodurlo a una di riprodurlo a una qualità diversa qua per esempio appunto anche in funzione della qualità di riproduzione abbiamo questo puntino verde che ci va ad indicare se stiamo guardando la riproduzione in tempo reale o se qualche fotogramma viene saltato quindi magari in quel caso sarebbe utile abbassarne la qualità abbiamo sempre la nostra chiave inglese che ci permette di inserire o togliere degli elementi che possono aiutarci per esempio come le griglie o i margini di sicurezza e abbiamo sempre la nostra timeline che però vediamo in questo caso è staccata da quella del progetto quindi quando noi ci muoviamo all'interno di quest'ultima quella della della timeline rimane invariata come vediamo abbiamo anche la possibilità di stringere per fare delle selezioni più precise o di allargare opzione che abbiamo ovviamente anche in timeline ecco quindi abbiamo visto che sono due elementi separati come facciamo adesso a far sì che questo elemento che noi stiamo visualizzando che abbiamo selezionato facciamo caso di voler inserire questo punto qua come facciamo ad inserirlo ecco qua i metodi sono veramente infiniti non ve li sto a spiegare tutti vi spiego semplicemente quello che utilizziamo noi e che secondo me è anche il più comodo per selezionare un punto potete premere i sulla tastiera o marcatore di attacco questo simbolo che c'è qua e selezionerete il punto di attacco mettiamo di volere che la clip parta da qua da dove abbiamo selezionato e che finisca qua in questo caso possiamo selezionare il punto di stacco marcatore di stacco come è selezionato qua oppure o nella tastiera come shortcut se noi non vediamo uno di questi elementi possiamo andarli ad inserire da qua da questo più questo più ci dà tutti i vari comandi che possiamo inserire teoricamente come predefinito ci dovrebbe essere e anche in quella posizione comunque nel caso non dovessimo trovarlo possiamo usare i oppure o cioè i per attacco e o per stacco oppure andarlo a selezionare qua quindi adesso abbiamo due opzioni dobbiamo capire se di questa clip noi vogliamo importare solo l'audio solo il video o tutta la clip nel caso in cui volessimo importare tutta la clip il metodo più veloce per me è trascinare direttamente la clip questo ci permette di selezionare effettivamente dove la vogliamo trascinare se infatti vedete sulla timeline noi stiamo decidendo dove trascinarla e abbiamo importato sia un file video che un file audio adesso facciamo ctrl z mettiamo invece di voler importare solo il video perché si tratta di un video musicale o comunque abbiamo un'altra sorgente audio in questo caso noi abbiamo questi due simboli che ci permettono rispettivamente di importare solo il video o solo la traccia audio quindi mettiamo di voler importare solo la traccia audio clicchiamo qua e facciamo esattamente lo stesso lavoro in questo modo abbiamo la possibilità di importare la clip ok diciamo che questo è il metodo che utilizzo più spesso ve ne sono altri che sono appunto anche degli shortcut uno di questi è per esempio il punto premendo punto come abbiamo visto lui ci ha importato la clip tra questi due clip appunto perché eravamo con il nostro cursore sopra l'altra clip e ci ha eliminato una parte di clip ecco questo può essere un modo rapido per importare la clip quando siamo con il cursore nel punto esatto in cui vogliamo creare questo tipo di montaggio ecco e già in questo momento noi abbiamo creato un montaggio un altro modo per farlo quindi facciamo ctrl z per annullare può essere virgola virgola fa una cosa diversa virgola quando quando la premete importa sempre nel punto in cui avete avete inserito il cursore ma senza sovrascrivere quindi vi taglierà prima e dopo la clip che c'era precedentemente nella timeline e inserirà in mezzo la clip che avete selezionato anche questo può essere un metodo più o meno utile ecco io in velocità di montaggio mi trovo molto meglio a trascinare però insomma queste sono le opzioni che si hanno ci sono altre opzioni anche per quanto riguarda il semplice importare una clip come vedete qua sulla sinistra dove sono con il mouse avete queste questi questi nomi che potete selezionare che sono v1 v2 v3 e avete anche questo elemento che potete spostare ecco proviamo a disattivare quell'elemento là se noi adesso dovessimo provare ad inserire un video come vediamo ci fa inserire solo audio perché questo è il comando che ci permette di inserire dei video all'interno della timeline stessa cosa lo fa per l'audio questa è una cosa che può essere veramente e sembrare veramente super basilare ma nel caso in cui per caso accidentalmente uno magari bloccando delle 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 linee di timeline dovesse dovesse premere poi è difficile capire il motivo per cui non si riescono ad importare i file quindi questo è il comando che ci ci fa importare i file quindi noi in questo caso avevamo selezionato il v1 ma se noi volessimo invece importare questa clip su un altro livello e quindi non sovrascrivendo o spostando ma semplicemente inserendola sopra ecco per farlo basterà modificare questo questo parametro questo questo v1 ecco se noi adesso premiamo il nostro punto o la nostra virgola come vediamo ci ce lo importerà su un altro livello ovviamente se ragioniamo sempre con l'audio dobbiamo anche poi spostare eventualmente il tab dell'audio per evitare di sovrascriverlo quindi ok queste sono le impostazioni che abbiamo e le possibilità che abbiamo per importare un file ok andiamo adesso per esempio ad analizzare quali sono le differenze dei diversi spazi di lavoro quindi per la stessa operazione andiamo a vedere quali sono le differenze se noi per esempio selezioniamo il piano lo spazio di lavoro assemblaggio andremo a vedere che l'impostazione grafica sarà tutta in funzione dell'assemblaggio ovvero dell'inserimento in timeline dei dei vari spezzoni di video utili a formare il nostro video quindi come vediamo abbiamo una tab delle sorgenti molto più grande che ci permetterà e ci faciliterà la selezione delle clip in funzione appunto dell'assemblaggio dell'inserimento delle clip nella timeline quindi andiamo per esempio a selezionare una clip utilizziamo il nostro metodo che conosciamo già per importarla e come vediamo abbiamo sorgente e programma nello stesso gruppo questo per compattare un po' lo spazio occupato dalle varie tabelle e darci più spazio per operare in maniera funzionale sul montaggio quindi vediamo che in realtà questa funzione se noi lavoriamo in maniera ovviamente scandita quindi divisa quindi prima ci occupiamo dell'assemblaggio poi del montaggio eccetera eccetera sicuramente questa funzione ci ritorna molto utile adesso andiamo ad utilizzare un tipo di di pannello abbastanza comune che è quello di montaggio che ci dà diverse opzioni quindi andiamo un attimo a esplorare quelle che sono le opzioni appunto che abbiamo all'interno della timeline come abbiamo già visto vi sono questi questi pulsanti che ci permettono di selezionare dove andare a importare il file sorgente come vediamo però vi sono un sacco di altri pulsanti di altre attivazioni che possiamo azionare e anche qua sopra ve ne sono altre qui partendo dall'alto abbiamo la posizione della tessina di riproduzione quindi sappiamo che è posizionata a 9 secondi e 13 possiamo per esempio se abbiamo da trovare un punto ben preciso selezionare ad esempio 05 secondi e 10 e automaticamente la testina si sposterà nella porzione di tempo che noi abbiamo impostato quindi questo ci permette di individuare molto velocemente dei punti del nostro montaggio qualora soprattutto si abbiano timeline molto molto grosse e si debba trovare una porzione di video da modificare individuata magari dai clienti o chi che sia ok questo è un comando per esempio che ci permette di inserire e sovrascrivere le sequenze quindi altre sequenze per esempio se noi duplicassimo questa sequenza qui lo faccio molto rapidamente ma semplicemente per farvi vedere e la chiamiamo altra con questo comando abbiamo disinserito abbiamo la possibilità di inserirla come singole clip se invece lo selezioniamo ce le importerà come una sequenza nidificata quindi è semplicemente ci permette semplicemente di fare questa cosa qua può tornarci utile riconoscerlo qualora si lavorino le singole scene in sequenze differenti questo può tornare utile perché appunto nel caso poi si decida di fare tutto in una sequenza di assemblamento finale insomma non potremmo non capire perché l'importazione è fatta in un modo rispetto ad un altro beh il motivo è questo pulsante qua andiamo a cancellare l'altra sequenza e continuiamo ad esplorare i pulsanti che ci propone la timeline abbiamo l'aggancio magnetico questo magnete qua che va semplicemente a simboleggiare appunto l'aggancio magnetico se noi lo abbiamo attivo come vedete le clip e gli elementi che noi andiamo a spostare all'interno della timeline tenderanno ad appiccicarsi l'uno con l'altro come se ci fosse un magnete quindi tutto qui se noi lo disinseriamo invece vediamo che possiamo spostarlo in maniera magari più precisa e senza che si agganci in automatico alle altre clip insomma secondo me il magnete è un qualcosa di molto funzionale perché ci permette di evitare quei fastidiosi salti di frame tra una clip e l'altra magari dovuti al fatto di non essersi appiccicati bene insomma è uno strumento da conoscere e da sfruttare o non sfruttare in determinate situazioni poi abbiamo la possibilità di avere la selezione collegata la selezione collegata ci permette semplicemente di avere audio e video qualora siano collegati appunto come un'unica clip scollegati quindi di spostare l'audio in maniera indipendente dal video nonostante facciano parte dello stesso gruppo quindi questa è una funzione che ci dà questo strumento qua come vedete adesso spostando solo spostando il video si sposterà anche l'audio mentre invece quando è selezionata sposteremo un elemento alla volta insomma questo tipo di comando ci può essere utile soprattutto nelle fasi di montaggio e di transizione tra una clip e l'altra con l'audio ma comunque imparerete poi a sfruttare al meglio ogni singolo ogni singolo strumento con questo abbiamo la possibilità di aggiungere un marcatore che come abbiamo citato prima sono quegli elementi che ci permettono di di marcare un determinato punto o una determinata clip e poi abbiamo la possibilità di personalizzare tutti quanti questi elementi quindi di selezionare gli elementi mostrati all'interno della timeline e di personalizzarla ok andando giù abbiamo di nuovo tutti questi pulsanti qua che abbiamo già visualizzato questo lucchetto come per quanto riguarda il lucchetto del progetto ci permette di bloccare determinate i livelli ecco questo può essere utile qualora si abbia un livello che non deve essere attaccato non deve essere influenzato dal montaggio del resto delle clip quindi può essere utile qualora per esempio ci sia un livello di regolazione che vale per tutto il montaggio che non vogliamo abbia influenze dal resto del montaggio quindi può essere utile bloccarlo ok tutto quello che vale per il video appunto vale anche per l'audio e poi abbiamo la possibilità di spegnere nel video quindi di non vedere più una clip quindi se per esempio c'è una clip una sopra l'altra abbiamo la possibilità di spegnerla e vedere quella sotto quindi questo può essere utile per non vedere appunto determinati livelli soprattutto in fasi di montaggio in cui gli elementi all'interno della timeline e la quantità di livelli sono molteplici e abbiamo la necessità di isolarne alcuni poi abbiamo la possibilità nell'audio invece di mutare di registrare o di isolare una singola traccia anche questo è molto utile sempre in funzione del mixaggio poi di una timeline più grande in cui abbiamo bisogno di isolare un determinato suono andando col tasto destro possiamo personalizzare tutti questi elementi quindi ad aggiungere svariati strumenti che riguardano concetti più complessi come quello del keyframe che scopriremo più avanti quindi questo è ciò che concerne la timeline vera e propria per operare all'interno della timeline abbiamo bisogno dei nostri strumenti che sono visualizzati in questa in questa porzione qua in questo pannello qua nel caso in cui come vi ho già spiegato qualche pannello non fosse visibile basterà andare su finestra e azionarlo ecco gli strumenti che che il programma ci propone sono questi abbiamo lo strumento di selezione che è quello che utilizzeremo di più all'interno della timeline se noi passiamo col cursore davanti c'è sopra ogni strumento come vediamo ognuno di loro ha anche una lettera tra parentesi che corrisponde semplicemente allo shortcut di attivazione questo appunto per navigare sulla tastiera in maniera rapida nella selezione dei vari strumenti andiamo a visualizzarli uno per uno lo strumento selezione abbiamo già imparato inconsciamente ad utilizzarlo ed è quello che ci permette di selezionare ok quindi anche andando a selezionare più elementi cliccando poi trascinando andando a selezionare gli elementi e di spostarli all'interno della timeline uno strumento andiamo non in ordine di di posizione ma in ordine di utilità e di quantità di utilizzo un altro strumento molto utile che inizierete ad usare fin da subito è quello della lametta lo strumento lametta che ci permette di eseguire dei tagli all'interno della nostra timeline quindi questo è lo strumento che ci permette di tagliuzzare le nostre clip utilizzando il magnete che ci aggancia in timeline possiamo appunto agganciarci a determinati punti se noi lo disattiviamo ci permette di fare dei tagli molto più più precisi mentre invece quando è attivo vedete che si attacca ad un punto ad un altro per esempio se noi inseriamo dei marcatori già attivo solo l'audio se noi inseriamo dei marcatori lui con la lametta si andrà ad agganciare in automatico a quei marcatori qua a quei marcatori là ecco che quindi torna utile lo strumento di magnete un altro strumento che potremmo utilizzare è lo strumento della mano che ci permette di navigare all'interno della timeline è uno strumento molto semplice vi sono altri strumenti utili al montaggio che sono la selezione in avanti ad esempio che ci permette di selezionare tutte le clip da il punto in cui quelle freccettine si trovano quindi ci permette di selezionare tutte le clip e questo questo strumento ha come dire diverse diverse combinazioni se noi per esempio premiamo shift sulla tastiera ci permette di selezionare una sola linea di livelli adesso questi livelli vengono selezionati anche nella parte audio semplicemente perché sono collegati ecco andiamo per esempio ad avere due livelli e ad usare lo strumento usandolo con un click normale ci selezionerà tutto mentre invece utilizzandoli con shift ci selezionerà semplicemente uno dei due dei due livelli se andiamo vedete che questi strumenti hanno delle piccole freccettine qua se noi andiamo a tenere premuto ci consiglia anche delle funzioni di utilizzo o possiamo comunque andarle a selezionare da qua che è la selezione inversa semplicemente questo è il comando inverso quindi la stessa funzione ma invece che partire da sinistra verso destra parte da destra verso sinistra ok un altro strumento leggermente più complesso nell'utilizzo e per quanto mi riguarda non di utilizzo così comune è lo strumento di montaggio con scarto lo strumento di montaggio con scarto come vedete ci permette di trascinare una clip e di far sì che tutto il montaggio che viene prima o dopo quella clip si mantenga la stessa distanza se noi utilizziamo lo strumento V quindi la selezione e andiamo a spostare questa clip vediamo che il resto del montaggio rimarrà invariato e si creerà un salto quindi del nero tra una clip e l'altra se noi invece riportando la situazione alla normalità andiamo ad utilizzare lo strumento montaggio con scarto andremo a vedere che trascinando la clip il resto delle clip rimarrà attaccato e quindi andremo semplicemente a tagliare quella porzione di di clip senza creare un buco ma facendo adattare il montaggio al tutto il montaggio a quella selezione se appunto come nell'altro strumento precedente andiamo a tenere premuto avremo altre opzioni di questo stesso strumento ovvero strumento montaggio senza scarto questo strumento ci permetterà nel caso in cui ci trovassimo davanti a una situazione del genere ovvero con due clip una di fianco all'altra di allungare una e accorciare l'altra quello che succederebbe con lo strumento normale è che provando a trascinarne una si creerebbe un buco e l'altra rimarrebbe della stessa lunghezza invece con questo strumento qua se noi andiamo ad allungare una clip l'altra di conseguenza si accorcerà e così via e viceversa quindi questa è la potenzialità che ci dà questo strumento poi vi è lo strumento dilata frequenza questo strumento andrà a modificare la velocità della clip quindi questo strumento se noi comunque questa clip è girata a 50 fps quindi una timeline a 25 sarà comunque visualizzata in slow motion accorciandola al 50% come vediamo avremo uno slow motion quindi questo è uno dei metodi per avere lo slow motion o per velocizzare le clip gli ultimi due strumenti che sono strumenti più o meno recenti sono quelli di testo e strumento penna lo strumento di testo ci permette di andando a cliccare semplicemente con lo strumento sul pannello del programma di creare un testo in automatico lui nella timeline ci inserirà una figura una figura che sta a rappresentare il livello di testo quindi se noi andiamo a scrivere qua videocorso come vediamo abbiamo l'elemento di testo che poi si tramuta in questo in questo elemento qui nella timeline lo strumento penna ci permette due cose differenti una è quella di creare direttamente delle forme grafiche e quindi questa è un'aggiunta recente da quando è stato inserito il pannello grafico nel programma e quindi è la stessa funzione dello strumento di testo semplicemente con delle figure e poi ci dà la possibilità se andiamo su una clip per esempio nell'audio vedete che c'è questa linea continua ci dà la possibilità di agire su sui livelli creando dei punti appunto dei keyframe ma questo è un concetto che andremo comunque ad esplorare più avanti ecco questo è il potenziale che ci dà questo strumento un altro strumento che il programma ci offre è quello dello strumento di scivolamento questo strumento non fa altro che nel caso in cui ci trovassimo in questa situazione in cui abbiamo una clip che è tra due clip ma ci rendiamo conto che la porzione di quella clip non è quella che vogliamo o per esempio in un video musicale è fuori sync con questo strumento possiamo andare a anticipare o posticipare l'in e l'out della scena quindi come vedrete il monitor programma muterà per farci vedere l'in e l'out correnti quindi noi andando a trascinare vediamo che cambiano l'in e l'out la clip per esempio nativa per come l'abbiamo importata era così utilizzando lo strumento di scivolamento andiamo quando l'attrice farà la pirouette quindi che inizia con la pirouette e finisce la fine della pirouette spostandosi più avanti e avremo poi nella timeline inserito quel punto quindi questo è lo strumento di scivolamento lo strumento di slittamento invece ci permette di fare il concetto opposto ovvero abbiamo sempre questa situazione in cui c'è una clip tra altre due clip e ci permette di spostarla a livello temporale quindi non ci permette di spostare la singola clip ma di far scivolare il punto di montaggio della clip in un altro punto quindi se per esempio il montaggio a noi piace così ok quindi la quantità la selezione la quantità di clip per ogni taglio è quella che desideriamo ma la posizione è diversa quello che potremmo fare è appunto spostarla in questo modo quindi questo è quello che ci permette uno ci permette di slittare quindi questa ci permette di slittare l'altra ci permette di scivolare all'interno della stessa clip negli strumenti di penna che abbiamo già visto cliccando appunto c'è anche la possibilità di avere delle altre tipologie quindi nella creazione degli elementi grafici abbiamo la possibilità di creare un rettangolo o un'elisse quindi queste sono le possibilità che ci dà lo strumento per quanto riguarda lo strumento della mano se noi andiamo a tenere premuto ci uscirà lo strumento di zoom che non è altro che una lente di ingrandimento che cliccandoci ingrandisce ed è la stessa funzione che ha questa barra qui sotto ok un altro elemento sempre dello strumento di testo è la possibilità di creare un testo verticale quindi ci dà la possibilità di scrivere in verticale ok e questi erano gli strumenti con cui noi all'interno della nostra timeline possiamo lavorare allora adesso dovremmo avere abbastanza confidenza con quella che è la timeline e i suoi strumenti premendo il tasso destro un po' in tutte le posizioni nel nostro spazio di lavoro ci si apriranno una serie di comandi e di possibilità ecco questo succede anche all'interno della timeline premendo il tasso destro sopra una clip ci appaiono tutta questa serie di comandi ecco questi comandi molti dei quali sono riportati anche su su modifica quindi noi abbiamo la possibilità di eseguire alcuni comandi da modifica o anche semplicemente con il tasso destro sulla clip ecco andiamo a vedere una serie di comandi che che il semplice click del tasso destro ci permette con le clip quindi il primo che ci dà è il taglia se noi lo premiamo vediamo che la clip sparisce all'interno della timeline ecco questo è semplicemente lo strumento che taglia e premendo ctrl v andremo ad incollarlo in un'altra porzione quindi andando a vedere sempre sul tasso destro della clip abbiamo una serie di comandi relativi a questa opzione qua per tagliare possiamo anche prendere semplicemente ctrl z ctrl x o ctrl o command x se siete su mac e ctrl v per poi incollare stessa roba per copiare per copiare basterà premere ctrl c e poi ctrl v ecco questi sono dei comandi molto semplici che possono possono ritornare davvero utili molti dei quali appunto li scopriamo all'interno di questo elenco che ci si apre premendo con il tasso destro all'interno della clip abbiamo la possibilità di copiare e di incollare poi in un'altra clip gli attributi ecco con gli attributi ci si apre un altro elemento gli attributi sono quelle peculiarità che ha una clip rispetto a un'altra o più semplicemente se andando o più semplicemente andando nel tab del controllo effetti sono tutti questi elementi che ha la clip che possono essere la posizione la scala la rotazione eccetera eccetera insomma sono svariati se noi ad esempio andiamo su scala a modificare la scala di questa clip per esempio a 300 per renderlo molto evidente questa clip sarà tanto zoomata se noi andiamo a copiare e poi ad incollare gli attributi avremo la possibilità di copiare semplicemente delle delle porzioni di effetti di montaggio eseguite nelle altre clip quindi questo è un comando molto rapido per esempio quando dobbiamo ricroppare più clip per farle per farle funzionare rispetto alla timeline che stiamo utilizzando o alla sequenza che stiamo utilizzando quindi una volta incollati gli attributi premuto incolla attributi avremo la possibilità di selezionare gli attributi che vogliamo utilizzare questa fase può essere anche molto utile per copiare gli effetti audio che poi andiamo applicare per masterizzare il nostro audio quindi insomma questo è un comando molto semplice e molto efficace quindi se noi andremo a premere ok selezionando il movimento vedremo come appunto la clip ci risulterà croppata nel caso in cui volessimo fare la cosa opposta quindi annullare questi questi attributi qua adesso seleziono entrambe le clip premiamo tasto destro e facciamo rimuovi attributi sempre qua potremo selezionare la tipologia e la quantità di attributi da rimuovere per poi rimuoverli quindi questi sono due comandi opposti molto molto utili quando si lavora con degli effetti o comunque semplicemente con il riposizionamento dell'immagine all'interno del riquadro sempre premendo il tasto destro avremo la possibilità di cancellare la clip di modificare l'audio in Adobe Audition o sempre con il Dynamic Link sostituirle con una composizione di After Effects un'altra opzione che abbiamo è qualora noi applicassimo diversi effetti e quindi questa linea che abbiamo all'interno della timeline non fosse più gialla o verde ma diventasse rossa appunto per via degli effetti applicati avremo la possibilità di eseguire un rendering e poi sostituirla in maniera tale di avere una clip salvata esportata tra virgolette che non avrà che non richiederà tempo di calcolo per il nostro computer e quindi poter continuare a montare nonostante una clip molto lavorata avremo la possibilità di abilitare o disabilitare una clip questa è una funzione utile per magari durante la visualizzazione eliminare determinati elementi solo in maniera momentanea quindi andando ad abilitarla tornerà a vedersi ecco un'altra cosa un altro comando subito dopo quello dell'abilitazione che c'è è quello dello scollegare con scollegare si indica il collegamento che vi è tra audio e video vedete che anche la clip in questo caso presenta una V di fianco al nome e se proviamo appunto ricordandoci di questo strumento attivo andando a spostare le clip le clip saranno collegate premendo il tasto premendo il tasto destro cliccando su scollega non saranno più due clip collegate e quindi gli spostamenti che andremo a fare a livello di audio e video saranno autonomi ecco il collegamento può esserci anche tra più clip solo video quindi noi possiamo collegare anche delle clip video vedrete qua c'è V1 con V2 e quindi sarebbero collegate e tutte le modifiche che andiamo a fare su una influenzeranno anche l'altra a livello di spostamenti ed accorciamenti uno shortcut per questo comando è ctrl L o comand L semplicemente farà questo un po' come la creazione di gruppi di piccoli gruppi che rispondono tutti allo stesso comando quindi questa è una funzione molto utile soprattutto nel montaggio audio quando ci ritroviamo audio e video collegati ma abbiamo bisogno di di allungare per creare delle dissolvenze delle transizioni un po' più morbide l'audio o il video in maniera indipendente l'uno dall'altro andiamo a vedere gli altri strumenti ok quindi con il tasto collega che diventa scollega in questo caso selezionando più clip avremo la possibilità di scollegarle dal loro audio se invece premiamo raggruppa avremo la possibilità selezionando più clip di farle rispondere tutte allo stesso comando pur sempre comunque potendo modificarle individualmente vedete e spostandole poi si sposteranno come un gruppo quello che poi apparirà possibile è separarle e quindi le potremmo separare sempre con col comando che appare vedete che quando uno è attivo l'altro è disattivo e viceversa un un altro comando utilissimo a parer mio soprattutto per quanto riguarda il montaggio per esempio di video musicali è il comando sincronizza questo permette di sincronizzare in automatico le clip audio l'una con l'altra quindi in realtà funziona solo con le clip audio però giustamente se le clip come abbiamo visto prima sono collegate a audio e video sincronizzeremo anche di conseguenza il video quindi nel caso in cui noi avessimo come canale traccia 1 la canzone del nostro artista del nostro video musicale e poi i playback eseguiti sicuramente sarà immediato sincronizzarli in questo modo un altro strumento che ci permette il semplice clic del tasto destro sulla clip è quello della nidificazione ecco mettiamo di aver creato un montaggio di questo tipo togliamo l'audio per semplificare mettiamo di aver creato un montaggio molto molto veloce molto blando di questo tipo abbiamo creato questo montaggio ci sono diversi tagli ecco noi nidificando andremo a creare una clip unica contenente dentro tutti questi tagli questo può risultare veramente utile nell'applicazione di effetti comuni alle clip se andiamo a cliccare con doppio clic avremo al suo interno ancora le clip divise e potremo modificarle in maniera indipendente questo modificherà poi ovviamente anche la sequenza nidificata ecco questa funzione è molto utile appunto per applicare effetti simili su più clip per esempio ci sono degli effetti come lo slow motion che non riescono a comunicare con altre tipologie di effetti tipo la stabilizzazione ecco un modo per poter applicare più effetti che insieme insomma il programma non riesce a gestire è la nidificazione ok tornando al tasto destro vediamo che abbiamo altre opzioni un'altra è quella di creare una sequenza secondaria una sequenza secondaria non è altro che una sequenza contenente le clip che noi abbiamo selezionato quindi in questo caso è poco funzionale ed è anche poco intuibile ma se noi abbiamo una porzione di montaggio facciamo finta che questo sia il nostro video montato finito e noi volessimo solo di una porzione di questo video creare un'altra sequenza su cui fare diverse modifiche come per esempio in un video musicale creare una storia instagram premendo col tasso destro qua avremo la possibilità di creare una sequenza secondaria con all'interno semplicemente la porzione di montaggio che abbiamo selezionato quindi anche questo è un comando molto semplice che può rivelarsi utile in determinate situazioni quindi vediamo come in realtà semplicemente sfruttando gli elementi che abbiamo all'interno della timeline con il semplice click di un tasto destro sulla clip ci si apre veramente un mondo di opportunità ecco che ci compaiono le etichette il concetto di multi videocamera è un concetto più avanzato che non affronteremo in questo videocorso ecco che ci compare l'etichetta l'etichetta non è altro che il tipo di colore che la clip ha ecco noi prima abbiamo diviso tornando sul pannello progetto e selezionando le clip abbiamo diviso in altre due sottocartelle galline e ragazza ecco se noi andiamo dalle clip delle galline e le selezioniamo tutte e con il tasso destro andiamo a modificarne l'etichetta con un altro colore ad esempio rosa per le galline e per la ragazza a casa andiamo ad inserire un verde acqua vedremo che nel momento in cui importeremo una clip della ragazza il colore all'interno della timeline sarà diverso stessa cosa per le galline questo è molto utile per andare ad individuare a livello proprio colometrico a livello di colorazione le differenze per esempio di un determinato montaggio quindi la differenza di clip di un determinato montaggio questo è molto utile appunto per separare e per ricordarsi in timeline che delle clip appartengono a un elemento a una cartella o un'altra è molto utile appunto per la divisione dei file e per mantenere un certo ordine all'interno della timeline e del progetto quindi quello che possiamo fare è avere anche un nostro sistema un nostro metodo per per rinominare a livello di colore le clip e per esempio sappiamo che tutte quelle che dobbiamo ancora revisionare dobbiamo mettere a slow motion le mettiamo con l'etichetta blu questo ci permetterà riaprendo il progetto in seguito di riconoscere subito quel determinato elemento ok dopo le etichette abbiamo la possibilità di mutare la velocità e la durata ecco qua appunto ci si apre una nuova opzione di montaggio che è quella appunto temporale abbiamo la possibilità di mutare la velocità in percentuale o in durata in percentuale per esempio sappiamo che noi abbiamo girato a 50 fps mettendo la velocità al 50% la durata sotto come vedete in rapporto muta quindi se noi abbiamo questo strumento qua attivato che è un po' una specie di catenella che lega la velocità e durata al mutare della velocità quindi al 50% della durata andrà a raddoppiare la la durata appunto nel caso in cui non volessimo questa cosa qua perché premendo ok vi faccio vedere la reazione in timeline vedete si allunga la clip ecco nel caso in cui noi volessimo tenere la stessa durata vi insegno anche un altro shortcut che è ctrl r per arrivare direttamente a questa a questa a questa schermata qua se noi lo disattiviamo e mettiamo 50 quindi vogliamo che quella clip duri quel tempo vediamo che il tempo della durata della clip sarà invariato ma la clip in questo momento sarà a slow motion ok quindi possiamo anche operare in maniera inversa ovvero avere la durata avere la durata al 100% ma volerne cambiare la durata e quindi in base alla durata che selezioniamo la velocità cambierà ovviamente se abbiamo girato a 50 fps io non non mi spingerei oltre il 50% di velocità in quanto appunto poi la clip tenderà ad andare a scatti un'altra opzione che abbiamo che abbiamo sempre da questa da questa schermata qua è la velocità indietro questo ci permette semplicemente attivandola questa ci permette semplicemente di far partire la clip dalla fine e andare verso l'inizio quindi andare a riprodurla a velocità inversa in questa schermata possiamo anche selezionare il tipo di interpolazione con il tempo quindi avere una fusione di fotogrammi un flusso ottico o un campionamento di fotogrammi io tengo campionamento di fotogrammi in quanto è lo stesso interpolazione di tempo che abbiamo all'interno della sequenza della timeline abbiamo la possibilità di fare un montaggio con scarto che come abbiamo visto prima sposta semplicemente le clip finali e ve lo dice anche qua come dicitura quando andiamo a modificare la durata per esempio il 50% in una clip con l'audio ci compare anche la possibilità di mantenere il tono dell'audio ok sempre tornando sul nostro tasto destro avremo la possibilità di selezionare dei fermi fotogramma quindi opzioni di fermo fotogramma semplicemente ci dà la possibilità di fermare la clip a questo fotogramma che abbiamo selezionato quindi se noi premiamo ok vediamo che la clip si è trasformata in un fermo fotogramma del codice di tempo corrispondente alla posizione del cursore un altro metodo può essere quello subito dopo suggerito anche dal programma che è quello di aggiungi fermo fotogramma ovvero andrà ad aggiungere ok alla fine della clip un fermo fotogramma che possiamo decidere noi la lunghezza esattamente nel punto in cui il cursore si era fermato abbiamo poi un'altra opzione ovvero inserisci segmento fermo fotogramma che semplicemente inserirà spostando il montaggio il fermo fotogramma lo possiamo vedere qua per esempio in questo punto della timeline in cui poi più avanti in cui poi più avanti c'è un montaggio facendo inserisci segmento fermo fotogramma inserirà mantenendo le stesse distanze un fermo fotogramma come vediamo all'interno anche di una stessa clip se facciamo inserisci fermo fotogramma lui ci avrà inserito il fotogramma per poi far ripartire la clip da quel punto quindi questo è un po' l'effetto freeze frame insomma già questi sono elementi che possono permetterci di creare effetti creativi continuando sempre premendo nel nel tasto destro scusate per l'audio abbiamo la possibilità di rinominare la clip direttamente dalla timeline avremo la possibilità di creare una clip secondaria un po' come il concetto della sequenza che altro non sarà che una copia di questa clip che comunque verrà importata nel progetto che magari avrà come peculiarità tutti tutti i montaggi tutti gli effetti che noi abbiamo applicato e non sarà altro che una clip secondaria di quella originale che avrà volendo come vincolo come ci suggerisce qua i tagli che noi abbiamo effettuato durante il montaggio un'altra cosa molto utile nel caso in cui ci trovassimo in un progetto molto complesso la necessità di raggiungere il file originale della clip o dell'elemento che è in timeline un modo per farlo è rivela nel progetto ecco questo semplicemente vi farà apparire subito il tipo di cartella o la posizione in cui è salvato il file all'interno del progetto un'altra cosa sempre che possiamo fare è rivelarla mostrarla in explorer resource questo ci aprirà il file direttamente nella cartella in cui è salvata quindi ci mostrerà la cartella dove è salvata nel computer quindi anche questo può essere uno strumento utile andando avanti possiamo vedere le proprietà questo anche è molto utile qualora ci venga il dubbio che la frequenza dei fotogrammi di una clip sia quella utile a permetterci magari uno slow motion per esempio in questo caso vediamo che questa clip è girata a 25 fotogrammi per secondo quindi eseguendo un slow motion avremo comunque una scattosità queste sono tutte le opzioni che abbiamo con il tasso destro queste opzioni comprendono praticamente il 90% delle cose che noi in un programma di montaggio possiamo fare quindi diciamo che la combinazione di tutti questi elementi poi crea effettivamente il montaggio come vediamo un'altra opzione che ci dà l'ultima è quella di visualizzare di mostrare i fotogrammi chiave ecco i fotogrammi chiave sono ancora un concetto che non abbiamo esplorato ma comunque ci darà anche poi questa possibilità un'altra opzione che abbiamo che adesso è defleggata è quella del collegare il file multimediale ecco qua si apre un altro argomento a parer mio abbastanza importante mettiamo di avere il nostro progetto salvato su un hard disk esterno di scollegare questo hard disk per poi ricollegarlo in un altro in un altro dispositivo ecco probabilmente la situazione in cui ci troveremo sarà questa ovvero una situazione in cui i file sono offline ecco sicuramente nel caso in cui aprissimo il progetto e il progetto dovesse individuare che ci vi sono dei file non in linea ci chiederà in automatico di andarli a ricercare ecco la ecco la schermata che ci si aprirà è semplicemente quella che ci si aprirebbe nel caso in cui per esempio individuassimo all'interno del nostro progetto un file non in linea dovuto appunto allo spostamento del file sorgente quindi all'interno della cartella in cui il file è salvato andremo semplicemente a fare collega file multimediale ecco noi ci troveremo in una situazione del genere anche all'apertura del progetto questo questa schermata ci permette di collegare i file multimediali ecco questo processo di rendere non in linea per poi ricollegare i file io per esempio lo sfrutto molto nel momento in cui utilizzo dei file nativi tipo proxy transcodificati a una qualità molto bassa per poter montare più velocemente per poi collegare magari il file elaborato in cui ho fatto la color correction su da vinci molto pesante solo per poi eseguire la fase di 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 export finale ok quindi vediamo che noi possiamo selezionare e defleggare qua dei criteri con cui lui cercherà le clip all'interno del nostro computer ecco per esempio lasciamo nome file io ce l'avevo defleggato appunto per la possibilità poi di collegare clip con color correction ok facciamo individua e lui in automatico vediamo che già ci ha consigliato il dove individuarle nel caso questa cosa non dovesse succedere cerchiamo di capire dove sono localizzate le nostre clip e di andare quindi a consigliare il tipo di di cartella così che lui possa fare anche qua selezionando visualizza solo i nomi identici andremo a a vedere poi selezionate solo solo le clip effettivamente con lo stesso nome rispetto a quella che stiamo cercando comunque in questo modo lui andrà a concentrare la ricerca su una determinata cartella in questo caso noi aveva già trovato le clip premendo ok ce le collegherà tutte in automatico trovando tutti i file nel caso in cui dovesse trovarne tutti ma solo alcuni vi collegherà solo quel che troverà vi chiederà di cercare gli altri che ancora non avete ricollegato quindi ecco questa è una funzione molto importante è una situazione in cui potreste trovarvi molto facilmente oppure che potreste sfruttare in funzione di quelle che sono le vostre necessità di montaggio ecco riprendendo un un argomento che abbiamo sfiorato prima andiamo a visualizzare nella sua interezza il pannello di controllo effetti come vediamo fin da subito da qua in alto abbiamo la possibilità di controllare gli effetti applicati al video in timeline infatti vediamo videocorso asterisco il nome della clip oppure principale ovvero gli effetti applicati direttamente sulla clip ecco questa è una cosa che per esempio io utilizzo molto nella fase di color correction ovvero nel caso in cui ho una clip ripetuta più volte durante durante lo stesso video applico la color correction direttamente sulla clip principale comunque tornando alla clip abbiamo la possibilità di di eseguire delle variazioni in quello che sono dei fattori della clip qualora noi aggiungessimo degli effetti ad esempio verrebbero tutti poi visualizzati in questo pannello come vediamo possiamo agire sulla posizione della clip all'interno del nostro fotogramma sulla scala e su tutte le assi insomma di rotazione eccetera eccetera un'altra cosa che possiamo modificare è l'opacità insomma qua possiamo veramente fare di tutto con la clip come vediamo ci sono questi orologi di fianco ecco questo orologio se andiamo sopra con il mouse ci dice attiva disattiva animazione ecco l'animazione non è altro che il salvataggio di un dato in un determinato punto dove il nostro cursore si trova per poi passare a un altro dato in un altro punto quindi il keyframe non è altro che la conservazione di quel determinato dato mettiamo caso di premere appunto su questo orologio di creare quindi l'attivazione dell'animazione e di avere la scala a 50 quindi la scala di questa clip è a 50 in questo determinato punto andando avanti vediamo che non vi sarà nessuna variazione fino a che noi non andremo a eseguire una variazione anche nel settaggio quindi andiamo ad inserire 100 come vedete adesso in questo punto cliccando qua nell'altro punto avremo una variazione in mezzo a questi due dati si sarà creata un'animazione infatti se noi andiamo a riprodurre vedremo che si è creata un'animazione ovvero una variazione da scala 50 a scala 100 ovviamente questo questo argomento è molto complesso e potenzialmente ampissimo in quanto appunto vi sono diversi fattori che influenzano il tipo di animazione che vi è tra un keyframe e l'altro e la quantità di animazioni quindi insomma a che cosa ci serve conoscere il keyframe ci serve perché tutte le variazioni di dato che noi inseriamo all'interno dei programmi di montaggio vengono salvati in un determinato punto temporale attraverso questo elemento quindi immaginiamo per esempio a livello audio di voler alzare il volume solo in un determinato punto del montaggio sicuramente conoscere il keyframe e saperlo utilizzare ci risulta fondamentale in in quella in quella situazione là andando avanti adesso andremo ad annullare l'animazione semplicemente cliccando sull'orologino infatti ci apparirà questa avvertenza che ci chiederà una conferma andiamo a eliminare l'animazione e come vediamo non ci saranno più quei punti un'altra opzione che ci viene mostrata proprio qua in questo pannello di controllo effetti è quella della maschera anche questo è un concetto che poi andremo a vedere più nel dettaglio ma la maschera di opacità non è altro che una selezione della porzione dell'inquadratura se noi infatti andiamo a premere su uno di questi strumenti come abbiamo appena fatto ci si creerà una maschera possiamo crearla con un riquadro con un cerchio insomma queste sono le forme che lui ci suggerisce infatti cliccando vediamo che ci formerà un riquadro che è l'unica porzione di campo del fotogramma che noi andremo a visualizzare oppure un cerchio oppure la possibilità di crearne una personalizzata mettiamo per esempio di voler isolare di questa inquadratura solo gli occhi quindi se noi andiamo a creare adesso in maniera molto molto blanda una maschera ecco che noi visualizzeremo solo di questa inquadratura agli occhi e qui nasce un altro concetto che si lega ai due elementi che è quello di tracciamento del movimento come vediamo la maschera adesso è fissa in un punto la maschera è fissa in un punto se noi volessimo che la maschera seguisse il movimento dell'occhio cliccando sul famoso keyframe premier ci dà la possibilità di tracciare e di seguire in automatico con questo questo strumento qua il movimento che l'occhio fa quindi questo già è una funzione che è molto semplice che premier ci dà quindi se noi andiamo a cliccare qua lui ci farà un caricamento e ci creerà una volta finito tutti questi keyframe che non sono altro che come abbiamo detto prima variazioni del dato salvate all'interno del tempo quindi se noi andremo a visualizzare la parte tracciata vedremo che la maschera seguirà perfettamente l'occhio ecco questo è il concetto di tracciamento ovviamente anche questo concetto è molto più avanzato è molto più e ha richiesta di competenze e di conoscenze ma sicuramente per iniziare ad intraprendere quelli che sono questi concetti e basta insomma averli presentati in questo modo sicuramente il modo migliore per conoscerli è testare in funzione di qualche tipo di necessità quindi sicuramente il tracciamento le maschere è un qualcosa che vedremo nella fase di color in quanto può tornare utile per illuminare determinate porzioni ecco la maschera è un elemento molto creativo combinata al keyframe sono veramente quegli strumenti che se riuscite ad acquisirne veramente in maniera efficace le competenze potrebbero fare la differenza nel risultato dei vostri montaggi delle vostre lavorazioni benissimo arrivati a questo punto del videocorso avremmo già affrontato diversi aspetti che concernono il montaggio sia a livello teorico che a livello pratico nel programma di adobe premier pro come abbiamo visto vi sono numerose tecniche che ci offre questo programma a livello di montaggio e con le competenze prese fino ad adesso dovremmo essere in grado perlomeno di eseguire una sequenza con dei criteri già abbastanza avanzati andiamo a vedere adesso alcune cose che si sono formulate all'interno del nostro progetto quindi delle nostre cartelle di archiviazione di lavorazione durante il percorso durante il percorso di montaggio aprendo la cartella potremo vedere come in effetti andando nella parte dedicata al montaggio come si siano create delle cartelle ecco queste sono le cartelle che abbiamo selezionato all'inizio del nostro progetto e come vedete si dividono in autosave che sono molto importanti vi ritroverete spesso a ricercare un progetto tramite gli autosave magari avete eseguito delle modifiche ad un progetto e quelle modifiche diciamo che non sono state funzionali e quindi avrete bisogno di tornare ad una versione precedente un metodo veloce per farlo è quello degli autosave e come vedete vi sono anche altre cartelle come quelle dei file audio catturati e dei file video catturati in questo caso non abbiamo catturato nessun file in automatico il progetto una volta creato e avviato creerà questi file ma se invece andiamo nella cartella di autosave vediamo come il corso delle registrazioni del videocorso abbiamo creato diversi autosave con la scansione di tempo che abbiamo impostato bene quindi invece tornando sulla timeline vedremo come avremmo iniziato a sviluppare una timeline più o meno complessa sviluppata di più elementi questi sono gli elementi con cui abbiamo fatto diversi test ecco quello che vorrei fare adesso con voi è provare a creare e farvi vedere quello che è il mio processo per la creazione di un videoclip in generale in questo caso un piccolo spot quindi quello che facciamo è teniamo sempre questa timeline in cui insomma facciamo i vari test per gli effetti per le varie cose ma proviamo a creare un video inserendo le nozioni che già abbiamo appreso iniziamo a vedere come applicare proprio nella creazione di un video è quello che può essere anche un workflow che può ritornare utile e può velocizzare tutte le varie operazioni di montaggio quindi arrivati a questo punto teoricamente dovremmo essere in grado a tagliuzziare a nostro piacimento le clip di cui disponiamo con il tasto destro anche gli elementi all'interno del nostro progetto della nostra casella del progetto appunto creeranno delle interazioni ecco in queste interazioni noi andiamo a duplicare semplicemente la timeline del videocorso la sequenza del videocorso andiamo quindi a replicare quelle che sono le impostazioni che questa timeline ha andiamo a cambiare il nome e creiamo video finito quindi qua andremo a realizzare il nostro video finito andiamo adesso a creare una brevissima sequenza in maniera tale da iniziare ad applicare alcuni dei concetti che abbiamo imparato in precedenza e per poi semplificarci anche tutto il concetto di color correction andiamo a selezionare l'ordine per nome crescente in maniera tale che la prima clip sia sicuramente a livello temporale prima di quelle più in basso quindi andiamo a vedere le prime clip un modo molto semplice per visionare il materiale è semplicemente passare con il mouse sopra da destra da destra a sinistra e potremmo vedere quella che è una breve anteprima della clip in questo modo io ho visualizzato che ad esempio questa clip per me va bene quindi vado ad individuare il punto di attacco mettiamo questo e il punto di stacco questo qua andiamo a trascinare solo la parte video e come vediamo abbiamo già selezionato una clip come vedete la ragazza in questo caso si siede e lascia le mani sul tavolo ecco qua il movimento della camera si ferma quindi noi in realtà la clip la possiamo fare interrompere qua è il modo per tagliare come abbiamo visto sono diversi con C con il taglierino o semplicemente trascinando la clip fino al cursore quindi in realtà in montaggio ci viene poi molto immediato selezionare il modo che a noi viene più più comodo in quel determinato punto adesso andiamo a selezionare la clip successiva che vogliamo utilizzare sempre con il nostro in e con il nostro out e la andiamo ad importare ecco in questo caso potremo subito notare che nella nella nostra selezione delle scene non abbiamo una continuità di raccordo tra un'inquadratura e l'altra l'unica continuità è di movimento quindi sicuramente dato che la tecnica che in questo caso viene sfruttata potenzialmente era la stessa che si aveva intenzione di utilizzare in fase di ripresa quello che possiamo fare è andare ad anticipare la nostra la nostra scena iniziale quindi inserendo inserendo questo tipo di parte qua e andando a spezzare ancora di più il raccordo così da renderlo meno fastidioso a livello visivo perché sicuramente è un raccordo del genere che è molto più più netto e meno fastidioso che un raccordo in cui il personaggio è nella stessa posizione della clip successiva e non si raccorda con il movimento ecco tipo una cosa di questo tipo una cosa di questo tipo è più fastidiosa rispetto a un salto temporale vero e proprio in questo caso il salto temporale è voluto e quindi si passa da una posizione all'altra bene vediamo invece che qua la ragazza tocca le uova e qui passiamo all'altra inquadratura in cui tocca le uova con la stessa mano e ha la sua reazione quindi quello che io faccio di solito per trovare il punto di raccordo migliore è importare in timeline la clip leggermente prima rispetto al punto di raccordo ben preciso per quanto noi comunque possiamo vedere le due le due immagini le due clip in contemporanea perché a sinistra abbiamo quella sorgente della clip che stiamo selezionando e a destra abbiamo quella di di montaggio io vado poco prima e ok e inseriamo questa parte qua come vedete adesso il raccordo non sarà precisissimo perché qua la ragazza ha già toccato le uova e qui la sta iniziando a toccare quindi ecco quello che possiamo io ho deciso di importarla così perché la la soluzione migliore è sicuramente quella di importare sul movimento quindi quando la mano è ancora in movimento andiamo ad inserire l'altra clip e come vediamo abbiamo un raccordo in questo caso più sul movimento e quindi tutto risulterà più fluido alla vista ecco questo è il motivo per cui io in base al punto di raccordo che abbiamo cerco sempre di anticipare leggermente la clip che importo così poi di darmi lo spazio o eventualmente quello che possiamo fare è l'inverso quindi decidere di attaccarci sul movimento della reazione quindi andiamo a posticipare quello che è il raccordo in questo modo io preferisco in questo caso io preferisco un montaggio di questo tipo ecco secondo me questo processo è utile in quanto vi vi fa entrare un po' in confidenza con quelle che sono le operazioni che un montatore fa generalmente ecco questa operazione per me richiede veramente pochissimi istanti adesso è un processo più lungo in quanto io sto cercando di spiegarvi la giustificazione di ogni mia azione ma poi questi processi diventano diventano immediati come vedete io anche cerco sempre di lavorare su più livelli queste clip le potrei benissimo portare sullo stesso livello e avere un'unica linea io preferisco darmi almeno due o tre livelli per il montaggio e il raccordo infatti questa clip qua io solitamente la porterei in basso così da poter eventualmente in futuro modificare in maniera più rapida quelli che sono i raccordi e avere la possibilità di avere ancora la clip nativa allungabile o accorciabile per intero senza che questa cosa per via dell'utilizzo di questi strumenti possa in qualche modo influenzare tutto il montaggio quindi questa è un po' la tecnica che utilizzo io e questo è molto utile soprattutto nei video musicali quando si hanno ad esempio 4-5 livelli di playback e quello che io facevo all'inizio era portare la selezione di tutte le clip su un unico livello e poi nell'eventualità in cui ci fossero state delle modifiche mi ritrovavo mi ritrovavo incasinato se uno dei clienti voleva invece che il primo piano un mezzo busto mi ritrovavo in una situazione molto più complicata invece così è subito immediato decidere di eliminare questa sequenza ad esempio e passare direttamente a questa o comunque in un videoclip musicale selezionare un primo piano invece che un mezzo busto abbiamo selezionato le nostre clip in questo caso lo scopo del video è quello di toccare queste uova ed entrare a contatto con la natura quindi inserendo le reazioni della ragazza in esterna e le galline andiamo per esempio ad inserire un dettaglio della gallina molto rapido andiamo a mettere a rallentatore e ci andiamo a selezionare solo il punto di fuoco il punto di fuoco dura pochi secondi quello che è una tecnica molto utilizzata è quella anche dello speed ramp che significa semplicemente mettere una parte molto lenta susseguita da una parte a velocità normale o più veloce io insomma un processo che faccio spesso anche per semplificare i raccordi per rendere il montaggio più interessante e giocare tanto di questi fattori qua quindi avremo una parte normale lenta e poi subito veloce ecco in questo caso ho individuato una clip che mi piaceva inserire perché dava un po' di stacco allora decido di cambiare quello che è il montaggio vero e proprio quindi parto da una clip più statica quindi che spezza un po' quello che è il mood passo poi per una clip con del movimento però mi sono reso conto che il movimento è nella parte rallentata quindi quello che faccio è partire con questa clip molto lenta per poi velocizzare sul sul movimento quindi in questo caso vado a velocizzare sul movimento così partiamo da una situazione statica e poi andiamo a velocizzare quello che io sfrutto adesso è il movimento per cercare di raccordarmi con il movimento della ragazza quindi sicuramente avremo una porzione di immagine e movimento della ragazza che potremmo sfruttare per raccordarci con il movimento quindi questa è la porzione selezionata partiamo molto veloci fino a questo punto dove abbiamo il volto della ragazza questa parte qua la rallentiamo per poi velocizzare di nuovo il finale quindi andiamo a velocizzare e poi andiamo a rallentare questa parte qua eliminiamo i salti che ci sono creati e avremo questo tipo di montaggio qua adesso in riproduzione si vede un po' scattoso ma in realtà il movimento come vedete è raccordato ed è fluido ok quindi questo potrebbe essere tranquillamente il nostro il nostro piccolo videoclip ok e come vediamo in questo caso abbiamo già fatto un passaggio da una location ad un'altra e abbiamo già creato in un certo senso un racconto una continuità si passa dalla ragazza che è in cucina che tramite il contatto con le uova entra a contatto con la natura e quindi viene pervasa da questa natura questa sensazione di essere all'aperto eccetera eccetera sicuramente questo è lo scheletro da qui in poi andiamo ad aggiungere ovviamente tutti i vari dettagli come vedete ci sono veramente tantissime immagini e quindi piano piano costruire il racconto ecco già su questa base però possiamo possiamo vedere come abbiamo sfruttato un sacco le tecniche che abbiamo appreso prima per quanto riguarda il taglio per quanto riguarda il tempo e la velocità quindi siamo arrivati al punto in cui abbiamo visto come formulare in maniera molto semplice un piccolo montaggio e come replicare quelle che sono le informazioni che abbiamo acquisito e le competenze che abbiamo acquisito nell'arco di questo videocorso diciamo che in questo modo abbiamo praticamente già affrontato tutti gli aspetti inerenti al montaggio video di Adobe Premiere Pro per quanto riguarda appunto le nozioni base andiamo adesso invece ancora ad analizzare un vantaggio un surplus che il programma ci permette che è appunto la possibilità di applicare degli effetti di preset già presenti nel programma di plugin potenzialmente scaricabili da produttori esterni fino ad arrivare a quelli che sono gli effetti un po' più complessi su cui possiamo anche agire e modificare e in qualche modo ci permettono di realizzare il nostro montaggio video finito quindi come abbiamo già parlato in precedenza degli spazi di lavoro come vediamo Premiere Pro ci offre per l'applicazione degli effetti un pannello uno spazio di lavoro anzi adibito appositamente a quest'ultimo elemento che è l'applicazione degli effetti quindi se noi andiamo a cliccare sullo spazio di lavoro effetti come vediamo tutto lo spazio di lavoro appunto avrà una modifica lasciandoci invariate quelle che sono i pannelli del progetto il pannello di controllo effetti e il pannello inerente alla timeline al programma come vediamo in questo tipo di configurazione lui ci permetterà inoltre di avere accesso a quello che è l'oscilloscopio che non è altro che un metodo grafico per analizzare l'esposizione e il colore della nostra scena ci darà sempre accesso alla sorgente e poi al mixer audio delle clip che ovviamente abbiamo in timeline poi sulla destra ovviamente abbiamo questo pannello che ci offre la possibilità di accedere a diversi elementi uno di questi appunto è quello degli effetti e andiamo a vedere che in questo pannello riguardante gli effetti abbiamo una composizione fatta di cartelle e abbiamo la possibilità di cercare un effetto grazie a questa storage bar come vediamo poi abbiamo questi indicatori che ci permettono di vedere solo una determinata categoria di effetti o ci rappresentano quelli che sono gli effetti inerenti a quella determinata categoria se rimaniamo con il mouse sopra vediamo che in questo caso questo simbolo evidenza gli effetti accelerati che vuol dire effetti che lavorano in collaborazione con la gpu e quindi sono di rendering e sono di applicazione molto più veloce rispetto a quelli solo software poi abbiamo qua gli effetti che supportano il colore a 32 bit e quelli che supportano l'yuv come vediamo se noi andiamo a selezionare uno rispetto ad un altro possiamo tranquillamente notare come appunto alcuni effetti abbiano uno o più di questi elementi qua comunque andiamo a vedere quelle che sono le differenzazioni che abbiamo per quanto riguarda le cartelle abbiamo delle cartelle rinominate come predefiniti queste cartelle e in queste e in queste cartelle come possiamo vedere vi sono altre cartelle in quella predefinita ritroviamo una serie di effetti poi abbiamo un'altra categoria che è quella dei predefiniti di lumetri ovvero questi sono una serie di effetti di loot tra virgolette che ci permettono di dare alla nostra clip un determinato look in maniera immediata ed automatica quindi questi sono i cosiddetti preset video se noi per esempio clicchiamo questo preset monocronomatico alla nostra clip vedremo che nella tabella controllo effetti apparirà questo effetto colore lumetri con all'interno questa 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 colorazione questa questa loot monocromatica quindi tutti gli effetti che noi andiamo ad applicare poi vengono visualizzati ed è possibile modificarli attraverso il pannello controllo effetti quindi come vediamo c'è la la cartella predefiniti lumetri non è altro che una cartella contenente diverse altre cartelle contenente a loro volta delle loot e sono suddivise semplicemente per 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 semplicità di individuazione poi subito dopo abbiamo la cartella degli effetti audio in questa cartella non abbiamo altro che tutta una sfilza di effetti utili alla miglioria o al montaggio anche come dire creativo dell'audio quindi questa sono tutta una sfilza che comunque il programma di per sé ci offre ovviamente per applicare al meglio questi effetti bisogna comunque conoscere un minimo quello che è la scienza che sta dietro all'audio in generale perché se già noi solo dovessimo applicare un equalizzatore comunque andremo a vedere che ci aprirà in controllo effetti appunto questo tipo di pannello e le configurazioni che ci vengono offerte le possibilità che ci vengono date sono comunque molto tecniche e c'è bisogno di conoscere diciamo tutto un aspetto tecnico in virtù di questo premiere ci viene incontro con una serie di di preset di effetti semplificati che non hanno bisogno di tutte queste operazioni che per esempio per quanto riguarda l'audio andremo a vedere in seguito poi abbiamo le transizioni audio che non sono altro appunto che transizioni audio e preset di transizioni audio e poi arriviamo alla cartella effetti video questa cartella non fa altro che contenere al suo interno tutta una serie di effetti video che possono essere in questo caso alcuni effetti che io sono dei dei plugin esterni acquistati in più rispetto al programma ma ci permette di visualizzare una serie di cartelle inerenti appunto a sia i plugin installati che agli effetti che di base il software ci dà ad esempio se andiamo su canale abbiamo la possibilità di impostare tutta una serie di effetti inerenti al canale di colore per esempio abbiamo gli effetti di controllo immagine che sono effetti che noi applichiamo al video inerenti sempre alla colorazione del video quindi alla color correction come vediamo abbiamo anche la cartella di correzione colore che ci permette di appunto fare altre modifiche di diversa natura a livello di colore della nostra immagine per poi andare ad arrivare all'effetto di distorsione in cui troviamo all'interno di questa cartella appunto diverse distorsioni puramente estetiche altre distorsioni che riguardano in questo caso la stabilizzazione ecco la stabilizzazione video elettronica si trova all'interno della cartella di distorsione perché alla fine quello che succede è appunto una distorsione dell'immagine in funzione della della stabilità se noi andiamo ad esempio ad applicare questo effetto ad una clip che ha come vediamo il 50% lo vediamo qua da questo numero qui il 50% della modifica temporale se lo andiamo ad applicare ci darà questo tipo di errore quindi qua rientra in gioco diciamo anche il fattore di nidificazione come dicevo prima serve la nidificazione anche per poter applicare determinati effetti come quelli di distorsione in clip in cui è avvenuta una modifica temporale quindi se noi adesso andiamo a nidificare questa clip chiamandola stabilizzazione e andiamo ad inserire in questo caso la stabilizzazione vedremo che il programma avrà iniziato la sua la sua stabilizzazione e ci darà anche un tempo residuo per per utilizzarla questo è un metodo per stabilizzare qualche clip eventualmente mossa molto utilizzato che secondo me andrebbe comunque utilizzato con più parsimonia come vediamo adesso la clip sarà stabilizzata come vediamo a quello che si crea una specie di movimento fluido dietro il nostro personaggio all'interno dell'immagine ecco questo è il motivo per cui secondo me la stabilizzazione elettronica andrebbe utilizzata con molta parsimonia e solo in determinate clip con movimenti non troppo ampi insomma è utile ed è funzionale applicarla di per sé cerchiamo come abbiamo imparato in questo videocorso di ottenere fin dall'inizio immagini molto stabili quindi come abbiamo visto è ritornato il concetto di edificazione anche nell'utilizzo di effetti come vediamo sempre nella nostra nella nostra timeline è cambiato qualcosa a livello di colore di questo quadratino qua con su scritto FX è diventato viola questo va a significare che all'interno di questa clip quindi è possibile poi visualizzarlo in una timeline più complessa all'interno di questa clip qua vi è applicato un effetto quindi se cliccando andiamo sopra sicuramente poi andremo ad individuare determinato effetto all'interno della della tab controllo effetti se lo cancelliamo vediamo che torna grigio che sta a significare appunto che non c'è nessun effetto qualora applicassimo effetti di movimento di opacità comunque già presenti all'interno delle possibilità di modifica e di controllo effetti che ci dà di preset premier in questo caso la modifica diventerà gialla questo ci fa intuire che c'è una modifica a livello di questi fattori qua ok quindi abbiamo visto come appunto gli effetti possono tornare utili in questo modo qua a livello video vediamo che vi sono diverse tipologie di effetti quelli appunto di distorsione come abbiamo visto che permettono la stabilizzazione o in questo caso ci permettono di spostare in maniera più precisa la nostra immagine in maniera più personalizzata che è quello di trasformazione e un'altra serie di effetti molto creativi poi un'altra cartella di effetti sicuramente quella del disturbo a granulosità che ci permette di aggiungere del disturbo digitale o della grana della polvere digitale ecco ma questo è sempre un aspetto creativo e non ci ritorna particolarmente utile nel montaggio poi abbiamo per esempio tutti quegli effetti che noi possiamo applicare al di fuori della nostra clip quindi per esempio inserendo un mascherino colorato o un livello di regolazione possiamo inserirli sopra quegli elementi quello che possiamo fare con un livello di regolazione ad esempio è applicare un effetto tramite il livello di regolazione che altro che non è un livello a cui appunto si applicano le regolazioni possiamo applicare un determinato effetto molto spesso utilizzato per gli effetti di colore su più clip quindi quello che noi possiamo fare ad esempio è tornando su gli effetti di controllo dell'immagine applicare un bianco e nero e come vedremo non sarà applicato direttamente sulla clip ma sarà applicato su questo livello di regolazione e quindi tutti i livelli al di sotto di questo livello di regolazione avranno applicato determinato effetto questo ovviamente apre a una moltitudine di possibilità sia a livello di appunto colorazione che a livello appunto di distorsioni dell'immagine di sfocatura o di effetti di altro tipo come vediamo appunto un altro tipo di effetti presenti nella cartella genera sono tipologie di effetti applicabili a dei livelli o a dei livelli di regolazione o dei mascherini colorati che ci generano degli elementi in questo caso come vediamo questo elemento questo effetto genera una sfumatura a a quattro colori questo può essere utile appunto a livello creativo nella volontà di creare determinati effetti abbiamo altre queste cartelle che voi visualizzate con RG fanno parte di cartelle di plugin e sotto di esse troviamo altre cartelle inerenti alla colorazione ovvero regolazioni sfocature e contrasto al di sotto di tutte queste cartelle di plugin e quelle inerenti alle regolazioni ancora del colore abbiamo la cartella di stilizzazione che altro non serve a contenere al suo interno effetti inerenti alla stilizzazione di un determinato elemento tutti questi effetti appunto sono sempre di utilizzo nettamente creativo il mio consiglio è quello di utilizzarli di sperimentarli uno a uno di mettersi all'interno del programma con il proprio girato e di provare a capire quelle che sono quelle che sono le interazioni degli effetti con il proprio girato altri effetti utili sono sicuramente quelli di tempo che vanno a modificare quelli che sono i comportamenti a livello temporale delle nostre clip e sicuramente anche questi sono elementi utili a livello creativo e poi abbiamo una tipologia di effetti molto utile molto utilizzata che è quella del tipo di trasparenza la trasparenza non è altro che un diverso modo di interagire tra due livelli posti uno sopra l'altro un tipo di trasparenza per esempio come vediamo qui su questi due livelli uno sopra l'altro un tipo di trasparenza può essere dato dalla diminuzione dell'opacità e come vediamo abbiamo un'immagine in trasparenza sull'altra quindi questo già è un metodo di trasparenza oltre all'opacità un controllo che possiamo avere sempre tramite il controllo il nostro pannello di controllo effetti dei metodi di trasparenza che in questo caso vengono chiamati metodi di diffusione e attraverso questo pannello appunto chiamato metodi di diffusione come vediamo abbiamo diverse tipologie di metodi di diffusione che a seconda di algoritmi particolari vanno a determinare un tipo di diffusione tra una clip e l'altra quindi il tipo di diffusione per esempio può essere per scherma lineare che è quello più utilizzato per aggiungere un'immagine all'altra come vediamo però va a sommare le due immagini e quindi ad aggiungere anche la loro esposizione quindi noi possiamo utilizzare altri diversi metodi di diffusione come vediamo vanno a creare delle fusioni in questo caso creative ecco questo è un metodo sempre creativo molto utilizzato sicuramente questa scienza di diffusione delle immagini è utile impararla provando sappiamo che comunque vengono suddivisi da queste grosse macro categorie che ragionano più o meno per principi simili per esempio scherma lineare aggiungi ha uno stesso funzionamento di schiarisci o di scolora il tipo di diffusione è similare il metodo di applicazione è diverso per esempio se andiamo su differenza esclusione sottrai e dividi come vediamo fanno parte della stessa macro categoria hanno modi simili hanno un metodo di calcolo di diffusione simile differente per ogni tipo di opzione di solito il metodo con cui queste fusioni agiscono è appunto con immagini con porzioni di immagine più scura o più chiara in base al tipo di effetto che utilizzerete quindi visto ciò andiamo a vedere perché esistono degli effetti di trasparenza uno di questi effetti che per esempio è ultra non fa altro che permetterci di bucare il cosiddetto green screen ecco questa è già una tecnica più avanzata ma l'effetto che ci permette di fare ciò si trova all'interno anche di Premiere Pro e si chiama ultra e poi abbiamo altri diversi metodi di di fusione e di trasparenza creativi che possono essere per esempio attraverso un determinato un determinato tipo di colore o come vedete possono essere per un determinato tipo di colore o per altri fattori come vediamo ad esempio qua iniziano ad entrare diversi concetti tutti questi elementi degli effetti a differenza del del metodo di fusione possono essere in qualche modo anche mutati tramite il concetto del keyframe infatti come vediamo abbiamo sempre presenti i nostri i nostri orologini che se clicchiamo formano un keyframe quindi in questo caso io in questo valore di tolleranza colore ho 68 se metterò 0 e creerò un keyframe avrò creato un'animazione quindi ecco come tutti gli elementi che noi abbiamo imparato fino ad ora rientrano poi utili sommati l'uno con l'altro quindi l'applicazione di effetti l'utilizzo dei keyframe e via dicendo a creare effetti complessi il limite per tutte queste cose è solo giustamente la creatività di ognuno di noi bene abbiamo tutta un'altra serie di effetti più o meno utili in base alle vostre esigenze e poi troviamo quelli che sono le transizioni video ecco queste non sono altro che preset di transizioni tra una una clip o l'altra a mio parere sono molto come dire amatoriali non non ne ho mai trovato l'utilità ma per esempio per fare dei veloci assemblaggi di montaggi di foto eccetera possono tornare utili o comunque se utilizzati in maniera furba e sempre utilizzando la nostra buona dose di creatività possono anche essere degli effetti interessanti da applicare quindi non sono altro che transizioni che di preset il programma ci offre quindi sono semplicemente il cosiddetto drag and drop insomma lo lo importi e l'effetto è già pronto a funzionare ecco e qui come vedete con le transizioni si apre un altro argomento come vedete quando noi su una clip più o meno lunga che sia andiamo su su questa per semplificare su una clip andiamo ad inserire un anzi usiamo questa clip qua ok quindi quando su una clip andiamo ad inserire un effetto di questo tipo che anche in questo caso è simboleggiato da questo da questo simbolino qua andremo a vedere che la clip non reagisce più con l'inserimento dell'effetto nella tabella controllo effetti ma creerà invece questa linea che non è altro che la linea in cui la transizione è attiva ha una durata di preset ma se vediamo questa linea noi possiamo direttamente da qua oppure cliccandoci sopra ci aprirà questa tab inerente all'effetto possiamo andarne a modificare la durata e la quantità e altri diversi fattori in base al tipo di transizione che abbiamo utilizzato quindi le transizioni su Premiere vengono rappresentate in questo modo e viaggiano in questo modo qua per eliminarle non ci basterà fare altro che selezionarle e premere cance o il tasto per cancellare come vediamo andando con il tasto destro oltre a tutti questi preset che Premiere ci offre di transizione video abbiamo la possibilità di applicare delle dissolvenze molto semplici andando con il nostro mouse al lato della nostra clip premendo il tasto destro e applicando una transizione predefinita in questo caso lui ci applicherà una dissolvenza e altro non è che la cartella subito dopo alle comparse in transizione video ovvero dissolvenze come vediamo vi sono mille tipi di di transizioni video sicuramente quella più utilizzata è quella della dissolvenza in quanto magari alla fine di ogni video solitamente per passare al nero o all'inizio di ogni video invece che farlo così in maniera netta e brusca con una dissolvenza il tutto viene ammorbidito come vedete anche per il passaggio da una clip all'altra la dissolvenza è comunque un effetto tutto sommato piacevole e non poi così trash quindi poi andiamo a scoprire tutte queste queste dissolvenze che possono essere più o meno utili a livello creativo sicuramente appunto abbiamo la possibilità di applicare una transizione tramite dissolvenza incrociata che a mio parere è molto è molto utile a livello di montaggio generale comunque qualora volessimo sperimentare troviamo la cartella dissolvenze e la cartella transizione video in cui sono presenti tantissime tipologie di transizioni e quindi con questo abbiamo esplorato quelle che sono le modifiche alla nostra immagine e le tipologie di modifiche che possiamo applicare tramite Premiere Pro tramite il software e a livello di immagine un altro argomento che sferiamo semplicemente di transizione per poter parlare dell'audio è l'argomento dei pannelli essenziali Premiere Pro dalla versione del 2019 e 19 ci offre la possibilità di avere accesso a questi pannelli chiamati essenziali ovviamente per far successo possiamo comunque andarli a cercare sempre nella nostra finestra e andarli a selezionare in questo caso grafica essenziale e audio essenziale partiamo dalla grafica essenziale grafica essenziale non è altro che un 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 pannello che ci offre la possibilità di accedere a librerie di preset di animazioni di testo generalmente io qua le ho installate diverse perché mi tornano utili e Premiere già nel momento in cui lo acquisterete ne presenterà diverse quindi tutti questi questi preset saranno utili appunto per evitare magari il passaggio su After Effects ecco come vediamo andiamo a trovare un effetto che magari voi potreste avere già come vediamo per esempio inserendo un uno di questi elementi semplicemente cliccando e trascinandoli nella timeline avremmo avremmo inserito un'animazione di testo che di preset è già è già stata creata che possiamo modificare sempre tramite il pannello grafico essenziale a livello di testi con appunto tutto il nostro pannello che sembra molto confusionario ma in realtà è molto semplice soprattutto se siete un minimo pratici di Photoshop o di elementi di questo tipo in cui sarà possibile modificare i testi modificare gli altri elementi della grafica essenziale e personalizzarle in tutti gli aspetti a livello appunto di aspetto audio a livello di font utilizzato ad esempio a livello di posizione nella nostra timeline eccetera eccetera insomma qua tramite tutti questi questi elementi avremo modo di modificarlo e come vedremo nella tabella controllo effetti nel pannello controllo effetti ci avrà creato in automatico tutta questa serie di effetti di testi inerenti agli elementi che vi sono ecco questo è un argomento che potenzialmente può essere più complesso in quanto per riuscire a sfruttare al meglio a parer mio tutti gli aspetti di questi elementi ci sia bisogno di avere molta manualità nell'utilizzo di tutti gli altri aspetti di montaggio base e comunque un minimo di competenze su Photoshop e After Effects comunque questo pannello ci permette di realizzare all'interno dello stesso programma e quindi questa non è una cosa da sottovalutare determinati elementi grafici persino in movimento e questo può essere molto vantaggioso nello sviluppo di un video e sicuramente è molto più semplice rispetto a realizzare qualcosa direttamente su After Effects o sugli altri programmi utilizzando magari il Dynamic Link quindi questo è un vantaggio sicuramente che abbiamo con Premiere Pro e sicuramente è un qualcosa che si può esplorare benvenuti in questa nuova lezione di Adobe Premiere Pro 2022 quindi siamo di nuovo di fronte a uno degli aggiornamenti che il software ci ha messo a disposizione che Adobe ci ha messo a disposizione e il tema di oggi è un tema che in realtà non abbiamo ancora approfondito all'interno del videocorso e infatti questa è un'ottimissima occasione per affrontarlo anche perché l'evoluzione che questa funzione offre proprio a livello di realizzazione dei sottotitoli ecco il tema di oggi i sottotitoli è davvero una funzione rivoluzionaria secondo me ad oggi i sottotitoli sono fondamentali perché un sacco di video vengono pubblicati tutti i giorni sulle piattaforme social e in queste piattaforme molto spesso i video vengono visualizzati persino senza audio l'audio è quasi superfluo è un'opzione che si ha quella di attivare l'audio è per questo che diventa fondamentale inserire dei sottotitoli all'interno del video i sottotitoli sono sempre stati da quando la storia ha ricordo insomma da quando c'è ricordo di questa funzione sono sempre stati un qualcosa di noiosissimo da fare un processo tutto lungo molto palloso addentriamoci subito su le nuove funzionalità appunto per i sottotitoli andiamo sul nostro pannello sottotitoli e grafica se non lo vedete qua vi ricordo che nella nuova versione abbiamo questo pulsante spazi di lavoro e con questa con questo mostra schede dello spazio di lavoro abbiamo la possibilità di averle tutte visualizzate queste schede qui in alto sotto forma di scritte quindi molto più veloce e intuitivo quindi sottotitoli e grafica per essere tutti uniformati andiamo su finestra spazio di lavoro ripristina a layout salvato e questa è la schermata standard per quanto riguarda la creazione di sottotitoli qual è la vera rivoluzione che premiere pro 2022 con questo aggiornamento ci offre la possibilità di trascrivere una sequenza questo che cosa significa significa appunto che il software leggerà ciò che viene pronunciato all'interno del video e ne farà direttamente una trascrizione in automatico questo vuol dire che non dovremo più essere noi a guardare il video e a trascrivere manualmente frase per frase quello che viene detto ma lo farà il software in automatico questa è la cosa che sicuramente fa risparmiare più tempo andiamo più nello specifico a vedere come è strutturato il pannello di testo dove appunto abbiamo la possibilità di effettuare queste funzioni e quindi di realizzare in toto i nostri sottotitoli come vedete adesso siamo nella pagina di questo pannello dedicata ai sottotitoli dove abbiamo la possibilità di far partire direttamente una trascrizione di creare una nuova traccia di sottotitoli o di importare dei sottotitoli da dei file qualora si sia utilizzato un altro software abbiamo poi il pannello grafica che attualmente è vuoto perché effettivamente non abbiamo nessun testo inserito quindi lo andremo a vedere in seguito e poi il pannello trascrizione dal quale possiamo creare effettivamente la trascrizione perfetto quindi la prima cosa da fare per sbloccare anche tutta un'altra serie di funzioni che attualmente è inutile spiegarvi e iniziare effettivamente a far fare al software questa trascrizione quindi premiamo su trascrivi sequenza e come vedete abbiamo la possibilità di oltre a selezionare ovviamente la sequenza in questione ma anche di scegliere la lingua perché questo perché possiamo scaricando questi dizionari scegliere tra diverse lingue con il quale realizzare la trascrizione questo può essere molto utile nel momento in cui appunto come casa di produzione o come editor eccetera ci ritroviamo a realizzare contenuti in diverse lingue in questo caso noi realizziamo principalmente contenuti in inglese e in italiano quindi questi sono i due dizionari di cui ho bisogno ok il video che dobbiamo trascrivere è in italiano quindi selezioniamo italiano e come analisi audio abbiamo la possibilità di lavorare su o tutto il mix dell'audio oppure selezionare direttamente la traccia audio sul quale fare la trascrizione questo può essere molto utile non in questo caso dove il video è già un export ok un video già esportato su cui realizziamo questi sottotitoli e la trascrizione ma qualora fossimo ancora in fase di montaggio possiamo decidere di trascrivere effettivamente solo l'audio del parlato quindi mettiamo di avere su audio 1 tutto il parlato tutta l'intervista tutto tutto appunto lo spicherato su audio 2 le tracce musicali audio 3 4 eccetera altri effetti questo ci permette di isolare effettivamente solo il parlato di avere una trascrizione più accurata in questo caso ci va bene mix perché è indifferente abbiamo un'altra serie di opzioni tra le quali scegliere ovvero la possibilità di trascrivere solo da attacco stacco questo può essere utile nel momento in cui abbiamo bisogno di sottotitoli solo su una porzione del video e quindi inserendo un in e out possiamo tranquillamente selezionare questa opzione abbiamo anche la possibilità di riconoscere quando parlano diverse persone in questo caso il parlato è realizzato da un'unica persona quindi possiamo avviare la nostra trascrizione come vedete il software renderizzerà l'audio e in veramente pochissimo tempo ci offrirà una trascrizione completa dell'audio del video perfetto una volta che il nostro software avrà finito di trascrivere effettivamente il parlato di ciò che viene detto nel video ci apparirà nella tab trascrizione appunto la trascrizione di tutto il video quello che ci tocca fare a questo momento è una semplice verifica che ciò che c'è scritto sia corretto rispetto a quello che viene detto nel video devo dire che ho utilizzato questo software già per parecchi lavori e il più delle volte soprattutto se l'audio di registrazione e l'interlocutore ha una parlata abbastanza chiara difficilmente ci toccherà intervenire a livello di trascrizione sicuramente ci sono delle parole per esempio magari quando ci sono delle parole in inglese o in altre lingue o comunque delle parole che riguardano qualcosa di più tecnico che il software non riuscirà giustamente a interpretare prima di andare a fare la verifica del nostro parlato della nostra trascrizione andiamo a vedere i comandi che già adesso possiamo abilitare abbiamo la possibilità di modificare l'interlocutore e quindi di andarlo a personalizzare andando appunto ad aggiungere chi è l'interlocutore o eventualmente anche aggiungere un secondo interlocutore in questo caso non ci serve perché l'interlocutore è solo uno possiamo per esempio segnare che quello che sta parlando in questo video è Gianluca questa funzione ci è utile appunto per distinguere effettivamente quando nel parlato abbiamo per esempio un'intervista con due persone in scena abbiamo più interlocutori e li possiamo andare subito ad individuare anche in questa schermata di trascrizione abbiamo la possibilità di creare i sottotitoli da questa trascrizione che sarà lo step successivo a questo e di dividere i segmenti che lui ha creato ora andiamo a guardare vi lascio scorrere qualche minuto del video così che voi possiate vedere effettivamente la precisione della trascrizione e vi faccio vedere anche come intervenire se ci dovessero essere dei problemi e quindi degli errori di trascrizione benvenuto in questa guida al video dove ti spiego la maniera corretta per realizzarne uno se si tratta di un'intervista o uno spot pubblicitario o uno evento quello che è bene sapere è che si deve passare per quattro step fondamentali da rispettare sempre al fine di ottimizzare il processo produttivo questi procedimenti che vengono applicati da noi professionisti possono essere utilizzati anche da chi decide di girare a livello amatoriale se vuoi imparare a fare video per la tua azienda da solo ti rimando al nostro corso gratuito come realizzare un video aziendale in autonomia quando viene commissionato ok qua per esempio il punto di domanda è superfluo però vedete come siamo intervenuti solo per questo fino a questo momento video aziendale in autonomia quando viene commissionato un lavoro si parte ok anche qui stesso problema mettiamo una virgola parte sempre dall'idea ovvero la preproduzione primo degli step fondamentali per la realizzazione di un video la preproduzione è la fase di ideazione di un progetto oltre che quella organizzativa anzitutto ascoltiamo l'idea del cliente e cerchiamo di capire che tipologia di video serve e dove il contenuto multimediale dovrà essere veicolato in termini di piattaforme quindi se verrà inserito sulla home di un sito oppure lanciato su una campagna Facebook o ancora se verrà proiettato al cinema in questo step si stabilirà a cosa servirà il contenuto multimediale prodotto la combinazione di piattaforma e obiettivo renderà la scelta creativa ok qua inseriamo un e obiettivo obiettivo renderà la scelta creativa corrente con la mission del brand o dell'azienda se vuoi saperne ok come vediamo in questo caso ho riconosciuto anche delle parole al di fuori del dizionario italiano quindi brand emission ok direi che questo questo esempio è abbastanza esplicativo di quanto sia funzionale potente questa funzione e quindi non ci resta che creare il nostro sottotitolo adesso non lo facciamo di tutto il video perché non è questo l'obiettivo di questa lezione quindi creiamo dei sottotitoli cliccando sull'apposito pulsante e una volta cliccato su crea sottotitoli ci si aprirà questo pannello dove possiamo appunto andare ad inserire altre altre specifiche per la creazione appunto dei sottotitoli possiamo creare da trascrizione quindi vuol dire che sfruttiamo la trascrizione che abbiamo appena realizzato oppure creare una traccia vuota per andarli a scrivere manualmente in questo caso vogliamo sfruttare la funzione della trascrizione e possiamo scegliere altre diverse opzioni ovvero il tipo di sottotitolo quindi se un OP 47 australiano un CEA 608 scusate un CEA 608 o altre tipologie in questo caso sottotitoli predefiniti è quello che ci fa bene come formato va bene sottotitolo come stile va bene nessuno e abbiamo già la possibilità di selezionare dei parametri ovvero la lunghezza massima in caratteri per linea su 42 può andare bene durata minima in secondi e spazio tra i vari sottotitoli abbiamo la possibilità di selezionare che tutto sia su una singola riga oppure su una doppia riga diciamo che per lo standard dei sottotitoli questi parametri sono più che funzionali quindi possiamo cliccare su CREA e avremo su una traccia separata adesso chiamata sottotitolo in cui abbiamo effettivamente tutti i sottotitoli andiamo a vedere come come si è comportato il software a livello automatico benvenuto in questa guida al video dove ti spiego la maniera corretta per realizzarne una se si tratta di un'intervista o uno spot pubblicitario o uno evento quello che è bene sapere è che si deve passare per quattro step fondamentali da rispettare sempre al fine di ottimizzare il processo produttivo ok io direi che come sottotitolazione è più che buona quello che possiamo fare è magari chiudere questi buchi questi spazi tra un sottotitolo all'altro per evitare di avere questo spegni accedi dei sottotitoli però insomma non è niente che un cliente vi possa mai insomma in qualche modo ribattere dicendo come mai ci sono questi buchi oppure che appunto un utente possa trovare fastidioso a me piace che non ci siano dei buchi però effettivamente si può anche tralasciare questo aspetto e come vediamo come abbiamo visto i sottotitoli sono veramente realizzati in maniera ottimale cosa possiamo fare da questa nuova finestra sottotitoli possiamo modificare il singolo sottotitolo dalla grafica essenziale ok selezionandolo possiamo andare a modificare il font la sua impaginazione e tanti altri parametri di forma del test generalmente vi consiglio di avere riempimento bianco e un'ombra nera che è quello che vi consiglia di default e per quanto riguarda i font beh in realtà qua può essere utile quando si lavora con dei brand con un font specifico andare magari ad inserire il carattere del brand ok cos'altro possiamo fare premendo ctrl o command a possiamo selezionarli tutti qualora decidessimo di apportare delle modifiche a livello di stile del nostro sottotitolo e applicare delle modifiche direttamente a tutti i sottotitoli in questo caso 48 può andare bene e a livello di font possiamo veramente sbizzarrirci anche alla fine del nostro processo e dire no vabbè magari cambiamo utilizziamo un altro un altro font oppure perché no cambiamo colore dei font insomma possiamo veramente lavorare in totale libertà su questo fronte cos'altro possiamo fare tramite questi pulsanti abbiamo la possibilità di dividere il sottotitolo quindi selezionando il sottotitolo a cui facciamo riferimento e premendo questo tasto vedremo che in timeline ci si è diviso e questo può essere utile per applicare delle modifiche a una parte di testo oppure per dividere su due linee il sottotitolo quindi avere in questa guida al video dove ti spiego la maniera corretta per realizzare questa è la flessibilità che ci regala questa nuova funzione la velocità veramente di realizzazione incredibile la possibilità di personalizzazione in qualsiasi fase quindi insomma niente distruttivo niente perenne possiamo tornare indietro possiamo modificare anche una volta creata dalla trascrizione effettivamente la sottotitolazione quindi abbiamo veramente una flessibilità è uno strumento che ci velocizza di tanto il processo lavorativo abbiamo anche la possibilità di riunire i sottotitoli ok e un'altra funzione veramente incredibile è per esempio la funzione di ricerca quindi abbiamo la possibilità tramite questa funzione di ricerca appunto di andare a ripescare di evidenziare quando viene detta una determinata parola e questo può essere più utile di quello che si crede soprattutto quando si ha un lavoro molto lungo un video molto lungo a cui abbiamo realizzato i sottotitoli e in cui il cliente ci chiede magari senza darci le indicazioni di time code ma magari dicendoci modifichami quella parte dove mi parla dove parlo degli operatori eccetera allora noi andiamo a cercare operatori a livello di testo e subito verremo proiettati in in quella porzione di video e avremo evidenziate tutte le volte che quella parola viene detta quindi in realtà anche una funzione utile per navigare all'interno del contenuto vero e proprio abbiamo la possibilità con la ricerca di cercare una parola e di sostituirla con un'altra quindi ogni volta che viene detto per esempio operatori possiamo cambiarla con Giancarlo adesso è ovviamente casuale possiamo decidere se sostituire solo quella parola o tutte le parole adesso facciamolo magari con un esempio un po' più idoneo quindi ogni volta che dico video lo sostituiamo che viene detto spesso in questo video lo sostituiamo con Giancarlo e quindi vediamo come ogni volta che viene detto video ora appare la parola Giancarlo questo in cosa può essere utile per esempio quando il nome di un oggetto di un nome proprio o comunque una sigla particolare viene sempre individuata in maniera erronea dal software oppure ancora di più ci sono state delle variazioni in corso d'opera del video e abbiamo bisogno di sostituire a livello di testo quella parola con un'altra parola come in questo caso video con Giancarlo ci sono due modi per vivere queste funzioni o rivoluzioneranno il vostro modo di montare e per noi è così perché sono veramente un tool indispensabile oppure vi saranno totalmente indifferente ma questo dipende sempre dal vostro workflow e dalla vostra tipologia di clientela o comunque di lavori su cui operate maggiormente ok quindi siamo soddisfatti come me con questa faccia della sottotitulazione che abbiamo eseguito per questo per questo filmato allora siamo pronti per esportare il video e in fase di export abbiamo la possibilità abbiamo c'è una puntata apposita che spiega questa nuova modalità di export quindi vi rimando a quella qualora non siete ancora familiari con questo sistema abbiamo la possibilità nella fase di export di selezionare se esportare o meno i sottotitoli e cos'altro possiamo decidere possiamo decidere di masterizzare i sottotitoli nel video questo vuol dire che appunto i sottotitoli verranno impressi nel video oppure abbiamo la possibilità di creare un file collaterale questo può essere utile qualora si decidesse di applicare per esempio su facebook o su instagram o su youtube i sottotitoli direttamente dalla piattaforma creando appunto un formato srt in cosa può essere utile questa funzione beh soprattutto quando carichiamo appunto video su queste piattaforme il fatto di caricare il sottotitolo direttamente sulla piattaforma ci aiuta anche con la seo ok del video stesso quindi con l'indicizzazione del video stesso e può essere una funzione molto utile quindi quello che vi consiglio è di creare un file collaterale quindi un srt se dobbiamo pubblicare il nostro video su delle piattaforme social che prevedono dei sottotitoli proprietario che inseriti direttamente dalla piattaforma perché questo ci permette di avere la disattivazione l'attivazione in automatico o personalizzata dal player quindi è uno strumento in più che diamo all'utente al fruitore del nostro video se invece il video va messo su monitor ok di un locale allora sicuramente la masterizzazione del sottotitolo all'interno del video risulta l'opzione migliore e quindi avremo proprio i testi impressi dentro il video ok quindi direi che per questa panoramica diciamo veloce generale dei sottotitoli è tutto se avete dei dubbi delle perplessità sull'argomento o se volete che si facciano degli approfondimenti su alcuni temi perché insomma è un argomento abbastanza ampio fatecelo sapere nelle domande e risposte qua sotto a questa lezione e volentieri realizzeremo degli approfondimenti se hai appreso a pieno questo strumento questo argomento e sei pronto a passare alla prossima lezione ci vediamo dall'altra parte arrivati a questo punto avremo esplorato all'incirca tutti gli aspetti inerenti all'immagine e alla modifica di quest'ultima all'interno di Adobe Premiere Pro torniamo alla nostra sequenza del video finito semplicemente per semplificarvi quelli che sono alcuni concetti fondamentali dell'aspetto appunto dell'immagine per quanto concerne i valori di colorazione e di color correction come abbiamo imparato ormai all'interno di Premiere Pro abbiamo la possibilità di navigare attraverso dei pannelli predefiniti premendo sul pannello di lavoro dello spazio di lavoro inerente al colore ci si apriranno ci si apriranno determinati nuovi pannelli uno di questi è in assoluto il colore Lumetri che è il metodo più rapido con cui Premiere Pro ci permette di agire sul colore e la colorazione delle nostre clip e sinceramente a parer mio è anche il più efficace è potenzialmente anche l'unico con cui vi potreste approcciare per la realizzazione di una color nonostante appunto Premiere come abbiamo visto nel capitolo inerente agli effetti ci propone tantissimi effetti inerenti appunto alla colorazione del colore ma tramite il pannello colore Lumetri potremmo davvero eseguire una moltitudine di effetti un altro pannello che ci verrà aperto è quello dell'oscilloscopy Lumetri questo pannello come accennato anche in precedenza è un pannello che ci permette di avere la graficazione appunto sotto forma di grafico di quella che è la nostra immagine infatti se noi andiamo a scorrere la nostra immagine come vedremo questo questo elemento andrà andrà a muoversi a sua volta e potremmo riconoscere addirittura degli elementi come in questo caso delle mani noteremo come col muoversi degli oggetti e il l'afferrare delle mani verso il cestino vi sia una corrispondenza grafica piuttosto evidente e piuttosto riconoscibile di quelli che sono i movimenti all'interno della scena ecco questo ci dà la possibilità di individuare appunto la quantità e la tipologia di luminosità e di colore all'interno della nostra scena perché c'è utile utilizzare questo tipo di grafico beh perché non tutti noi sicuramente soprattutto che le prime armi dispone di pannelli calibrati che gli permettono quindi di avere una riproduzione su schermo dell'immagine perfetta e quindi inalterata da diversi fattori ecco questo è un aspetto molto importante che secondo me appunto il buon utilizzo di questo grafico può ovviare come vediamo vi sono altri diversi tipi di grafici che premier ci propone e ci dà anche la possibilità di andarli a personalizzare ci propone diversi predefiniti o ci propone di scegliere anche il tipo di scienza colore che vogliamo vogliamo sfruttare ecco diciamo che l'utilizzo veramente appieno delle sue capacità di questo di questo grafico è un qualcosa di molto avanzato che richiede richiede sicuramente anni di studio per utilizzarlo al suo alla sua massima potenzialità bisogna essere degli esperti dei tecnici esperti per quanto concerne l'ambito della colorazione dell'immagine ecco vediamo però alcuni aspetti che possiamo considerare per sfruttare questo grafico a nostro vantaggio innanzitutto andiamo a vedere quali sono i diversi tipi di grafici che premier in questo caso ci mette a disposizione allora abbiamo la possibilità di attivare il vettorscopio questo non è altro che un grafico che ci rappresenta su una color wheels una ruota dei colori dove il nostro colore tende a puntare quindi questo è un grafico molto utile per individuare la quantità di saturazione all'interno della nostra immagine come vediamo questa è un'immagine girata in log quindi diciamo la linea di colore e di contrasti anche come possiamo vedere da questo grafico è molto stretta è molto ristretta un altro tipo di grafico che ci viene proposto è sempre quello del vettorscopio però con la possibilità di individuare al suo interno quelli che sono i colori primari un altro tipo di grafico che potrebbe potrebbe esservi più familiare è quello sicuramente dell'istogramma e con l'istogramma è il metodo con cui insomma in maniera più classica si si calcola la l'esposizione di un'immagine un altro tipo di di grafico è quello allineamento rgb che non è altro che lo stesso grafico che abbiamo qua sulla sinistra semplicemente scomposto per i vari colori ok ecco teoricamente bisognerebbe conoscere tutti questi questi grafici nella loro complessità a pieno per poterli sfruttare al meglio ma noi basiamoci per esempio per per le nostre lavorazioni su questi due grafici qua che stanno ad indicare all'incirca le stesse cose ma possono semplificarvi l'apprendimento del loro funzionamento come vediamo quindi a sinistra abbiamo una fusione di quelli che sono gli elementi che noi vediamo in realtà sulla destra e abbiamo una rappresentazione grafica dell'immagine come vediamo quindi qua noi riusciamo a riconoscere il soggetto che si muove ad esempio ecco come vediamo scorrendo tra le varie clip notiamo che la posizione dell'elemento grafico è sempre diversa all'interno del nostro grafico appunto quindi questo che cosa determina determina una differenza di esposizione il metodo il metodo con cui noi calcoliamo l'esposizione all'interno di questo grafico è questa numerazione da 0 a 255 in questo caso o da 0 a 100 0 sta ad indicare il nero assoluto 100 o 255 sta ad indicare il bianco assoluto quindi tutto ciò che intercorre da 0 a 100 è la nostra immagine è la nostra quantità di colori e il nostro rapporto di contrasto questo che cosa vuol dire che se il nostro grafico rappresenta un'immagine che è più vicina a 0 assolutamente quell'immagine sarà più scura di un'immagine in cui siamo più vicini alla linea del 100 che cosa succede se la nostra immagine va a toccare lo 0 o a toccare il 100 andiamo a modificare adesso senza spiegarvi troppo la modifica che sto facendo andiamo a modificare i vari fattori come vediamo nell'immagine si creerà questo tipo di di smarmellio dell'immagine che altro non è che è un crash ovvero noi abbiamo crashato i neri abbiamo rotto i neri abbiamo abbassato talmente tanto il nero appunto da aver sfondato questa barriera questa linea ecco questo ci crea tutti quei difetti di immagine che magari appunto ad occhio nudo non riusciamo ad individuare ma che riusciamo ad individuare in maniera immediata tramite l'oscilloscopio perché appunto ci verrà vedremo che il grafico supera lo zero va incontro va a scontrarsi con questo zero e proprio da questo scontro nasce il termine crash quindi di crashare i neri stessa cosa ovviamente può essere può avvenire con un'immagine che si trova molto molto vicina al 100 in questo caso e quello che succede è andare a crashare a distruggere il dettaglio all'interno del bianco e quindi questo creerà l'immagine bruciata ovviamente per evitare questi fattori quello che si tenderà a fare è a realizzare delle riprese in base poi ovviamente questa cosa muta in base alla tipologia di ripresa che si effettua comunque che siano in valori tra il 30 e il 50 comunque mediamente sotto quei valori là come vediamo quindi in base a tutti a tutti i nostri grafici questa è l'immagine che presenta un'esposizione più bilanciata perché non tende né troppo verso il basso né troppo l'altro rimane più centrale quindi in questo caso noi abbiamo all'interno di tutta l'immagine un'esposizione visualizzata all'interno dei grafici più bilanciata ecco questo ci permette di scindere da quella che è la nostra considerazione visiva dell'immagine che può essere appunto alterata da diversi fattori come abbiamo già detto e avere un'analisi più scientifica dell'immagine stessa appunto ok come abbiamo visto prima siamo abbiamo affrontato quello che è il pannello delle correzioni di colori rumetri questo ci ha permesso in tempo reale di vedere un'evoluzione all'interno dello stesso oscilloscopio e quindi di vedere un'alterazione ecco noi tramite questo pannello possiamo andare ad alterare quelli che sono i principi di contrasto di esposizione di saturazione all'interno della nostra immagine come vediamo ad esempio questa è un'immagine flat quindi un'immagine priva di contrasto di saturazione dovuta alla tipologia di picture control che abbiamo utilizzato in ripresa questo ci ha permesso di acquisire molto più dettaglio ma di avere la necessità di recuperare questi fattori questi elementi lo si può fare tranquillamente con una loot chiamata appunto loot delog ecco se noi andiamo ad aprire i nostri vari pannelli che andremo ad esplorare uno alla volta all'interno del nostro pannello colore lumetri arriveremo a quelle che sono le correzioni di base altro non sono appunto le correzioni di base che le correzioni degli elementi di base infatti quello che lui ci permette di fare subito è una loot di input ecco la loot di input non è altro che appunto quella loot che andiamo ad inserire per ripristinare il colore naturale quindi noi abbiamo registrato il log per avere una quantità informazioni più alta all'interno delle ombre e delle luci adesso andiamo a ripristinare quelli che sono i corretti contrasti e la corretta saturazione questo lo possiamo fare appunto con una semplice loot andiamo a prendere la nostra loot di di delog quindi noi dovremmo possedere appunto un pacchetto di loot questa era una sony a 7s con un slog2 e quindi andiamo ad applicare ad esempio una loot di delog questa mi sembra che abbassi di troppo l'esposizione perché ovviamente ogni loot ha un suo modo di reagire diverso ecco come vediamo il nostro oscilloscopio è cambiato immediatamente le immagini adesso vengono rappresentate all'interno del nostro del nostro grafico molto più vicine allo 0 e molto più vicine al 100 questo perché il rapporto di contrasto è aumentato notevolmente grazie a questa loot e come vediamo abbiamo ripristinato una una corretta saturazione e un buon contrasto quindi questo è il primo elemento che noi possiamo modificare grazie a queste correzioni di base qualora appunto girassimo con un log che necessita del delog qualora non necessitassimo di questo elemento qua quello da cui partiremmo sarebbe sicuramente la ricerca di un corretto bilanciamento del bianco ecco questa immagine è correttamente bilanciata ma immaginiamo di arrivare con un'immagine di questo tipo Premiere ci permette di fare un bilanciamento più rapido grazie a questo pennino con cui andiamo noi a selezionare la parte bianca e lui ci andrà a bilanciare la clip secondo quel bianco là ovviamente quello che ho selezionato non è un bianco assoluto quindi la nostra immagine è più corretta per come era in partenza però sicuramente se ci troviamo in una situazione molto molto sbagliata di questo tipo questo questo elemento ci può aiutare ma quello che vediamo appunto è come anche il grafico ci possa aiutare vediamo che in una situazione del caso il blu è molto sbilanciato all'interno del grafico vediamo che il verde e il rosso sono più o meno simili all'interno del grafico e il blu è totalmente fuori quindi sicuramente nell'elemento della temperatura quello che andremo fare è abbassare il blu e come vedremo con l'abbassare del blu ci sarà un un cambiare dell'immagine e uno spostarsi degli altri elementi come vediamo abbassando il blu avremo alzato il rosso questo perché io ho aumentato anche la tinta nel magenta se andiamo ad abbassare il rosso come vediamo andiamo a portare di nuovo i valori su una situazione bilanciata quindi noi quello che possiamo assolutamente fare è giocare con questi valori osservando in maniera attenta quelle che sono le risposte del grafico in questo modo possiamo ottenere un'immagine bilanciata qualora non lo sia ecco dopo di questo quello che sicuramente ci permette di fare il colore lumetri è lavorare sull'esposizione ecco in questo caso noi abbiamo un'immagine tutto sommata tutto sommato piatta a livello di esposizione i contrasti ci sono ma possiamo andare ancora a lavorarci ecco ci lavoriamo con questo pannello di tono allora come funziona di per sé di base l'esposizione di un'immagine noi possiamo agire su quattro elementi principalmente i neri i neri assoluti quindi tutti quei valori che vanno da 0 a 10 o da 0 a 20 le ombre che vanno da 10 a 30 o da 10 o da 20 a 40 i mezzitoni che vanno da 40 a 60 e le luci che vanno da 60 a 80 90 o 70 90 e poi i bianchi che sono a 100 quindi noi abbiamo questa suddivisione in neri ombre mezzitoni luci e bianchi in questo modo noi abbiamo una suddivisione di questo grafico come vedete abbiamo delle linee anche più dense a delineare anche questa questa suddivisione qua abbiamo una suddivisione del grafico anche per questa categoria qua e ci viene riportata questa suddivisione qua anche all'interno di questo riquadro qua dell'esposizione quindi noi possiamo andare a lavorare su questi fattori l'esposizione non fa altro che spostare tutta tutto il grafico dell'immagine o più in alto o più in basso a seconda di come si vuole giustamente esporre l'immagine questo ovviamente più modifiche noi andiamo a fare all'interno di un file poi anche a seconda della sua tipologia della sua quantità di informazioni che può acquisire quindi dipende molto anche dal tipo di file che abbiamo più la quantità di modifiche che noi potremmo fare sarà diversa quindi in base alla grandezza del file se noi abbiamo un file molto leggero quindi anche magari non in log eccetera non potremmo andare a partire da una situazione di sottoesposizione del genere per poi esporre in digitale a questa situazione qua perché andremo a creare appunto andremo a danneggiare il nostro file a livello qualitativo quindi le correzioni che noi possiamo fare sono sempre limitate e quello che bisogna sempre cercare di fare è di avere un'immagine il più possibile esposta bene e quindi questo è il pannello che ci permette di controllare l'esposizione generale poi abbiamo un pannello che ci permette di controllare il contrasto questo questo pannello qua non fa altro che strecciare l'immagine quindi non fa altro che portare le luci sempre più vicine a 100 e le ombre e i neri sempre più vicine allo zero andando a dilatare tutto quello che sta in mezzo quindi questo è il valore di contrasto come vediamo esagerando i contrasti arriviamo quasi ad una rottura dei neri e come vediamo l'immagine sarà appunto molto più più scura ma anche le parti chiare molto più chiare quindi anche questo è un elemento con cui va giocata insomma in base anche al tipo di stile che vogliamo dare all'immagine pur rimanendo sempre dentro quegli elementi quindi poi abbiamo la possibilità di di lavorare su questi quattro macro fattori tralasciando i mezzi toni ecco i mezzi toni non vengono controllati in questo caso ma li si può controllare per via traversa utilizzando le luci e le ombre insomma fungono un po' da settore più ampio per quanto riguarda questa porzione qua quindi quello che possiamo fare è sicuramente alzare un po' le luci in quanto sono un po' più sbilanciate rispetto ai ai neri e andare ad alzare leggermente le ombre ecco già noi in questo modo abbiamo modificato ulteriormente il nostro grafico e potenzialmente preso più piacevole il colore della nostra immagine quello che possiamo fare è anche aggiungere della della saturazione e come vediamo la saturazione influisce all'interno del del grafico quindi quello che possiamo fare è anche aggiungere qualche punto di saturazione e in questo caso noi abbiamo già modificato notevolmente la nostra immagine e questo è per quanto concerne le correzioni base poi abbiamo il pannello creativo il pannello creativo ci permette di inserire delle look delle look di look che non sono altro che alcune delle look per esempio che il programma ci offriva prima che ci permettono di dare un look particolare estetico alla nostra immagine come vediamo appunto possono dare diversi toni come vediamo questa cosa ovviamente influisce anche come se osservate sulla sinistra il grafico influisce anche sul grafico quindi sicuramente va utilizzato sapientemente questo elemento qua questa per esempio una look questa per esempio è un look che ci andrà a bruciare totalmente i bianchi possono essere molto interessanti molto creative da utilizzare sicuramente con la giusta anche con il giusto mix mixaggio con quella che è la clip questo mixaggio avviene tramite l'intensità luce che non è altro appunto che la quantità di opacità che noi diamo a questa look a questa a questa look quindi se noi mettiamo zero è come se non ci fosse se mano mano che andiamo ad alzare questo valore andiamo ad influire maggiormente con questa look all'interno dell'immagine quindi questo può essere utile per dare velocemente un look creativo alla propria immagine quello che io vi consiglio comunque è di lavorare molto con i livelli di regolazione almeno quello che è il mio workflow è creare un livello di regolazione applicare quella che può essere la look di log sul livello di regolazione quindi che possa funzionare per tutte le clip in maniera tale da non dover fare tutte le volte l'operazione di serie la look di the log e poi applicare altri altri livelli di regolazione per quelle che pensiamo possano essere le regolazioni simili per tutte le clip ecco secondo me a mio parere utilizzare un livello di regolazione per eseguire una color correction sulle diverse clip non è il metodo efficace conviene eseguirle direttamente sulla clip addirittura quello che possiamo fare qualora la clip fosse ripetuta più volte è di andarlo a andare a eseguire le modifiche di color correction direttamente sul pannello principale che si trova qua invece che sulla clip inserita in timeline questo potrebbe semplificarci l'operazione ma insomma quelle sono tutte scelte di metodo di lavoro quindi come abbiamo visto siamo sempre all'interno della nostra clip noi possiamo in questo pannello creativo andare ad inserire una look una loot con un look e andare a modificare altri fattori che sono regolazioni per esempio per quanto riguarda la quantità di nitidezza o di durezza dei neri per quanto riguarda lo sbiadito come vedete i neri se andiamo anche a controllare sullo oscilloscopio con lo sbiadito si vanno ad alzare notevolmente sia i neri che i bianchi ad abbassare quindi questo può essere un metodo rapido qualora con le nostre modifiche fossimo tanto vicini al al 100 o allo 0 per andare a diciamo salvare quella quantità di dato la nitidezza semplicemente è il fattore che influenza sulla nitidezza dell'immagine e poi abbiamo la vividezza e la saturazione di nuovo quindi questi sono tutti fattori di come dire di look che possiamo dare alla nostra immagine un altro un altro modo per creare un look particolare quindi per isolare da quello che è il grading ma dargli già cioè per isolare da quella che è la color correction ma dargli già un tono all'immagine è quello di lavorare con la tinta delle ombre o la tinta delle luci ad esempio l'usatissimo teal e orange lavora con delle ombre sull'azzurro e delle luci sul arancione quindi noi in questo modo molto rapidamente possiamo dare un look più o meno estetico ricreando tramite tramite questo metodo un tipo di look poi abbiamo la tabella delle curve ecco le curve sono un altro modo di rappresentare probabilmente molto più complesse da utilizzare rispetto alla correzione di base di eseguire delle correzioni base le curve ci permettono di agire su quella che è una rappresentazione del grafico su un diverso asse come vediamo qua sui diversi punti per esempio in questo quadrato noi andremo ad agire sulle ombre e come vediamo se io vado a puntare verso il basso questo punto qua andrò ad agire sulle ombre la curva ci permette di creare appunto delle curve di contrasto quindi possiamo semplicemente abbassare alzare uno dei due vertici all'interno di questa di questa retta oppure possiamo andare ad inserire dei punti ovviamente come in una linea se noi andiamo ad inserire un punto questo punto andrà a creare di conseguenza in base gli altri rispettivi punti delle curve ecco perché viene il nome curva quindi per agire sulle curve diciamo che c'è la necessità di conoscere quelli che sono gli espedienti che utilizzano quindi sono molto utili in realtà per creare contrasto andiamo a vedere come se noi andiamo ad azzerare quelle che sono le modifiche che abbiamo fatto quindi torniamo alla situazione di partenza le curve per tornare per resettare quelli che sono dei valori basterà cliccare semplicemente due volte col tasto sinistro sul singolo valore e lui li riporterà a zero stessa cosa per le curve se noi creiamo delle curve doppio tap e torniamo a zero senza usare per forza ctrl z ecco la curva è molto utile per creare del contrasto ad esempio perché noi con l'abbassare dei neri possiamo semplicemente creare in maniera molto molto rapida una curva di contrasto ovvero abbassiamo i neri abbiamo un incremento costante verso le luci per poi arrivare al punto più alto sulle luci che poi si vanno di nuovo ad abbassare sui bianchi quindi abbiamo questa questa specie di S che si crea insomma è molto semplice andare ad agire sui fattori di contrasto e quindi è molto più più preciso in realtà come metodo ma richiede una conoscenza molto molto più avanzata di quella che è il di quelle che sono le conseguenze delle nostre azioni poi anche sul grafico quindi così noi possiamo andare tranquillamente a creare i nostri rapporti di contrasto le curve ci permettono anche di lavorare sui singoli colori ed ecco che torna l'utilizzo di questo grafico qua come vediamo su questo grafico abbiamo il rosso il verde e il blu e nelle curve abbiamo la possibilità di agire sul rosso sul verde e sul blu in maniera separata a cosa può essere utile questa cosa qua sicuramente per lavorare su fattori di saturazione e su fattori di bilanciamento perché come vediamo noi possiamo avere come vediamo nel grafico noi possiamo avere dello sbilanciamento del colore per quanto riguarda la tinta che ha l'immagine che per quanto riguarda anche la sua temperatura diciamo che il fattore temperatura viene espresso dal rapporto tra rosso e blu e quello di tinta dal verde quindi se per esempio noi andassimo a creare un'immagine molto sbilanciata sul verde sulle curve potremmo andare ad individuare quel verde ed andarlo ad eliminare in maniera precisa andando così a modulare vedete la la tab del verde quindi così possiamo tornare più o meno a una situazione adesso fatta in maniera molto rapida a una situazione di bilanciamento ottimale quindi le curve ci permettono di agire in maniera sicuramente molto 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 precisa su quelli che sono questi fattori quindi qualora noi con il semplice utilizzo di temperatura e tinta non riuscissimo ad avere il tipo di immagine che desideriamo di sicuro la curva con l'inserimento dei suoi punti e delle sue linee di contrasto ci permette di far oscillare in maniera più precisa il nostro grafico quindi questa è la funzione delle curve le curve possono anche essere utilizzate per dare un look all'immagine o per andare ad abbassare determinati o alzare determinati valori che ci sembrano sbilanciati rispetto al resto della scena se per esempio abbiamo una scena con molti elementi rossi sicuramente agire sulla curva del rosso li farà risaltare di più e poi abbiamo tutta un'altra serie di curve come abbiamo detto prima le curve si basano sul contrasto che viene creato abbiamo la possibilità di creare delle curve di contrasto in rapporto in rapporto tra tonalità e saturazione in rapporto tra tonalità e tonalità e tra tonalità e luma che non sarebbe altro che la luminosità e poi luma saturazione saturazione e saturazione tutti questi queste tipologie di curve vanno a creare dei dei rapporti di contrasto con un elemento o con l'altro adesso andiamo velocemente a visualizzare quelle che sono le possibilità che ci danno queste curve in quanto il loro studio è comunque un argomento abbastanza avanzato tonalità e saturazione ci permette di individuare ad esempio questo rosso del melograno e di andarne e di andarne ad aumentare o diminuire la saturazione ovviamente qua è fatto in maniera molto rapida ma come vediamo possiamo andare a selezionare un colore un determinato colore con questo pennino come abbiamo già imparato a conoscere e quindi eseguire le modifiche tramite cioè la selezione tramite questo pennino oppure possiamo andarlo a fare in autonomia inserendo i punti e andando a variare determinati elementi di colore tramite questa questa linea qua quindi noi andiamo a selezionare la tonalità che ci interessa e a modificarne la sua saturazione tonalità tonalità non fa altro che cambiare il colore della selezione che noi eseguiamo quindi questo rosso ci sembra troppo acceso lo andiamo a mutare in un altro colore ok e questo ci permette di cambiare la tonalità di un colore che selezioniamo se per esempio noi volessimo in maniera più precisa cambiare il colore su dei singoli elementi quello che ci viene in aiuto è sicuramente l'utilizzo delle maschere mettiamo caso appunto di voler cambiare il colore solo a questo melograno qua sicuramente innanzitutto quello che andremo fare è inserire un altro livello colore lumetri quindi su effetti andremo a cercare colore lumetri ok una volta inserito torniamo pure al nostro pannello e qua abbiamo la possibilità di avere due effetti perché perché un effetto è quello che riguarda sicuramente l'aggiustamento del dei contrasti e della luminosità e l'altro è quello su cui noi appliceremo l'effetto di cambio del colore di questo melograno di questo frutto quindi quello che possiamo fare è selezionando questo effetto andiamo sicuramente a cambiare il colore di questo melograno in in così viola e poi andiamo a mascherare questo elemento come vediamo l'effetto che noi abbiamo la possibilità di creare maschere direttamente sui vari effetti l'effetto sarà applicato solo su un determinato elemento quindi noi avremo la possibilità di cambiare il melograno di cambiare il colore solo di quel melograno là perché abbiamo la volontà di farlo ecco come vedete l'immagine è in movimento in realtà con questa maschera andrebbe già bene ma se noi volessimo creare una maschera molto precisa qua ci rientra in aiuto il tracciato della maschera quindi sicuramente andare a tracciare la maschera ci permetterà di avere una tenuta all'interno del movimento di camera della nostra maschera durante tutta la clip quindi lo possiamo fare in maniera automatica oppure manualmente andando a spostare di volta in volta la maschera attivando la creazione dei keyframe quindi così noi all'interno della nostra immagine avremmo tracciato questo melograno con un colore diverso dagli altri quindi questa è la possibilità diciamo creativa o funzionale che ci dà la tonalità tonalità immaginate per esempio di avere una palette colori ben precisa e di avere all'interno della vostra scena un elemento di un colore non conforme alla vostra palette colori sicuramente questa possibilità vi tornerà molto utile ok andiamo ad eliminare questo effetto per tornare alla spiegazione normale e vista tonalità e tonalità abbiamo tonalità e luma che altro non fa che appunto come abbiamo detto prima aumentare la luminosità di una determinata selezione di colore ecco questo può essere molto utile per fare delle selezioni di colore ad esempio sull'incarnato dei soggetti ed aumentarne la loro esposizione un altro elemento che abbiamo è luma saturazione quindi possiamo andare a togliere saturazione ad elementi molto scuri per esempio se i nostri elementi scuri risultano troppo accesi noi possiamo andare a dire che ad un determinato punto di luminosità corrisponde un abbassamento o un innalzamento della saturazione quindi questo può essere utile per esempio quando abbiamo delle fonti luminose molto colorate o comunque con dei colori disturbanti possiamo andare a decidere di azzerarne la saturazione almeno per quanto riguarda i punti luce io utilizzo questo metodo per rendere il nero nero assoluto quindi vado molto stretto sul nero e il bianco bianco assoluto andando molto stretto sul bianco questo può essere un piccolo glitch per avere neri e bianchi molto precisi ok viste le curve in generale abbiamo la corrispondenza e ruota di colori ecco questo è un elemento che possiamo utilizzare soprattutto in ambito creativo quindi per dare un look alla nostra immagine come abbiamo visto abbiamo di nuovo la suddivisione in questo caso ombre luci e mezzi toni abbiamo la possibilità di applicare un determinato tipo di colorazione per esempio le ombre quindi andiamo a ricreare di nuovo il tile orange ombre blu mezzitoni arancioni e luci arancioni e in questo caso abbiamo creato di nuovo in maniera molto blanda il look tile orange e in questo modo possiamo anche andare a abbassare ancora quello per quanto concerne l'esposizione solo delle ombre alzare l'esposizione dei mezzi toni e modificare l'esposizione delle luci quindi questo è un altro tipo di controllo che Premiere ci offre poi abbiamo l'HSL secondario questo è un concetto già molto più avanzato si basa sulla possibilità di selezionare un determinato colore quindi sulla selezione colore quindi in un concetto che abbiamo già già visto precedentemente e di creare delle maschere semplicemente sul colore ecco questo è un argomento molto avanzato io non penso che su Premiere si possa fare in maniera molto precisa questo tipo di selezione io ad esempio utilizzo DaVinci Resolve per fare questo tipo di selezione non mi sono mai spinto in una color così avanzata su Premiere può comunque tornare utile per fare operazioni molto semplici come appunto il cambio di un determinato colore quindi possiamo creare una maschera ad un colore selezionando con questo strumento la tipologia di colore andare a visualizzare la tipologia di maschera selezionando questo riquadro qua che ci mostrerà la maschera ed andare ad aggiungere appunto altra quantità di colore come vediamo lavorando su questi su questi elementi qua che sono nient'altro che la H che sta ad identificare la tipologia di colore la tinta la S che sta ad identificare la saturazione che ha quella tinta e la L che sta ad identificare la luminosità quindi noi lavorando su questi questi fattori qua possiamo andare a creare delle maschere su colori simili per poi andare ovviamente a lavorare su quelle che sono le riduzioni di disturbo le sfocature tutte queste cose che permettono di creare una maschera più morbida e poi ad andare ad eseguire delle correzioni solo su determinati tipi di colore quindi un po' il concetto che abbiamo visto prima in maniera sicuramente molto più avanzata e sicuramente molto funzionale se combinato alle maschere ecco non ci andiamo a soffermare più di così su questo concetto in quanto molto avanzato in ogni suo aspetto ultimo elemento è la vignettatura di preset con questo tipo di 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 effetto che Premiere ci propone come effetto principale per la color correction abbiamo la possibilità di aggiungere una vignettatura molto semplicemente e di andarla a personalizzare in tutti i suoi aspetti quindi questo è il metodo con cui tramite Premiere Pro possiamo adagire al 100% su quello che concerne il colore di una il colore delle nostre immagini sicuramente utilizzare in maniera sapiente quelle che sono gli altri aspetti che abbiamo imparato prima utilizzare in maniera intelligente un livello di regolazione ad esempio per inserire le loot in maniera molto rapida su tutte su tutta la nostra la nostra immagine e poi andare semplicemente ad aggiustare quelle che sono le esposizioni come vedete le esposizioni sono molto molto differenti e quindi poi andare semplicemente a lavorare per singola clip su correzione colore renderà poi il vostro workflow molto più più rapido e meno meccanico comunque vi consiglio sempre di provare di tenere sempre d'occhio mentre fate le vostre operazioni anche se non ne conoscete appieno al 100% la scienza con cui funziona anche con semplicemente questi accorgimenti che vi ho detto io andare sempre a dare un occhio a questi elementi qua non dimentichiamoci della possibilità di inserire effetti per quanto concerne sempre la color correction effetti predefiniti che il programma ci offre per velocizzare il nostro lavoro o effetti molto molto utili come il sostituisci colore che ci permette di selezionare una tipologia di colore e sostituirlo con un altro in maniera molto rapida o o come per esempio il limitatore video che è una cosa molto interessante che ci permette di andare a non non superare i valori che abbiamo indicato prima quindi questo può essere un metodo per visualizzare quel crash del nero o del bianco quindi abbiamo tantissimi strumenti su Premiere Pro per quanto concerne la color correction abbiamo analizzato come eseguire la color correction e quali sono gli elementi che ci serve conoscere per farlo e quello che ci limita adesso è solo la nostra creatività benvenuti in questa nuova lezione oggi riprendiamo un argomento anzi due argomenti che a me sono molto cari che sono l'aggiornarsi e l'andare avanti con le innovazioni che la tecnologia ci offre e la color correction molto spesso questi due argomenti questi due argomenti vanno in contrasto tra di loro perché gli automatismi tutto ciò che rende comunque questo processo che è molto importante molto scientifico molto creativo anche perché no molto artistico con gli automatismi vengono in qualche modo questi processi distrutti non è il caso secondo me della nuova implementazione che l'aggiornamento di Premiere Pro 2022 ci offre secondo me non ci troviamo di fronte a un automatismo totalmente distruttivo nei confronti dell'immagine e della qualità della nostra immagine ma ben sì di qualcosa di utilizzabile per scoprirlo andiamo quindi subito nel pannello colore ci apriamo il nostro oscilloscopio e come vedete nel Lumetri Color in correzione di base è apparsa una nuova funzione ovvero automatica questa funzione secondo me non va utilizzata generalmente però su dei progetti molto veloci in cui insomma non dobbiamo curare l'immagine in maniera troppo dettagliata ma ben sì abbiamo bisogno di lavorare in velocità e di avere un aggiustamento comunque affidabile questa funzione può tornare utile andiamo a vedere come si comporta in diverse situazioni allora cliccando vediamo che le modifiche che apporta all'immagine ok abbiamo visto che c'è stato un cambiamento a livello di oscilloscopio facciamo un prima e un dopo ok sono minime e quando le modifiche sono minime secondo me sono anche buone perché non va a stravolgere distruggere l'immagine tenendo conto anche del fatto che comunque il file che abbiamo non è un file in questo caso il file di una gopro non è un file che possiamo stravolgere e il fatto che le modifiche siano minime lo rende appunto utilizzabile abbiamo comunque migliorato leggermente l'immagine l'immagine andava anche già bene prima cioè anche da dire questo però abbiamo avuto un miglioramento e come vediamo il tipo di modifiche che ha fatto sono tutte a livello di correzione di base quindi su modifiche tutto sommato accettabili ok che non sono troppo distruttive per l'immagine quindi abbiamo visto che ha modificato leggermente la temperatura possiamo vedere qua la tinta di pochissimo la saturazione ha modificato l'esposizione alzandola leggermente ha diminuito il contrasto ha diminuito le luci ha diminuito le ombre insomma ha creato comunque una S ok delle delle modifiche con valori non esagerati accettabili e quindi l'immagine ha preso più corposità quindi devo dire che in questo caso in questa situazione specifica è promosso ok poi considerando che l'immagine ha tante variazioni devo dire che è promosso andiamo a una situazione del genere in cui l'immagine è sottoesposta abbiamo una grande un'area invece molto sovraesposta adesso zoomiamo ok per fare sì che occupi tutto lo schermo questo video vediamo qui come si comporta ok vediamo un primo un dopo devo dire che anche qui non è stato totalmente distruttivo quello che ha fatto secondo me non è quello che avrei fatto io per migliorare questa immagine per migliorare questa immagine avrei alzato molto di più le ombre però tutto sommato insomma non ci ha stravolto l'immagine quindi questo cosa ci fa capire che potenzialmente questo tipo di software questo tipo di automatismo in certe situazioni in quasi tutte le situazioni è utilizzabile senza creare perlomeno dei danni irreparabili andiamo in un'altra situazione vediamo sempre scalando come si comporta come vedete qua abbiamo anche un oscilloscopio un oscilloscopio particolare non totalmente uniforme quindi vediamo come si comporta e anche qua devo dire che comunque a livello di brillantezza generale dell'immagine abbiamo avuto un miglioramento ok invece in questo caso andiamo a vedere come si comporta questa feature con una clip in log ok in vlog andiamo a vedere ok come vediamo insomma qua interviene in maniera maggiore però ovviamente non ci ripristina il nostro log ok questo è importante non va a sostituire comunque quelle che sono le operazioni apriamo anche lo oscilloscopio per vedere meglio un prima e un dopo non ci va a sostituire quelle che sono le operazioni che noi dobbiamo fare ok per ripristinare al meglio un'immagine dal log renderla poi in in REC 709 possiamo farlo ovviamente manualmente con le curve o con queste impostazioni qua oppure con una loot di una loot di ripristino ok guardiamo il prima e dopo dell'oscilloscopio ok sì abbiamo un miglioramento ma comunque non è non è un'immagine totalmente ripristinata questo vuol dire che si può utilizzare ma non è uno strumento su cui fare totalmente affidamento anche perché come possiamo vedere l'immagine risulta comunque sbilanciata ok perfetto adesso invece andiamo togliamo tutti gli attributi di queste cose qua e andiamo a vedere una nuova funzione che secondo me per me è un po' fissato della color correction può essere veramente una svolta per questo software perché attualmente a livello professionale si si può utilizzare ma se devi fare quel qualcosa che ti dia veramente quello step in più ok non è il software che utilizzerei sinceramente però abbiamo adesso una nuova funzione finalmente e andando dal nostro pannello progetto a trovare qualsiasi nostro file multimediale in questo caso questa clip della GH5 in VLOG abbiamo la possibilità con il tasso destro andando su modifica ed su interpreta metraggio impossibile da dire avremo la possibilità di intervenire oltre a tutta una serie di cose che non vediamo in questo momento sulla gestione colore quindi questo è il primo passo da parte di Adobe e quindi di Premiere primo passo della gestione del colore tramite il color management e quindi abbiamo la possibilità di gestire lo spazio colore ok quindi si può utilizzare lo spazio colore del file oppure andare a selezionare un altro spazio colore questo è molto utile e in questo caso per questa clip non è quello che ci serve ma è un primo passo nei confronti del color management che è un argomento davvero interessante importante e che ci permette di avere un riprissino della nostra del nostro file di origine ok quindi da il log a un rec 709 quindi un'immagine a pieno contrasto a pieni colore a piena saturazione tramite un metodo matematico scientifico e non più tramite una loot che altro non è una loot di riprissino delle impostazioni mettiamo caso delle correzioni di base che noi salviamo e che applichiamo su tutte le immagini quindi non è esattamente una cosa matematica e scientifica con cui noi modifichiamo la clip ok quindi in realtà il color management è il modo migliore per ripristinare il colore di un'immagine ovviamente questo è un argomento che io sto solo accennando ed è molto complesso però anche qui abbiamo la possibilità di inserire la loot già in origine sulla clip da qui da questa funzione loot di input possiamo già caricare ok andando per esempio noi dove abbiamo le loot ok andare a caricare direttamente la loot di vlog ok la loot di delog direttamente all'input vedete quanto è differente l'immagine rispetto al ripristino automatico e poi magari potenzialmente andare ad applicare la nostra automatica ok ed avere già comunque un buon lavoro con pochi semplici click ovviamente qua è fatto su una clip ma nessuno ci vieta di selezionarle tutte di fare modifica interpreta trametraggio e inserire la loot adesso non è la loot di quelle clip per quelle clip là perché sono della gopro però in un click abbiamo aggiunto una loot di ripristino a tutto il nostro materiale ecco che ritorna quello che abbiamo detto nella prima puntata di aggiornamento del software il fatto di rendere tutto quanto sempre più automatizzato tutto quanto sempre più veloce e sicuramente per anche la tipologia di contenuti che sempre di più vanno per la maggiore ovvero contenuti veloci rapidi fatti sul momento questa filosofia ritorna utile ovviamente nei progetti professionali nei grossi spot o quando farete il progetto della vita non vi consiglio di cercare troppe scorciatoie troppi automatismi vi consiglio di lavorare clip per clip soprattutto in questa fase di apprendimento e su questo appunto vi rimando a esercitarvi con le esercitazioni che abbiamo sviluppato per voi se avete dei dubbi delle domande su questo argomento volete che venga approfondito volete creare un dialogo su qualcosa che non vi è chiaro e su cui vorreste comunque delle delucidazioni vi chiedo di aprire un dialogo appunto delle domande e risposte che si trova sotto questa lezione se invece vi è tutto molto chiaro e siete pronti ad andare avanti con le lezioni teoriche e perché no a esercitarvi con quelle pratiche ci vediamo alla prossima lezione un altro pannello essenziale che Premiere ci offre è quello dell'audio essenziale in questo pannello selezionando le clip avremo accesso a tutta una serie di preset di diverse categorie che noi potremo applicare all'audio ad esempio qua questo audio vabbè audio camera è molto sporco ma potremmo applicare degli effetti audio inerenti al dialogo che ci permetteranno con pochi semplici click di raggiungere una pulizia una chiarezza dell'audio molto più ampia vi sono per esempio degli effetti che possiamo inserire degli effetti creativi di preset che andranno a modificare diversi fattori oppure possiamo semplicemente andare a aumentare la dinamica andare a ridurre il disturbo il rimbombo effettivi della clip e andare per esempio a equalizzarla in maniera del tutto automatica quindi questo ci permette di effettuare delle modifiche audio molto complesse in maniera molto rapida e immediata senza dover conoscere effettivamente come funzioni l'equalizzazione o come funzioni la chiarezza o come si faccia a ridurre il rumore video quindi questo è un pannello che di per sé ci permette di fare veramente e di migliorare notevolmente i nostri video qualora non avessimo determinate competenze importanti ad effettuare tutta questa serie di modifiche in maniera ottimale ok e quindi il pannello audio essenziale ci permette di inserire tutta questa serie di preset audio senza conoscere per forza quelli che sono gli aspetti inerenti a questi effetti sia per quanto riguarda guarda l'audio sia per quanto riguarda la musica gli effetti ambientali o gli effetti sonori quindi questo diciamo che è un vantaggio molto grande per chi per chi sta imparando magari non ha avuto ancora il tempo di acquisire tutte le nozioni necessarie ad effettuare un montaggio audio complesso e avanzato ma gli permette comunque di raggiungere degli ottimi risultati con questi semplici effetti arrivati a questo punto avremmo esplorato nella sua completezza e nella sua interezza Adobe Premiere Pro come programma avremmo notato come alcuni argomenti sono ancora ampliamente esplorabili a livello a livello tecnico e sicuramente teorico ovviamente imparare tutto ciò che concerne questo programma richiede anni e anni di allenamento ma sono sicuro che già arrivati a questo punto avrete la capacità di imparare con le nozioni apprese a sviluppare da zero un video ok l'ultimo aspetto che dobbiamo imparare a padroneggiare a livello di competenze è l'aspetto audio l'audio è il 50% di ogni video a mio parere a meno che voi non facciate video prettamente musicali l'importanza di un buon montaggio e di una buona cura dell'audio come abbiamo già esplorato nelle diverse puntate teoriche è qualcosa di fondamentale e che può valorizzare la vostra produzione o comprometterne addirittura il risultato finale quindi andiamo in una clip contenente dell'audio e andiamo fin da subito a vedere che cosa riusciamo a visualizzare dell'audio quando riproduciamo una clip contenente dell'audio una cosa che subito noteremo è l'inalzarsi di questi livelli qua infatti questo pannello questo strumento non fa altro che permetterci di visualizzare il picco dell'audio quindi dove i nostri decibel arriveranno a livello di picco sonoro questo pannello è un po' irrispettivo per quanto riguarda l'audio degli oscilloscopi e qualora non dovessimo visualizzarlo lo possiamo tranquillamente trovare su finestra controlli audio questo ci permette di avere un controllo visivo di quello che è l'output audio che abbiamo come vedete ci sono dei valori che vanno da meno infinito db a meno 0 db in cui 0 sta per il picco assoluto in cui andremo ad avere un clip audio quindi una distorsione dell'audio e meno infinito db sta per il silenzio assoluto quindi il principio di ragionamento è molto simile il principio di funzionamento è molto simile a quello dell'oscilloscopio per il video quindi andiamo a vedere che cosa ci offre Premiere con il suo spazio di lavoro dedicato all'audio e ci offre la possibilità di avere un'impostazione di lavorazione di questo tipo in cui sicuramente viene meno la visualizzazione del monitor programma in quanto pronti a lavorare prettamente per quanto riguarda l'audio allora queste clip qui non hanno un audio effettivo di registrazione quindi andiamo ad incidere un voiceover così anche da capire come potenzialmente incidere dell'audio su Premiere Pro quindi prima di iniziare andiamo a vedere come è composto lo spazio di lavoro per quanto concerne l'audio o almeno quello che è suggerito da Premiere abbiamo sulla destra la possibilità di utilizzare l'audio essenziale in quanto questo pannello che abbiamo già analizzato ci permette di modificare l'audio in maniera molto semplice e veloce con dei preset studiati dal programma questo ci evita di avere determinate competenze poi qua abbiamo il mixer che altro non fa che darci la possibilità di mixare i determinati volumi all'interno del nostro progetto lavorativo poi abbiamo il pannello di progetto e in piccolo il programma allora andiamo ad incidere un piccolo parlato per vedere come fare e per poter lavorare in maniera più dettagliata su una fonte audio un po' più pulita allora nel caso voi non aveste questo strumento che riguarda appunto la registrazione della voce fuoricampo per farlo apparire insomma basterà premere il tasto destro andare su personalizza e lo troverete tra gli editor dei pulsanti ok nel nostro caso noi lo abbiamo per registrare l'audio non dovremmo fare altro quindi che premere questo pulsante e allora inizierà un countdown e poi la registrazione vera e propria dell'audio come vediamo in base alla traccia che abbiamo selezionato vedremo il valore dell'audio appunto indicato anche sul mixer sulla determinata traccia e una volta che interromperemo la registrazione avremo nel progetto realizzata un'incisione audio e quindi ci salverà un file audio in wave come vediamo in questo caso noi dato il microfono che stiamo utilizzando abbiamo una registrazione audio in mono e poi la registrazione vera e propria dell'audio come vediamo quindi la registrazione audio sarà in mono e per renderla in stereo semplicemente ci sono diversi passaggi che noi possiamo possiamo sfruttare ma andiamo a vedere effettivamente come è composto il nostro audio se noi andiamo ad allargare infatti il livello audio potremmo analizzare in maniera più precisa quella che è la composizione effettiva del nostro livello audio quindi questo è il nostro livello audio come vedete è raffigurato con questo con questo waveform con questa con questo grafico appunto che tende a a farci visualizzare l'audio in qualche modo allora prima di tutto la prima cosa che possiamo fare qualora l'audio fosse in una sorgente mono andare su canali audio ed andare semplicemente a duplicarne i canali quindi tasso destro canali audio se vediamo che uno dei due canali è disattivato possiamo andare ad attivare anche l'altro canale e così il nostro audio è estereo come potete vedere estereo lo possiamo vedere anche dal nostro indicatore di livello audio adesso questo audio in realtà è già molto pulito e come possiamo vedere dal nostro pannello di audio essenziale potremmo applicare una determinata quantità di effetti per avere una differenza adesso io vi faccio vedere vi faccio ascoltare anzi la differenza dell'audio originale e poi dell'audio con gli effetti questo è l'audio originale e poi la registrazione vera e propria dell'audio come vediamo in base alla traccia che abbiamo selezionato vedremo il valore dell'audio ok e questa adesso è la traccia che andremo a modificare insieme con dei dei leggeri delle piccole modifiche che andiamo a fare a livello di riduzione del disturbo a livello di chiarezza e dinamica a livello di equalizzazione dando come una voce di una presenza vocale e un'ottimizzazione del discorso per l'uomo e poi andando ad incrementare il volume ecco questo è come suonerà la clip dopo aver fatto questi brevissimi e semplicissimi passaggi un countdown e poi la registrazione vera e propria dell'audio come vediamo in base alla traccia che abbiamo selezionato vedremo un il valore dell'audio appunto indicato anche sul mixer sulla determinata traccia e una volta che interromperemo la registrazione ok quindi come abbiamo potuto ascoltare ma anche vedere a livello grafico c'è stato un cambiamento radicale di quello che è l'audio andando sul controllo effetti andiamo ad eliminare gli effetti che abbiamo applicato io vi consiglio di utilizzare in maniera molto più semplice questo pannello dell'audio essenziale per quello che concerne le modifiche dell'audio senza andare a provare ad utilizzare effetti di cui non conoscete effettivamente l'utilizzo arrivati a questo punto avremmo sicuramente esplorato già anche inconsciamente o per vie traverse il concetto di audio andiamo adesso ad esplorare brevemente alcuni concetti molto basici per comprendere al meglio il come poi reagisce l'audio per l'appunto e perché reagisce in un determinato modo alle nostre azioni come vediamo una registrazione audio si tramuta all'interno del software in una rappresentazione grafica di questo tipo ecco questa è la raffigurazione grafica la digitalizzazione dell'audio e si chiama forma d'onda questa ad esempio è una registrazione vocale e possiamo notare come sia ben diversa la forma d'onda appunto la rappresentazione la rappresentazione grafica rispetto a questo altro tipo di registrazione che non è altro che un battito di dita quindi possiamo vedere proprio a livello visivo quanto sia differente il suono nella forma d'onda all'interno della forma d'onda possiamo andare ad esplorare in realtà un'altra un'alta moltitudine di concetti quelli più basilari più importanti per comprendere anche il resto delle funzioni sono sicuramente la lunghezza d'onda che non è altro che la distanza che vi è se andiamo a zoomare tra una crespa che è questo tipo di picco qua e l'altra e l'ampiezza che non è altro che l'altezza dell'onda stessa l'altezza determina il volume e la lunghezza determina la frequenza ecco questi sono concetti che possono sembrare molto complicati ma in realtà sono molto basici possiamo sapere semplicemente che con un'ampiezza più grande avremo un volume più alto con un'ampiezza più piccola un volume più basso quindi per esempio qui dove abbiamo dei picchi più alti il volume sarà più alto dove abbiamo dei picchi delle crespe più basse il volume sarà più basso mentre per quanto riguarda la frequenza possiamo sapere che con frequenze più basse si hanno suoni più più gravi mentre con frequenze più alte quindi con picchi molto più vicini suoni più acuti si possono trovare sicuramente informazioni più dettagliate su google tutorial apposta per quanto concerne il mondo audio diciamo che il mondo audio è un mestiere a sé stante quindi quello che serve a noi come videomaker è conoscere questi semplici concetti per poter applicare una miglioria al video ma sicuramente in produzione di un certo tipo vi sarà un tecnico apposito che sicuramente farà un lavoro migliore allora un altro concetto che è utile sapere a livello teorico è quello appunto dei campioni audio i campioni audio non sono altro che la quantità di informazioni finite un valore di informazioni finite che vengono acquisite al secondo sembra un concetto molto complicato ma anche qui è molto semplice un suono analogico non ha un numero finito di informazioni al suo interno quindi i numeri potenzialmente vanno da 0 a 1 sono infiniti mentre nella digitalizzazione dell'audio questo non avviene quindi i numeri che vanno da 0 a 1 sono finiti quello che li definisce appunto è il campioni audio e quindi la quantità di campioni audio determina anche la sua qualità quindi noi sappiamo che lo standard per avere un ottimo suono a livello di video è 48000 un altro concetto che si lega a quello dei campioni audio è quello della profondità di beat noi adesso su Premiere non abbiamo la possibilità di osservare una raffigurazione molto precisa ma già solo con software come Audition abbiamo la possibilità di zoomare in maniera così precisa da riuscire a vedere tutti i punti che ci sono tra un picco e l'altro ok benissimo questo è è la forma d'onda vista su un software che ci permette di zoomare in maniera molto più precisa come Adobe Audition possiamo andare a vedere zoomando sempre di più come appunto la differenza dei picchi sia consistente se andiamo a zoomare ancora di più possiamo notare che questa forma d'onda è formata da tanti piccoli puntini li vedete ecco questi qua questi puntini qua non sono altro che i campioni audio ovvero dei pacchetti di informazioni contenenti informazioni e come vedete sono un numero finito come dicevamo prima nell'audio nell'audio analogico questo numero di puntini sarebbe infinito mentre appunto nella digitalizzazione dell'audio abbiamo un numero ben preciso e la quantità di questi puntini quindi viene determinata dalla frequenza di campionamento dell'audio questo ci permette di avere molti più puntini all'interno di una stessa quantità di tempo e quindi di aumentare la quantità di informazioni e la qualità finale dell'audio ecco perfetto ma questi puntini a loro volta hanno al loro interno una quantità ben definita di informazioni ecco questa quantità ben definita di informazioni all'interno del singolo puntino si misura in bit più sarà grande il quantitativo di bit maggiore sarà la quantità di informazioni all'interno del singolo campione audio questo ci permette oltre ad avere una qualità e una elasticità maggiore in fase di montaggio di avere anche una flessibilità maggiore a livello di modifica in decibel un aspetto molto importante per esempio nell'ambito video la frequenza di campionamento standard per la trasmissione dell'output video appunto per quanto riguarda l'audio è 48.000 Hz ma nessuno ci vieta di registrare a una quantitativa di Hz più grande come frequenza di campionamento quindi l'importante è che l'output sia poi a 48.000 ma nessuno ci vieta di avere un input a valori molto più grandi quindi non vediamo i 48.000 Hz di campionamento come un limite da tenere se in registrazione possiamo registrare a una frequenza di campionamento più ampia facciamolo per poi appunto in fase di export riadattare tutto a quella frequenza la a che cosa ci serve avere più informazioni a livello di campioni audio e a livello di bit come abbiamo detto nel suono analogico quindi quello della vita reale quello reale non vi è un numero finito di numeri tra un dato e l'altro sono infiniti mentre nel suono digitale per forza di cose la quantità di dato è finita quindi cosa cosa ci permette il campionamento audio e i bit semplicemente di andare a aumentare la quantità di numeri finiti che vi sono quindi ad esempio per quanto riguarda i bit più saranno più saranno i bit più ci sarà possibile aumentare il livello di decibel che non sono altro che il volume da meno infinito a zero che è il picco massimo in maniera molto più precisa e dettagliata quindi questo è quello che ci permette un file più grande un file con più bit e un file con più campionamento audio ok quindi chiari questi concetti andiamo a vedere subito nel nel pratico altre cose molto importanti allora per prima cosa vi è una differenza molto importante da non confondere tra livello audio e tra canale audio il livello audio è questo qui quello che stiamo vedendo adesso quindi quello che è raffigurato da a1 a2 a3 a4 e da questa linea verde io se adesso ne ho uno se vado per esempio a duplicarlo adesso avrò tre livelli audio e non tre canali audio il canale audio non è altro che questo quello che c'è all'interno adesso questo è una traccia in mono quindi vediamo solo il canale L vedete che qua c'è LR questo è in in mono di un singolo canale se io vado su canali audio posso andare a creare anche come abbiamo già visto il secondo canale e avere due canali L in realtà e avere quindi così una traccia stereo e sono due canali audio per esempio negli impianti surround Dolby Digital e altri tipi di impianti o di export che si possono effettuare la quantità di canali può aumentare considerevolmente noi ci troveremo sicuramente molto più probabilmente a lavorare con tracce a monocanale o comunque a canali stereo quindi doppio canale un altro concetto molto semplice che abbiamo già sfiorato parlando di audio è quello del come viene misurato appunto l'audio l'audio viene misurato in decibel e viene sempre misurato in negativo quindi lo zero è il punto di cosiddetta saturazione ovvero dove l'audio si distrugge ovvero il dato l'informazione viene distrutta e distorta completamente quindi il nostro obiettivo è avere un audio udibile sotto lo zero a meno infinito si ha l'assenza di audio quindi l'audio funziona per numeri negativi comunque nei concetti di audio e video come abbiamo visto c'è sempre molta matematica è sempre tutto molto molto matematico e molto legato appunto ai numeri ok adesso apriamo il pannello audio e andiamo a vedere degli effetti molto semplici utilizzabili il primo effetto che possiamo utilizzare lo attiviamo con il tasto destro e andando su guadagno audio oppure se lo avete impostato come shortcut G e ci apre questo concetto di guadagno audio questo è un modo per aumentare o livellare comunque il volume direttamente dalla clip della clip sorgente che è ben diverso che alzare il volume del dal mixer audio questo concetto ci sarà più chiaro dopo che esploreremo anche i mixer audio ok come vediamo abbiamo due comandi in realtà principali che sono quello di impostare il guadagno o di regolare il guadagno o di normalizzare il picco il concetto di normalizzazione è un concetto contrario diciamo alla compressione quindi con la normalizzazione noi cercheremo di andare a portare tutti i volumi al dato che noi impostiamo quindi mettiamo di impostare meno 0,1 meno 0,1 e di andare a mettere ok come vediamo avrà avremo sicuramente una differenza sostanziale della forma d'onda e l'audio sarà percepito più alto infatti infatti andiamo a fare un ascolto del prima prova di registrazione audio per spiegare canali livelli e volumi e un dopo l'effetto prova di registrazione audio per spiegare canali livelli e volumi come abbiamo visto anche dal v-meter che è il grafico come abbiamo già visto che rappresenta i volumi audio è stato un aumento dei volumi ecco come funziona però la normalizzazione la normalizzazione si basa sul picco più alto della clip ecco questo è molto importante perché non funziona sempre come come metodo per alzare i volumi ecco diciamo che è utile per esempio nel parlato dove abbiamo dei picchi comunque abbastanza costanti e quindi possiamo tranquillamente applicarlo senza tanti problemi ma io vi ho registrato qua questa clip con dei picchi totalmente diversi per farvi vedere come appunto la normalizzazione si basi sul picco più alto della registrazione quindi se noi andiamo ad applicare lo stesso concetto applicato precedentemente a questa clip vedremo che la differenza sarà nulla come vedete sto togliendo e rimettendo l'effetto e non vi è alcuna differenza perché perché la normalizzazione appunto si basa sul picco più alto della registrazione e in questa registrazione c'era già un picco molto più alto rispetto a tutti gli altri quindi diciamo che la normalizzazione può essere un metodo efficace per avere subito volumi più alti qualora i volumi della traccia siano tutti all'incirca allo stesso livello diverso invece il concetto di guadagno audio il guadagno audio alza tutti i volumi senza basarsi principalmente su niente quindi qua abbiamo una un'indicazione di quella che è l'ampiezza del picco e andando quindi ad impostare un guadagno di 10 decibel vedremo che si alzerà tutto tutto l'audio ovviamente lui ci indica quanto ovviamente con questa ampiezza picco ci indica dove si trova il picco più alto sempre quindi per evitare la saturazione quindi se noi andiamo lo stesso ad aggiungere 15 db ad esempio avremo alzato alcuni volumi e altri saranno andati in saturazione adesso non ve lo faccio ascoltare perché risulta fastidioso all'orecchio quindi andiamo ad annullare e andiamo ad applicare lo stesso concetto dove avevamo applicato prima la normalizzazione per vedere appunto le differenze con la normalizzazione prima ci si basava sul picco più alto invece con il guadagno andremo a vedere che se alziamo i volumi vi sarà stata una crescita dei picchi e ovviamente i volumi che si trovavano già in alto avranno ricevuto un cioè saranno andati in saturazione ok questo è un concetto molto basico e che ci può tornare utile per alzare e abbassare o regolare i vari volumi visto come come portare tutti i volumi sopra una determinata soglia andiamo a vedere come abbassarli e quindi esploriamo il concetto di compressione audio se noi andiamo ad aprire il compressore audio andiamo a cercare il compressore audio all'interno di premiere vi saranno alcuni alcuni preset andiamo ad aprire quello a banda singola che è quello più semplice per per vedere il concetto ecco come vedete sembra confusionario ma in realtà è molto semplice cos'è questo grafico come vediamo abbiamo la possibilità di usare dei predefiniti che è quello su cui lavoreremo più spesso non essendo appunto dei dei tecnici del suono ma andiamo a vedere che cosa possiamo manualmente modificare vi sono quattro principali concetti il concetto di soglia il concetto di rapporto di attacco e di rilascio che cosa fanno queste cose la soglia non è altro che il volume massimo che la nostra traccia a cui applichiamo il compressore deve avere quindi mettiamo di mettere di impostare un meno per renderlo molto evidente un meno 50 db e vuol dire che il nostro compressore andrà a portare tutti i volumi al di sopra di 45 db il più vicino possibile a questa soglia che abbiamo indicato il rapporto è quanto l'effetto andrà ad agire sui volumi più alti di quella soglia quindi i volumi sopra ai meno 45 quanto lui li andrà ad abbassare in decibel per farli arrivare a quella soglia perché possiamo benissimo decidere di avere quella soglia ma lui comunque non ci porterà tutto in maniera dura sotto quella soglia ma con il rapporto possiamo decidere di quanto andare ad agire a livello di abbassamento dell'audio quindi andiamo anche qua ad alzarlo di molto per renderlo evidente e abbiamo altri due concetti che sono attacco e rilascio che non sono altro che in quanti millisecondi l'effetto si attiva su un determinato picco e in quanti millisecondi viene rilasciato quindi è un po' il fade in e il fade out dell'effetto ok lo abbiamo applicato prova di registrazione ok andiamo a fare un ascolto dell'audio e andremo a vedere quanto i volumi saranno cambiati quindi questo è prima dell'effetto prova di registrazione audio per spiegare canali livelli e volumi e così e dopo ok questo è quello che va a fare il compressore diciamo che anche qui è uno strumento molto molto complesso adesso ho utilizzato quello più semplice che Premiere ci offre appunto per andare a capire come agisce il compressore vi sono compressori molto più complessi come il compressore multibanda che ci permettono in realtà un veramente una risoluzione dell'audio molto molto precisa adesso andiamo a vedere un altro tipo di compressore il compressore multibanda questo tipo di compressore come ho detto prima ci permette di raggiungere risultati davvero interessanti sui nostri audio andiamo ad applicarlo e come vediamo appunto quando applichiamo un effetto vi sarà rappresentato nel pannello di controllo effetti ci sarà compressore multibanda andiamo ad aprirlo con modifica e ci si aprirà questo grafico questo grafico è ben più complesso rispetto al grafico che abbiamo visto prima ma possiamo subito ritrovare quei concetti che abbiamo visto prima ovvero soglia rapporto attacco rilascio in più ci sarà il guadagno il guadagno non è altro che l'aumento come abbiamo visto prima del volume quindi qui abbiamo un grafico come possiamo vedere diviso per hertz e decibel che non sono altro che la lunghezza d'onda e l'ampiezza d'onda che vanno a determinare il volume con i decibel e il suono la tipologia di suono con gli hertz quindi avremo da 30 a 100 come viene anche indicato qua le frequenze basse da 200 a 1000 circa le frequenze medie e da 2000 a 10000 le frequenze più alte come vediamo abbiamo la possibilità di inserire dei predefiniti che è quello che ci troveremo a fare più frequentemente poi possiamo sicuramente iniziare a smanettare per capire almeno il funzionamento sulle basi delle conoscenze che abbiamo appreso però diciamo che i due preset che già vi daranno subito un risultato migliore sono standard di trasmissione e consegna via internet se noi applichiamo appunto questi due uno di questi di questi predefiniti vediamo come questa linea che noi possiamo spostare che divide la percezione del software delle frequenze basse medie o alte cambia per esempio andiamo a metterne un altro tipo low-fi vedete come questi indicatori si dividono li vedete ecco questi indicatori non fanno altro che andare a indicare dove uno di questi quattro comandi va ad agire quindi qua abbiamo le basse qua le medie qua le medio-alte e qua le alte se andiamo appunto ad usare un consegna via internet vediamo come la suddivisione di queste frequenze è in questo modo e come in automatico lui vada a abbassare di molto la soglia di decibel ad esempio delle basse a lasciare invariata le medie e le medio-alte e abbassare di tantissimo le altissime insomma quindi questo è il tipo di compressore multibanda un po' più complesso che ci permette di avere dei risultati davvero interessanti come vediamo è accompagnato da altri due concetti molto utili che abbiamo già anche esplorato quello del guadagno audio quindi di quanto andrà ad aumentare in decibel il volume generale della traccia sulla base di queste modifiche che abbiamo comunque applicato e il limitatore ecco il limitatore è un concetto che ancora non abbiamo visto ma non è altro che come diciamo come viene anche indicato qua il limitatore muro di mattori un muro che si mette tra il meno decibel che abbiamo impostato come limite e lo zero quindi impedisce al suono di raggiungere lo zero e quindi andare in saturazione quindi tutto ciò che va sopra la soglia quindi in questo caso meno 12 che noi abbiamo indicato verrà tagliato di netto quindi il limitatore ci permette di evitare di avere audio in saturazione quindi ecco andiamo a sentire un primo un dopo con l'applicazione di questo semplice preset questo è il prima prova di registrazione audio per spiegare canali livelli e volumi e questo è il dopo prova di registrazione audio per spiegare canali livelli e volumi come abbiamo potuto ascoltare la differenza è davvero incredibile a livello di suono quindi ecco questi sono semplici strumenti che sicuramente un tecnico del suono sicuramente con grossa esperienza e pratica possiamo sfruttare ancora meglio ci permetteranno di far suonare determinate tracce in maniera completamente diversa da come suonavano precedentemente però diciamo che già in questo modo possiamo avere un aumento di qualità davvero importante andiamo a vedere un altro concetto sempre per agire sui volumi dell'audio adesso vado a creare una traccia leggermente una timeline leggermente più complessa per poter spiegare meglio ok come vediamo qua abbiamo una timeline più complessa rispetto a quella che avevamo prima adesso andiamo a vedere questi due strumenti molto utili che sono il mixer clip audio e il mixer tracce audio ecco mixer clip audio e mixer tracce audio sono due strumenti molto simili ma in realtà differenti qual è la loro differenza il mixer clip audio ci permette di alzare i volumi delle singole clip e solo ed esclusivamente delle singole clip su una determinata traccia quindi quando noi saremo andiamo con il cursore sopra la clip ci si attiverà e potremo modificare il volume come vedete alzare o abbassare il volume di quella singola clip come vediamo possiamo scrivere attivare anche la scrittura dei fotogrammi in maniera tale da fare questo cambio in maniera dinamica e andare quindi ad inserire a livello grafico dei keyframe che indicheranno l'inalzarsi e ridursi dei volumi e come vediamo si attiveranno solo quando con il cursore saremo sopra la clip audio quindi adesso vediamo che in timeline siamo con il cursore sopra due clip e abbiamo attivati questi due cursori con la possibilità di attivare anche i keyframe e di fare un messaggio dei volumi in contemporanea con la riproduzione questo è quello che ci permette di fare il mixer clip audio molto differente seppure di piccole di una sottilezza comunque importante è il mixer traccia audio il mixer traccia audio come vediamo è sempre attivo e ci permette di aumentare i volumi di tutta la traccia indifferentemente che in quel punto che stiamo ascoltando vi sia o meno una clip e quindi vedremo che alzando per esempio la traccia audio 1 di molto i volumi saranno più alti i volumi saranno più alti di tutte le tracce di tutte le clip audio all'interno di quella singola traccia quindi andiamo a vedere un un cambiamento evidente quindi torniamo a uno stato normale a zero prova di registrazione audio per spiegare canali livelli ok andiamo a renderlo più evidente così quindi abbiamo andiamo a vederlo così abbiamo due clip con audio molto differenti l'una dall'altra prova di registrazione audio per spiegare canali livelli e volumi prova di registrazione audio per spiegare canali livelli e volumi se noi andiamo ad agire sul il mixer delle tracce andando ad abbassare tantissimo il volume vedremo che il volume di entrambe le tracce sarà stato abbassato quindi questi sono i due concetti di mixer delle tracce audio e mixer delle clip audio ci può tornare utile quando quando noi per esempio abbiamo una suddivisione delle nostre varie tracce in funzione del del mix finale quindi per esempio sappiamo che nella traccia 1 noi mettiamo tutto il parlato nella traccia 2 le musiche nella traccia 3 gli effetti sonori e quindi con il mixer delle tracce audio possiamo effettuare un missaggio audio in funzione di quelle tracce là o possiamo addirittura applicare degli effetti a tutte le tracce quindi ad esempio il nostro compressore audio il compressore multibanda potremmo applicarlo a tutto il video semplicemente aprendo il mixer delle tracce audio o a una determinata traccia insomma e come vediamo andando qua ci sarà questa questa tendina che se la clicchiamo ci mostrerà questo racket si chiama racket degli effetti qui avremo la possibilità di inserire degli effetti sulla sulla singola traccia o addirittura su tutto tutto l'audio del video applicandolo in principale proviamo ad inserire un effetto per esempio come abbiamo detto di compressore multibanda all'interno della della traccia come vediamo così abbiamo applicato inserendo il nostro preset con segna via internet abbiamo applicato la compressione a tutta la traccia 1 quindi tutte le clip che si trovano nella traccia 1 avranno questo tipo di compressione quindi andiamo a fare un ascolto per per rendercene conto prova di registrazione audio per spiegare canali livelli e volumi prova di registrazione audio per spiegare ovviamente considerando le modifiche che abbiamo applicato prima adesso andiamo ad ascoltare la traccia per esempio che è la clip audio che è sulla traccia 2 prova di registrazione ok proviamo ad ascoltarla trascinandola sulla traccia 1 prova di registrazione audio come vediamo in automatico sarà applicato l'effetto quindi questo è quello che ci permette anche il mixer delle tracce audio molto importante ricordare l'ordine vedete che qua abbiamo più tendine in cui poter applicare effetti al nostro racket effetto l'ordine degli effetti che applichiamo perché l'effetto applicato sopra poi influenzerà anche quello sotto quindi ad esempio se noi applichiamo un riverbero e poi un compressore questi due effetti la compressione bisogna fare attenzione a meno che non sia voluto di non applicarla sotto il riverbero perché comunque andremo a comprimere il suono già con il riverbero quindi dobbiamo insomma avere ben chiaro che come nel nel concetto del video quello che sta sopra influisce quello che c'è sotto quello che possiamo fare anche dal mixer audio e come lo possiamo fare benissimo anche da qua insomma sono diversi punti in cui possiamo controllarlo e decidere se sbilanciare l'audio su una cuffia rispetto ad un'altra o su una cassa rispetto ad un'altra infatti è un'altra cosa che possiamo possiamo appunto lavorare in maniera molto semplice cioè il panning ovvero il bilanciamento quindi se noi andiamo a far passare l'audio per esempio in maniera molto veloce da sinistra a destra come vediamo in base alla traccia che abbiamo selezionato vedremo un il valore dell'audio come abbiamo visto anche dall'indicatore appunto abbiamo avuto un passaggio da cuffia a sinistra a cuffia a destra dell'audio quindi questo è un altro un altro fattore su cui possiamo lavorare e giocare ok abbiamo visto in realtà praticamente tutto ciò che un principiante può utilizzare a livello di audio per migliorare il proprio video andiamo a vedere ancora degli effetti audio molto semplici che noi possiamo applicare sempre tramite per esempio il mixer delle tracce o comunque sulla singola traccia abbiamo tantissimi effetti che è inutile andare a vedere uno a uno che possiamo utilizzare anche a livello creativo quindi per esempio quello del riverbero che abbiamo già citato che ci permetterà ad esempio applicandolo ad una clip di simulare un determinato tipo di ambiente come vediamo in ogni effetto abbiamo la possibilità di modificare una serie di parametri di aspetti molto molto precisi molto dettagliati su cui possiamo giocare o utilizzare dei preset ecco noi in questo caso andiamo a per esempio usare l'effetto in chiesa prova di registrazione audio per spiegare canali livelli come abbiamo potuto sentire appunto avremo applicato un tipo di effetto particolare ecco tutti questi effetti sonori ci possono tornare utili ci possono tornare utili nella realizzazione creativa di un video ok andiamo a vedere un altro tipo di effetto molto utile che è il concetto di equalizzazione ecco sul concetto di equalizzazione in realtà si potrebbe parlare all'infinito perché anche qui è una professione a se stante addirittura realizzare l'equalizzazione degli audio però andiamo a vedere andiamo ad applicare un equalizzatore andiamo a vedere come lo possiamo sfruttare ok una volta applicato l'effetto di equalizzazione andando sempre su modifica ci si apreva questo pannello come vediamo riusciamo a riconoscere un concetto che in realtà abbiamo visto già dall'inizio che è quello degli hertz e dei decibel che è un po' insomma la rifigurazione sempre visiva dell'audio ok andiamo sulla traccia audio e vediamo come poter sempre applicare i nostri predefiniti e quanto l'equalizzazione e quindi il rapporto che c'è tra sempre hertz e decibel e quindi la modifica e l'intervento su questo su questa su questi fattori può modificare di tantissimo il suono andiamo per esempio a mettere una radio all the time come preset come vediamo vi sono determinate modifiche all'interno delle frequenze all'interno delle frequenze e dei decibel che faranno suonare il nostro audio in questo modo prova di registrazione audio per spiegare quindi in maniera completamente diversa ecco questo cosa ci è utile ci è utile a capire che con l'equalizzatore in realtà noi possiamo far suonare qualsiasi suono qualsiasi registrazione in maniera completamente diversa e quindi teoricamente anche andarla ad ottimizzare di tantissimo ecco per farlo sicuramente appunto come abbiamo già detto bisogna essere sicuramente molto molto esperti nel campo comunque per l'applicazione di di alcuni effetti molto semplici possiamo sempre affidarci ai preset e poi a nostro orecchio andare ad influire e ad agire sulle varie sulle varie frequenze per riconoscere un miglioramento o un peggioramento del suono in base a questo quindi sicuramente è un qualcosa che richiede molto tempo e molto esercizio e vi consiglio di applicarlo di provarlo e di utilizzarlo per esplorarlo al meglio perfetto quindi abbiamo sicuramente iniziato questa questo viaggio all'interno del mondo dell'audio totalmente privi di qualsiasi conoscenza e ne usciamo forse ancora più confusi per la quantità di informazioni che questo mondo ha ma sicuramente con gli strumenti necessari a continuare a studiare e applicare delle nuove nozioni quindi quello che vi consiglio assolutamente sfruttate e comprendete al meglio le nozioni basilari di come funziona il suono quindi il concetto di frequenza il concetto di decibel di ampiezza e di lunghezza d'onda per poi andare a informarsi a ricercare dei risultati che si vogliono ottenere e studiare al meglio come ottenere il mio consiglio è quello di continuare a provare ed esplorare tutti i vari effetti che ci sono all'interno del racket effetti e di esercitarvi per applicarli al meglio benvenuti in questa lezione una nuova lezione dove parliamo di aggiornamenti che Premiere Pro ci offre con questa sua versione 2022 oggi parliamo dello strumento remix che è uno strumento fondamentale a risolvere situazioni di questo tipo innanzitutto per trovarlo lo troviamo direttamente qui dove abbiamo lo strumento montaggio con scarto ok tenendo premuto raggiungiamo lo strumento e in questo caso abbiamo un montaggio video che dura poco più di 40 secondi ok e la traccia che abbiamo selezionato che ne dura 2 minuti 51 come si sarebbe fatto in maniera tradizionale per realizzare questo compromesso tra la traccia che ci serve e appunto il montaggio video che abbiamo realizzato bisognava tagliuzzare con non poco ingegno e con soprattutto una grossa abilità alla fine nel mixaggio audio la traccia selezionata ad oggi tutto questo processo che in realtà abbiamo già visto all'interno delle esercitazioni audio e che vi consiglio comunque di imparare a fare in maniera autonoma perché non è detto che gli automatismi risolvano sempre ciò che dobbiamo fare che risolvano sempre la situazione e qualora in cui l'automatismo non arrivi allora gli è utile saper fare le cose manualmente però devo dire che questo strumento per la stramaggioranza delle volte è sufficiente per realizzare dei contenuti in maniera molto più rapida ok lo strumento funziona in maniera semplicissima prendiamo la nostra traccia che vi faccio fare un preascolto per vedere come prima ciao ciao Grazie a tutti. Ok, qui continua fino a appunto tre minuti oltre la fine del nostro mini montaggio di esempio. Come funziona questo strumento? Dicevamo, semplicemente clicchiamo alla fine della traccia e trasciniamo per la durata che desideriamo raggiungere con questa traccia. La traccia verrà analizzata dal software e in pochissimo tempo avremo un remix. Ora vi faccio ascoltare il video come è stato editato dal software e poi andiamo ancora un attimo a sviscerare alcune opzioni, alcune soluzioni che possiamo trovare. Grazie a tutti. Beh, direi che il lavoro che ha fatto il software è eccellente perché non riusciamo a percepire assolutamente i tagli dove sono stati e insomma il cambio di mood della traccia è coerente rispetto comunque al mood che ha la traccia in generale. Ovviamente su questo montaggio fatto prima appunto di aver selezionato la traccia e il time code che dovevamo ottenere non è più coerente ovviamente ma quello è un altro discorso. Qui dobbiamo semplicemente soffermarci sul fatto che volevamo che la canzone durasse esattamente quanto dura il video e siamo riusciti ad ottenerlo. Far matchare poi le due cose è un altro discorso e lì sicuramente entra in gioco la possibilità di personalizzare. Ecco qual è la sostanziale differenza tra uno strumento automatico e il saper realizzare i tagli in maniera personalizzata e manuale. La possibilità appunto di scegliere dove remixare la traccia, che punti di climax tenere rispetto a che punti tagliare. In questo caso abbiamo semplicemente accorciato la traccia dicendo al software senti fai tu e poi me la vedo io in montaggio video. Però nel momento in cui uno non ha una grossa competenza, una grossa padronanza del mixaggio audio, che comunque è tutto un altro mondo, allora secondo me diventa un ottimo compromesso e un ottimo strumento. Non vi nascondo che per le musiche di background facendo il processo inverso, ovvero allungando all'infinito la nostra traccia, creiamo una musica di background in veramente poco tempo. Quali sono dunque le cose nelle quali possiamo intervenire di questo strumento? Abbiamo la possibilità di cambiare il metodo, se passare da un remix, quindi una fusione di vari tagli della traccia, ad un allungamento o appunto un accorciamento. Quindi decidere effettivamente di accorciare o di allungare la durata della traccia. Ma questo cosa comporta? Lo andiamo a sentire subito. Ok, torniamo alla situazione normale, andiamo su allungamento. È evidente quello che è successo, l'audio è stato semplicemente allungato e basta, insomma, non è stata fatta nessuna operazione particolare. Però possiamo anche nel metodo di remix andare a customizzare leggermente quella che è la modalità con la quale viene deciso il taglio che viene fatto. Quindi tramite segmenti e variazioni. Diciamo che può tornare utile nel momento in cui accorciando la traccia non riusciamo a raggiungere effettivamente la durata di cui abbiamo bisogno, ok? Ci rimane sempre un più 10 secondi, più 5 secondi, meno 10, meno 20, ok? Perché appunto non è che al millesimo di secondo può far durare la traccia come vogliamo noi. Giustamente anche qui si scende dei compromessi. Però se abbiamo bisogno di un qualcosa di millimetrico, la modalità in cui i tagli vengono realizzati può aiutarci in questo. O qualora appunto i tagli li percepissimo troppo duri o troppo poco duri, ok? Troppo netti o troppo poco netti, possiamo intervenire su questa funzione, su queste due funzioni, per avere appunto un taglio più morbido o meno morbido. Diciamo che di base la sua funzione standard è quella ottimale, perché è qualcosa né sbilanciato su un taglio troppo morbido, né sbilanciato su un taglio troppo netto. Quindi abbiamo un buon balance. Se la cosa non dovesse suonare bene, abbiamo la possibilità di intervenire per esempio su quanti segmenti fare, ok? Quindi quanti tagli realizzare, ok? E sicuramente cambierà anche la percezione della traccia. In questo caso abbiamo messo solo un taglio e andiamo a sentire. Ok, vediamo i tagli anche visualizzati direttamente con queste specie di conetti, ok? Queste frecce, queste freccettine ci indicano i tagli che il software realizza. E come vedete appunto possiamo decidere se averne meno o se averne tanti di più. E questo insomma cambia effettivamente il risultato fine della traccia. Quindi questa è una possibilità in più che abbiamo per raggiungere ciò di cui abbiamo bisogno. Ok, con variazioni possiamo decidere non tanto la quantità di tagli, di segmenti che vengono fatti, come nel comando precedente, ma se tagliare di più considerando le melodiche oppure le armoniche. Quindi avere una traccia più improntata a seguire la stessa melodia oppure la stessa armonia. Ok, invece più armonica. Ok, invece più armonica. Ok, riuscite a cogliere la sostanziale differenza. Insomma, dalla stessa traccia effettivamente su una durata di 40 secondi esce mixata una traccia totalmente diversa. Questo ci può aiutare a raggiungere meglio il risultato di cui abbiamo bisogno a livello creativo, ma anche effettivamente di riuscire a fixare dei problemi che si potrebbero creare nel remix automatico di una traccia. Quindi questo era lo strumento di remix automatico, come abbiamo visto è uno strumento molto potente, molto utile e sicuramente sfruttabile nei montaggi di tutti i giorni. E se volete un approfondimento su come remixare una traccia, magari anche con altri software o con altre modalità, vi chiedo di aprire un dialogo nelle domande e risposte qua sotto, così da poterci consigliare tutti magari dei metodi alternativi che non conosciamo, anche perché non si smette mai di imparare in questo settore, soprattutto perché escono novità che stravolgono totalmente il modo di lavorare giorno per giorno. Quindi è fondamentale rimanere sempre sul pezzo. Se invece c'è tutto chiaro, sei contento di aver scoperto questo nuovo strumento, ci vediamo nella prossima lezione. Appunto, per farvi comprendere il concetto di export, vi faccio vedere una timeline un attimo più complessa riguardante un matrimonio, che insomma è una delle cose più semplici su cui ci si può rapportare all'inizio della propria carriera come videomaker. Ecco, vediamo come innanzitutto nel pannello progetto abbiamo cercato di mantenere una suddivisione in cartelle di quelle che sono i momenti della giornata, per poi avere pochi elementi sparsi che riguardano più che altro le sequenze e il livello di regolazione e le cosiddette barre cinematiche per dare un po' più l'effetto cinematico. Abbiamo le tracce che vengono mixate tra di loro con le varie dissolvenze. Abbiamo della suddivisione delle clip per quello che riguarda le etichette, quindi le clip colorate in rosa a rappresentare la sposa e quelle in blu a rappresentare lo sposo. Abbiamo un livello di regolazione per quanto riguarda una LUT di look generica e poi le singole regolazioni di colore per ogni singola clip per bilanciare. Quindi questo più o meno è il workflow. Abbiamo poi la parte di audio in ripresa. Abbiamo quindi poi la parte di audio in ripresa e sempre il mixaggio delle varie clip. Adesso andiamo a vedere come un progetto di qualsiasi tipo, ma un progetto mediamente complesso, va esportato. Ovviamente la complessità del progetto non esula dal metodo di export, ma vi sono diversi metodi. Con cui possiamo esportare. Come vediamo, un altro elemento, vi sono diverse sequenze in base alla tipologia di video che abbiamo eseguito. Di solito i montaggi dei matrimoni so che per me non richiedono delle modifiche, in quanto non mi è mai successo che richiedessero delle modifiche. Quindi diciamo che la mia timeline sarà diversa rispetto alla timeline, per esempio, di un video musicale. Infatti adesso vi farò vedere le diverse timeline che si possono andare a sviluppare. Le diverse tipologie di timeline e di come cambia proprio il metodo di lavoro. E proverò a spiegarvi i diversi metodi di lavoro per l'appunto. Abbiamo visto, abbiamo analizzato le diverse tipologie di timeline che possono esserci. Quindi abbiamo visto la timeline, per esempio, di un matrimonio molto lineare. Adesso andiamo a vedere un tipo di timeline, per esempio di un video musicale, molto funzionale alla possibilità di applicare degli effetti. Andiamo ad ingrandire a pieno la timeline e andiamo più o meno a capirne gli elementi. Come vediamo abbiamo il nostro classico livello delle barre cinematiche e poi in più in questo caso abbiamo un overlay che è di una grana che è inserito sopra tutti i video. Poi abbiamo degli elementi riesportati dello stesso video all'interno dello stesso progetto, quindi sopra tutti questi livelli per evitare di duplicarli. Abbiamo degli elementi che devono stare come le dronate al di fuori del livello di regolazione con la loot principale della colorazione delle clip sotto, appunto perché girate con un altro supporto. E poi abbiamo un livello di regolazione che dà il colore a tutto e poi tutte le varie clip del video musicale. Quindi se noi andiamo a vedere, appunto abbiamo degli elementi del videoclip musicale che viaggiano in parallelo, cioè la scelta di una clip rispetto ad un'altra è molto, come dire, creativa ed artistica. Ma nel momento in cui l'artista o per qualsiasi motivo si dovesse decidere di sostituire quella clip e non scegliere più quella ma sceglierne un'altra, vedete che lavorando su livelli sarà molto immediato sostituire un errore o una clip che non ci piace e modificare in maniera molto rapida il montaggio. Quindi questa è la funzionalità del lavorare su più livelli in un video musicale, questo ci velocizza veramente di tanto tutto il processo lavorativo e ci permette di modificare in maniera immediata una clip, la scelta di una clip rispetto ad un'altra. Quindi vedete che la complessità della timeline a volte è solo veramente visiva perché questo ci va a semplificare di tantissimo, di tantissimo le ipotetiche modifiche e anche per qualcun altro che inizia a lavorare a questo progetto non dico che sia immediato ma dopo una visualizzazione risulta molto semplice applicare determinate modifiche. Visti i diversi metodi di lavoro andiamo a vedere come esportare il lavoro finito, quindi andiamo finalmente alla fase finale e andiamo a capire come esportare. Per esportare un progetto dobbiamo sicuramente selezionarne all'interno un punto di attacco con I e un punto di stacco con O. Questa operazione di attacco e stacco inciderà sulla porzione di video da esportare perché noi possiamo anche voler esportare anche solo una porzione della nostra timeline. Ecco con questa selezione come vediamo vi sono alcuni elementi, c'è questa linea gialla e rossa che ci fa capire che ci sono degli elementi che vengono caricati in maniera normale e elementi che richiedono una renderizzazione che di solito sono quelli rossi. Per esempio qua c'è, disortivo l'audio per non disturbare, c'è una grafica, infatti se noi proviamo a guardarla in tempo reale non si riesce in maniera ottimale. Quindi in questo caso quello che si può fare è in sequenza, si può fare un rendering, un rendering non è altro che un pre-export diciamo, il computer e il software processeranno quelle immagini che non riusciamo a leggere in tempo reale per via delle loro modifiche, per via degli effetti applicati, li renderizzeremo e in questo modo potremo visionarli in tempo reale all'interno del programma. Quindi questa è un'altra opzione a cui abbiamo accesso. Io vi consiglio sempre di fare in progetti molto grandi, molto pesanti, con tanti effetti, di fare comunque una renderizzata generale prima di esportare per evitare problemi di export o bug vari che si possono creare con questa tipologia di situazione. In questo caso comunque andiamo ad esportare, per esportare andiamo su file, esporta, file multimediali e come vediamo ci si aprirà questa schermata. In questa schermata decidiamo effettivamente in che cosa tramutare il nostro lavoro, il nostro video. Andiamo a vedere come è strutturata questa schermata. Abbiamo la possibilità di controllare la sorgente a livello di pixel e di andarla a ritagliare, per esempio, e ad andare a scegliere le proporzioni del ritaglio che vogliamo eseguire. Questa non è una cosa che consiglio di fare in fase di export, ma è una cosa che consiglio di fare nella creazione della sequenza, quindi create una sequenza che poi sia conforme al tipo di file che dovete esportare, così da averne più controllo. E poi abbiamo la possibilità di selezionare diversi elementi dell'output. Nell'output possiamo decidere se la nostra immagine deve scalare, adattarsi a quelle che sono le proporzioni in pixel dell'export o deve scalare per riempire, allungare per riempire. In questo caso le proporzioni in pixel corrispondono a quelle che sono le proporzioni di export. Andiamo per esempio a mutare, a fare un 1920x803, che dovrebbe essere all'incirca un 21 noni. In questo caso noi possiamo andare a modificare il tipo di adattamento. Qua è uno scala per adatta e quindi rimarremo variato. Per riempire andrà a riempire la nostra immagine e allungare per riempire andrà a distorcere la nostra immagine per riempire. Quindi ecco queste sono diverse possibilità che abbiamo all'interno del pannello iniziale di export. Ma noi abbiamo lavorato e creato appunto da prima una sequenza conforme a quelle che sono le nostre volontà e quindi in questo caso non dobbiamo applicare questo tipo di modifica. Abbiamo la possibilità di visualizzare appunto l'anteprima zoomandola e in visualizzazione di modificare di nuovo l'attacco, lo stacco e di applicare una correzione di proporzioni. Ma in questo caso non c'è bisogno perché le proporzioni sono le medesime. Possiamo decidere se esportare tutta la sequenza o la sequenza d'attacco o d'attacco a stacco come abbiamo impostato. Adesso veniamo alle impostazioni di esportazione vere e proprie. Quello che possiamo scegliere come impostazioni di esportazione in maniera molto semplice e veloce all'inizio è come impostazioni sequenza. Questo andrà a modificare tutte le impostazioni in maniera medesima alla sequenza. Io non vi consiglio comunque di fare questo perché la tipologia di formato comunque è un qualcosa su cui porre una certa attenzione. Quindi andiamo a defleggarlo e in base alla tipologia di canale in cui dovrete veicolare il video scegliete il formato più adatto. I più utilizzati assolutamente sono l'H.264 e il QuickTime. L'H.264 è quel formato più compresso, quindi più leggero, l'MP4, che potrete andare a salvare con una serie di preset che Premiere ci offre per quanto io vi consigli sempre di esportare in maniera manuale, quindi andando ad impostare bene quelle che sono le impostazioni video di base, quindi la frequenza dei fotogrammi che sia conforme a quella della sequenza o comunque a 25 fps qualora la sequenza fosse a 50. L'ordine dei campi che deve essere assolutamente progressivo perché è quello che abbiamo utilizzato anche in fase di ripresa. L'aspetto, che deve essere quello dei pixel quadrati, non può essere quello anamorfico perché andrebbe a cambiare, come potete vedere, il tipo di immagine. Quindi pixel quadrati. E lo standard televisivo. Il nostro è il PAL. Il tipo di immagine che abbiamo realizzato è in PAL, quindi dobbiamo fare attenzione che non sia defleccato di standard NTSC e quindi riportarlo sul PAL. Ovviamente se stiamo operando con attrezzature che registra in PAL, abbiamo registrato in PAL e siamo in Italia. Poi abbiamo la possibilità di renderizzare alla profondità di bit massima. Quindi questo è un metodo per avere più qualità video. Abbiamo la possibilità di decidere le impostazioni di codifica del video. E poi anche altri fattori più complicati e più avanzati come appunto il volume del colore e i livelli di luce. Un'altra impostazione molto importante è quella del bitrate. Ecco, la codifica di bitrate modificherà ovviamente la quantità di compressione che verrà effettuata e la tipologia e la quantità di tempo che ci vorrà desportare. Quindi se ci saranno due passate inevitabilmente ci vorrà più tempo però avremo la possibilità di avere una compressione maggiore. E poi avremo la possibilità di decidere la quantità di bitrate di destinazione. Il bitrate come vediamo è un fattore che poi aumenta anche la dimensione del file stimata qua sotto indicata. Ovviamente più sarà alto il bitrate più il video avrà al suo interno della quantità di dato e quindi più la qualità sarà alta e di conseguenza anche il peso. Quindi dobbiamo poi cercare in base alla tipologia di supporto su cui andrà visualizzato un buon rapporto tra qualità, peso e quindi bitrate. Solitamente per YouTube lo standard va molto bene come qualità di bitrate un video molto compresso ma comunque l'H264 funge da video generalmente molto compresso. possiamo andare ad inalzare il valore di bitrate di destinazione a 20 giusto per avere un po' più di qualità però in realtà non è così visibile all'occhio umano e soprattutto non una volta che viene caricato su piattaforme tipo YouTube che andranno a comprimere ancora di più il video. e poi possiamo andare a selezionare appunto altre diverse opzioni quindi sempre di usare una qualità massima che aumenta ovviamente il tempo di codifica e la possibilità di utilizzare le anteprime le anteprime non sono semplicemente quelle le anteprime che il programma di per sé salva al suo interno quindi i suoi rendering eccetera lui in questo caso puoi decidere di utilizzarle per velocizzare il rendering io di solito non lo utilizzo anche perché i rendering più avanzati comunque non richiedono più di di un tot di ore quindi comunque è meglio avere un file un file esportato con cura abbiamo la possibilità di rimportare all'interno del progetto il video che stiamo esportando perché noi potrebbe essere che ci serve esportare una determinata porzione e continuare la lavorazione e ancora di più esportare magari una porzione del progetto molto effettata per poi importarla sul progetto in maniera tale da riuscire ad utilizzarla in maniera più veloce quindi questa è una delle cose che possiamo fare quindi questi sono i i tipo di valore che possiamo modificare a livello di del valore video possiamo applicare degli effetti predefiniti o impostandoli in maniera più precisa all'interno di tutto il video quindi possiamo per esempio decidere di applicare una loot in fase proprio di export o possiamo decidere di sovrimprimere il codice di tempo quanto magari un nome insomma tutte cose che a me non sono mai tornate tanto utili insomma tutto ciò che voglio inserire anche a livello di limitatore video e di normalizzazione del volume viene fatto in montaggio non lo farei in export anche perché bisognerebbe avere una conoscenza molto matematica delle cose invece sia la possibilità di avere una risposta diretta sul programma quindi la cosa effetti può essere utile qualora voi realizzate una serie di video sempre uguali in cui ormai avete settato un determinato look e loot e potete applicarli alla fine abbiamo la possibilità di decidere il formato audio e le impostazioni audio che di per sé vanno vanno bene per come sono sono impostate di base quindi una qualità molto alta possiamo decidere che la frequenza di campionamento qualora potrebbero richiedercelo fosse 4400 invece che 48000 però di per sé nel nel formato A a C va benissimo e possiamo decidere di abbassare leggermente il bitrate per risparmiare un po' di spazio ma è quasi insignificante la quantità di spazio che si guadagna con con l'audio quindi di base queste sono le impostazioni che si possono lasciare e poi abbiamo un'altra serie di opzioni inerenti ai sottotitoli che in questo videocorso non l'abbiamo esplorato è alla pubblicazione quindi la possibilità di esportare e pubblicare direttamente su determinati canali io comunque un consiglio che vi do è di poi fare l'upload direttamente cioè dall'export finale e non direttamente dal programma di export in maniera tale da avere la possibilità di fare un ricontrollo qualora appunto la pubblicazione dovesse venire su questi social e poi un altro un altro un altro tipo di formato appunto che viene molto utilizzato è il quick time le regole sono le stesse io vi consiglio se volete veramente utilizzare un formato molto molto grande per conservare anche il video a qualità molto alta un quick time in apple pro res va benissimo e a livello video insomma cambiano leggermente alcuni fattori ma di per sé le cose importanti sono da tenere in conto sono sempre la frequenza dei fotogrammi la proporzione l'ordine dei campi e l'aspetto che siano insomma conformi con quelli che avete utilizzato quindi così potrete esportare un video poi premete su esporta o su coda se avete adobe media encoder e il vostro video verrà processato ed esportato nella tabella di export avrete anche la possibilità di selezionare l'output e il nome del formato ecco questa è una cosa molto importante in maniera tale da non perdervi insomma la posizione in cui esporterete il video un'altra cosa molto importante molto utile potrete salvare dei preset dei predefiniti di export o addirittura importarne di altri insomma scaricati online o se trovate una modalità di export che vi è molto congeniale o per passarvela anche semplicemente da un computer all'altro insomma salvarvi dei predefiniti può essere utile quando sapete che esporterete dei video sempre in un determinato formato io per sicurezza dato che è una cosa che non richiede così tanto tempo insomma preferisco di volta in volta andare a decidere e a ricontrollare in maniera molto precisa tutti gli elementi di export tutti i fattori di export comunque cliccando qua abbiamo la possibilità di decidere dove esportare il video quindi teoricamente in PRJ corso e di rinominare il file e dargli il nome che vogliamo salviamo e la destinazione del video finito sarà cambiata come abbiamo modo di vedere qua ci dà anche le informazioni sul riepilogo di dove verrà esportato con che nome e con una un riassunto un riepilogo di tutti i tipi di formato eccetera e poi avremo anche un riepilogo sulla sorgente benvenuti in questa nuova lezione oggi riprendiamo l'argomento dell'aggiornamento del software premiere pro nella sua versione 2022 abbiamo già parlato nelle scorse puntate che parlano appunto di questo aggiornamento della sua suddivisione nuova in questi nuovi appunto tab che sono in porta dove possiamo importare le nostre clip in maniera similare a quella che si faceva prima però con una schermata dedicata e nuova modifica che non è altro che la porzione di programma dedicata appunto a tutto ciò che è il montaggio e poi abbiamo anche questo pannello esporta che ci permette sempre di esportare i video per chi ha visto le modalità di esportazione con la puntata precedente inerente appunto all'esportazione ma con una nuova veste grafica e non solo perché in realtà questa nuova suddivisione ci permette di realizzare tutta una serie di preset e di automatismi nell'esportazione e nella pubblicazione del nostro video direttamente su alcune piattaforme che sono del tutto innovativi dunque come è suddiviso questo pannello allora abbiamo una suddivisione che va da sinistra a destra e che è utile anche al tipo di processo che dobbiamo fare quindi noi partiamo da sinistra come lettura e abbiamo già delle opzioni qua sul lato sinistro abbiamo la sorgente che è la sequenza e possiamo aggiungere altre altre destinazioni quindi potenzialmente altre sequenze e come vedete ci ha creato in questo caso un nuovo file multimediale adesso sembra un po' confusionario ma vi vado a spiegare che cosa sono queste cose qua sulla sinistra abbiamo la possibilità di scegliere quanti export fare un po' come se fosse una coda i media encoder di rendering un po' come se fossero appunto più esportazioni messe una di filo all'altra questo ci permette di selezionare con file multimediale esattamente il video che abbiamo realizzato che è la sequenza che abbiamo realizzato in questo caso la sequenza 0-1 sia di esportare direttamente per esempio su YouTube su Vimeo su altre piattaforme questo che cosa ci permette di fare di avere un tipo di export a livello di impostazioni predefinito per quella determinata piattaforma manca addirittura di poterlo pubblicare direttamente su questa piattaforma ecco come pubblicare direttamente sulle diverse piattaforme non ci soffermiamo in questa lezione se è un argomento che vi interessa che volete approfondire apriamo un dialogo su questa cosa nel domande e risposte scriveteci insomma se vediamo che c'è dell'interesse con qualcosa che effettivamente per voi è importante allora sicuramente andiamo a spiegarlo in maniera più più approfondita qual è il vantaggio di avere questo nuovo pannello oltre alla veste grafica semplificata il fatto che effettivamente si avvicina di più ad un mondo di content creator ad un mondo di aziende online collegate in cui tutti questi processi vengono semplificati il fatto che altre piattaforme di montaggio fossero già più avanti su questo è veramente piacevole vedere che anche premiere si è che adobe appunto si è si è affacciata a questa necessità che è quella di velocizzare anche la produzione da questo punto di vista quindi ritorna molto utile se qualcuno appunto che fa il content creator deve pubblicare poi il video su diverse piattaforme avere questi preset modificabili e come abbiamo visto anche duplicabile e aggiungendone di diversi per fare le diverse esportazioni per esempio un modo in cui può tornare davvero utile questo tipo di modalità adesso noi togliamo le varie piattaforme perché non è quello che ci interessa però per esempio abbiamo il video con i settaggi normali quindi in questo caso vabbè 5k però 16 noni ok e poi qua facciamo invece il preset che chiamiamo invece che file multimediale lo chiamiamo fare multimediale storie ok andiamo a modificare ricordiamoci di accendere file multimediale storie andiamo a modificare la sorgente ok le dimensioni fotogramma e andiamo a mettere un 1080 per esempio per un 10920 e quindi in questo caso avremmo già un export predefinito per le storie ora è normale che anche la sequenza andrebbe adattata eccetera però insomma facendo una scala per riempire magari se vogliamo andare veramente in super velocità abbiamo la possibilità di avere questi preset di export già pronti ecco quindi questa per quanto riguarda la schermata di sinistra è la vera implementazione di questa nuova veste grafica oggettivamente in centro non l'abbiamo già visto adesso di sfuggita ma ora ve lo spiego giustamente soprattutto se è la prima volta che lo vedete è dove noi diciamo tutti i settaggi di export per come esportare un video al meglio e tutta quanta la l'escursus di tutti i vari le varie opzioni che abbiamo di export vi rimando alla puntata precedente in cui comunque è già tutto spiegato in maniera super dettagliata ma comunque qua abbiamo come vedete la possibilità di rinominare il file scegliere il percorso utilizzare dei predefiniti ok e scegliere anche tra altri predefiniti che adesso sono messi in questa schermata qui in cui è anche semplice avere una ricerca creare i propri personalizzati e anche importarne quindi diciamo che è stata ottimizzata questo aspetto anche a livello poi di come sono messe le cose ok non abbiamo qua 8 miliardi di opzioni ma abbiamo piuttosto un pannello dei predefiniti apposito abbiamo la possibilità con questo on e off che abbiamo già visto prima per quanto riguarda appunto le directory di export di poter selezionare alcune impostazioni come appunto i sottotitoli accendere degli effetti i metadati eccetera insomma abbiamo veramente una velocità nell'avere queste impostazioni superiore rispetto al passato in video è esattamente tutto invariato rispetto a prima ciò che cambia è veramente solo l'aspetto grafico quindi abbiamo la possibilità di scegliere dei predefiniti di scegliere la dimensione fotogramma in maniera personalizzata ok bloccando i valori o lasciandoli liberi la frequenza fotogrammi e le altre funzioni più specifiche facciamo attenzione perché sono qua dove c'è altro ecco potrebbe potrebbe non notarlo ecco questa non è una cosa che mi piace tanto mi sarebbe piaciuto aprendo video che ci fosse tutto ok tutto subito però insomma è un mio parere e qui abbiamo tutto il resto delle impostazioni ok più specifiche che come vi dicevo ho spiegato nella precedente lezione ok qui abbiamo abbiamo visto anche prima di sfuggita il pannello inerente alla visualizzazione del video che stiamo esportando quindi su questo è migliorato molto perché è molto più grande molto più importante ci permette di fare una pre visualizzazione del video già direttamente qui senza doverlo per forza poi esportare e qua abbiamo ovviamente le possibilità di ridimensionamento rispetto alle impostazioni che abbiamo che abbiamo messo questo è rimasto invariato l'intervallo ovvero che cosa esportiamo se l'intera sorgente se da attacco o stacco o appunto una porzione personalizzata qui abbiamo un piccolo riepilogo di come è il video sorgente e di come sarà il video in output e poi abbiamo la possibilità di mandare a media encoder o di esportare grandi novità SNI nel senso che è tutto invariato per molti anzi può essere un passaggio complicato perché cambia una veste grafica che è stata la stessa per decenni però in realtà malettando per non più di mezz'ora si fa veramente si trovano delle semplificazioni e anzi delle modalità aggiuntive che se inserite in maniera ottimale all'interno del proprio workflow quindi riuscendo ad avere questa elasticità mentale di evolversi ok di non rimanere ok il software è stato sempre quello e io so lavorare solo così ma evolversi dire ok benissimo ho anche queste nuove opzioni allora diventa davvero utile crearsi tutta una serie di predefiniti qua e di veramente ottimizzare l'esportazione a dei livelli che che rendono questo passaggio veramente veramente poi un automatismo quindi direi che se avete dubbi domande perplessità per quanto riguarda questa lezione questo argomento che comunque è affrontato anche vi ricordo di nuovo nella precedente puntata in maniera più approfondita vi chiedo semplicemente di fare le vostre domande domande risposte in maniera tale che chi verrà dopo di voi potrà trovare magari risposta anche a dubbi che che anche altri hanno ok quindi ci aiutiamo in questo modo se arrivati a questo punto questo argomento ti è ben chiaro lo hai assorbito e sei pronto per andare avanti ci vediamo alla prossima lezione perfetto siamo di nuovo su Premiere Pro e adesso entriamo in un mondo un po' più avanzato un po' un po' più da nerd ecco abbiamo imparato le basi del montaggio siamo arrivati a questo punto in cui sappiamo muoverci effettivamente bene con il programma ma iniziando anche a lavorare le nostre timeline e il tipo di file con cui andiamo a lavorare è sempre più grande è sempre più complesso da elaborare per i nostri computer e per noi insomma attendere i tempi di risposta dei macchinari a meno che non abbiamo proprio dei macchinari stratosferici ecco quindi siamo su Premiere Pro abbiamo questa timeline di esempio con delle immagini di un cortometraggio che come vedete sta andando in play dove abbiamo qualche leggero salto però comunque è ancora fattibile di che file si tratta? andiamo a vederlo subito abbiamo un B-Raw che sarebbe un RAW della Blackmagic 6K quindi 6144 per 3456 a frame rate variabile perché questa per esempio è un 25 fps questa l'abbiamo a 50 insomma abbiamo del frame rate variabile questo tipo di file in realtà come vedete sul mio computer gira comunque abbastanza bene ecco in questo stato quindi delle clip messe una davanti all'altra senza particolari effetti senza trasformazioni di posizione scala rotazione o color color correction effetti particolari che cosa succede però se andiamo ad applicare un semplice livello di regolazione con un po' di contrasto e saturazione andiamo subito a vederlo quindi applichiamo il nostro livello di regolazione andiamo sul sul pannello di color e andiamo ad aggiungere semplicemente un po' di contrasto e un bel po' di saturazione ok adesso tornando al nostro player come vedete la la riproduzione si fa molto più scattosa e comunque rimangono poche clip su una su una su una sola traccia quindi comunque immaginate su una timeline davvero compressa ecco che entrano in gioco i proxy che cosa sono i proxy i proxy sono un file di sostituzione al file ben più grande che abbiamo quindi sono un po' come delle controfigure delle nostre clip ovvero in questo caso abbiamo delle clip in 6k grosse fantastiche pettinate perfette che però insomma per lavorarci su non è così semplice allora abbiamo bisogno delle clip di sostituzione di una qualità più scarsa di un formato meno compresso più semplice da leggere per il macchinario che ci permetta di lavorare in totale tranquillità e comunque con molta più velocità e fluidità soprattutto che è poi quella che fa la differenza nel momento in cui si entra nel mondo dei professionisti da sostituire poi una volta arrivati in fase di export quindi insomma ci andranno a subire tutte quelle che sono i nostri paciocchi tutte quelle che sono i nostri montaggi i nostri assemblaggi le nostre color eccetera per poi mettersi da parte e andare a sostituire una volta una volta pronti all'esportazione non sempre ci sarà bisogno di utilizzare proxy ecco diciamo che ci sono delle situazioni in cui soprattutto con dei macchinari non troppo forti soprattutto quando ci ritroveremo nel corso della nostra carriera ad avere a che fare con file sempre più grandi sempre più importanti e con progetti sempre più lunghi a non avere la possibilità di lavorare sul file originale ma proprio è impossibile non importa che tipo di macchinario di computer si abbia ok quindi abbiamo capito che cos'è un proxy Premiere Pro ci dà la possibilità appunto con questo tasto qua come abbiamo già visto nelle precedenti nelle precedenti lezioni andiamo se non lo visualizzate qua andiamo sull'editor pulsanti e lo troverete tra questi vari pulsanti e se noi avremmo già creato il proxy eccetera avremo la possibilità di azionarlo e come vedete sarà tutto molto più fluido il playback torna ad essere fluido torna ad essere possibile visualizzare effettivamente il tipo di lavorazione che abbiamo appena effettuato anche dopo aver applicato una color quindi che cos'è di per sé il proxy il proxy non è altro che come ho detto un file sostitutivo ha una risoluzione inferiore ma che tiene l'aspect ratio abbiamo già parlato di aspect ratio dovreste conoscerlo nel caso recuperatevi la puntata inerente all'argomento in sostanza la proporzione rimanendo la stessa non ci crea nessun problema lavorare su un file in questo caso un 720 quindi ben più piccolo di un 6k come il file originale e premia in automatico dicendogli appunto che quella clip che noi stiamo utilizzando in 720 è un proxy tramite questa funzione qua in un click ce la sostituisce quindi diventa anche immediato lavorare su una color e per montare per fare dei cambiamenti di montaggio attivare il proxy disattivarlo per magari vedere effettivamente con la qualità completa dell'immagine e poi tornare ad attivare il proxy per lavorare comunque il proxy è un file che permette di avere una risoluzione comunque gradevole nel senso rimane un file che ti fa capire qual è il potenziale dell'immagine e diventa molto utile anche per mandare le bozze ai clienti perché giustamente essendo un 720 i tempi di export per il cliente per mandare il video al cliente saranno molto più corti e quindi per mandare bozze diventerà diventerà sicuramente uno strumento utile come vedete in questo caso c'è un watermark che ci aiuta a capire quando effettivamente attivo il proxy e quando non lo è ma quindi direi che c'è ben chiaro che cos'è a che cosa serve eccetera andiamo a vedere come crearlo quindi direi che se hai capito che cos'è un proxy a che cosa serve come si utilizza andiamo a vedere come farlo questo nella prossima lezione benissimo che cos'è un proxy c'è chiaro andiamo a vedere come si crea per farlo avremo bisogno di media encoder quindi andiamo ad aprire media encoder siamo su media encoder come abbiamo detto nella lezione precedente il file proxy non è altro che un export del nostro video ha una risoluzione inferiore mantenendo l'aspect ratio e quindi andiamo a vedere come realizzare questo export come realizzarlo in maniera rapida veloce ogni volta che si crea un progetto per farlo avremo bisogno di creare dei preset qua abbiamo già i preset che io utilizzo solitamente ma comunque lo andiamo a creare insieme così da capire anche effettivamente quali sono i parametri da tenere d'occhio nel momento in cui utilizziamo delle immagini diverse quindi che cosa abbiamo bisogno di creare premiamo il tasto più che c'è qua sulla sinistra in basso a sinistra e facciamo un predefinito di codifica il predefinito di codifica non è altro che un predefinito di export quindi ci si aprirà questo tab che è assolutamente simile anzi è identico a quello dell'export normale e andiamo a configurare i vari parametri sicuramente per il proxy è molto utile avere un formato stile quick time rispetto magari ad un H.264 in quanto il quick time è un contenitore un formato molto meno compresso e quindi più facile da leggere per il nostro computer perché in realtà non è il file che pesa di meno quello più facile da leggere ma il file meno compresso che quindi richiede meno elaborazione da parte del computer comunque l'importante è utilizzare un formato non compresso quindi andiamo a selezionare in questo caso un quick time e come codifica in questo caso andiamo ad utilizzare un Apple ProRes 422 proxy come vedete lui ce ne dà varie soluzioni se non avete l'Apple ProRes potrete usare comunque GoPro Cineform quindi sicuramente è un formato poco compresso ok e l'Apple ProRes 422 comunque è un file molto buono in realtà anche a livello di resa nel senso non è non è compresso non è troppo compresso e ci permette di avere una visualizzazione dell'immagine molto buona andiamo a vedere adesso gli altri parametri noi potremmo comunque lasciare tutto basato su sorgente e avere un preset solo per per qualsiasi tipo di proxy io comunque vi consiglio di personalizzarli in maniera tale da avere un po' più sotto controllo quello che succede quindi sicuramente avere dei proxy basati sulla risoluzione che vogliamo ottenere quindi in questo caso 720 è un buon compromesso tra qualità e velocità e fluidità tra i vari macchinari però insomma nel momento in cui abbiamo un progetto ancora più grande ancora più complesso nessuno ci vieta di scendere e come vedete qua esattamente come nell'export abbiamo le proporzioni in fotogramma che sono esattamente l'aspect ratio che rimane ancorato quindi cos'è importante è importante che l'aspect ratio quindi le proporzioni tra i fotogrammi siano le stesse di quelle del progetto quindi in questo caso un 16 noni quindi è importante partendo dal punto di riferimento che è 1920 per 1080 andare a scendere con la risoluzione mantenendo questo questo ancoraggio in maniera tale da mantenere le proporzioni ok qualora invece avessimo un aspect ratio diverso dal 16 noni vi insegno un trucchetto vi faccio vedere un trucchetto per poterlo identificare semplicemente velocemente andare così a scalare la risoluzione come vedete qua abbiamo i valori ancorati quindi qualsiasi cosa noi dovessimo scrivere rimangono ancorati sulla proporzione che abbiamo impostato ma adesso andiamo a disancorare questo valore qua e andiamo ad inserire ad esempio i valori di un 4k dci che sono 4096 per 3840 ok andiamo a riattivare l'ancoraggio e premendo ad esempio 720 andremo a vedere come per mantenere questo tipo di proporzione non è più 1280 ma è 768 per 720 ok quindi con questo semplice trucchetto possiamo andare a scalare sulla spettratio che preferiamo quindi andiamo ad inserire il nostro spettratio del 16 noni quindi 1920 per 1080 e andiamo ad inserire un 720 per quanto riguarda frequenza fotogrammi lasciando basato su sorgente e non andando a forzare quindi questi file codificati ad un ad una frequenza specifica andremo a mantenere nel caso in cui ci sia una timeline con frequenza di fotogrammi variabile come esattamente quella di test che abbiamo visto prima rimaniamo appunto con le varie clip a 25 50 120 quindi comunque basato su sorgente può rimanere così per quanto riguarda l'ordine dei campi e l'aspetto a meno che non abbiamo delle consegne particolari quindi al di fuori di quello che è il nostro normale lavoro web allora qua possiamo andare intervenire in maniera specifica se no possiamo lasciare tranquillamente come basato su sorgente in quanto comunque saranno sempre progressivi e pixel quadrati ed ecco che andiamo adesso ad inserire l'elemento che ci fa rendere conto appunto nel momento in cui abbiamo attivato i proxy che si tratta effettivamente dei proxy perché è molto semplice poi andare a confondersi e questo ci farebbe consegnare al cliente ci farebbe rischiare di consegnare al cliente un lavoro in 720 con un file poi girato in 6k quindi non è il massimo quindi andiamo ad inserire una sovrapposizione immagine possiamo andare a scegliere la nostra immagine e la andiamo a scegliere sulla scrivania in questo caso io l'avevo già creata ma possiamo inserire qualsiasi tipo di immagine un watermark che ci faccia capire effettivamente che stiamo lavorando con il proxy e la andiamo a spostare in basso a destra in basso a sinistra come c'è comoda non al centro in quanto comunque ci renderebbe difficile visualizzare l'immagine ok in basso a destra e poi possiamo lavorare con lo scostamento per centrarla insomma fate un paio di prove fino a che non trovate effettivamente la soluzione che fa più per voi ok l'abbiamo creato non ci resta che rinominarlo in questo caso lo chiamo proxy test tutorial e andiamo a specificare che si tratta di un 720 per un 16 noni a frame rate variabile quindi fps variabile siate molto specifici in quanto comunque effettivamente diventa poi difficile andare a riconoscere di che cosa si tratta ok salviamo questo preset e adesso andiamo a creare il preset di assimilazione che è quello che ci servirà poi su premiere per poter identificare effettivamente e per poter azionare effettivamente il rendering dei proxy ok quindi apriamo il nostro preset di identificazione come nome predefinito possiamo dare assimilazione test tutorial e di nuovo le caratteristiche 720p 16 noni fps variabili ok e come percorso di destinazione in realtà è indifferente in quanto andremo a cambiare ogni volta che esporteremo ma lo vediamo più avanti quindi selezionatene uno perché se no potrete salvare il preset uno a caso ma non è importante come formato di nuovo quick time e come predefinito ecco che andiamo a trovare il predefinito che abbiamo creato prima quindi proxy test tutorial 720p 16 noni fps variabile ok fatto questo non ci resta che salvare e come potete vedere qui abbiamo i due i due preset quindi quello di assimilazione e quello di codec e non ci resta che tornare su premiere per andare a creare il proxy come si fa a creare il proxy semplicissimo selezioniamo le clip che vogliamo proxare non è questo il termine giusto di cui vogliamo che vogliamo trascodificare per creare il proxy e non facciamo altro che scrivere crea proxy ci aprirà questo questo tab dove andiamo a selezionare il nostro preset come vedete qua ci sono altri altri preset e vabbè questo è quello che ho già io come in passato non troviamo quello che abbiamo appena creato perché perché dovremmo aggiungerlo quindi aggiungi predefinito di assimilazione e dato che io ho già aggiunto in passato dei preset mi trova subito questa cartella di destinazione ma non sarà così semplice quindi quello che vi consiglio di fare è di premere su tasto destro su media encoder il preset di assimilazione che avete creato e fare mostra file del predefinito e in base al sistema che avete insomma vi andate a copiare la destinazione del file o ve la trascinate dentro quindi lo importiamo abbiamo creato abbiamo importato il predefinito di assimilazione e siamo pronti a creare i nostri proxy come vedete nella destinazione vi chiederà se utilizzare un predefinito appunto su documenti nelle cartelle di adobe oppure cosa che vi consiglio di fare accanto ai file originali nella cartella proxy quindi vi andrà a creare poi una cartella nella vicino alla cartella del vostro progetto chiamata proxy dove qua in questo caso già i proxy che ho creato prima precedentemente per farvi vedere il risultato e andiamo a premere ok e come vedete ci aprirà media encoder e inizierà l'export di questi proxy ovviamente qui si apre un argomento importante ovvero creare proxy come potete vedere se non l'avevate intuito fino a questo momento si tratta di creare una transcodifica dei file che abbiamo quindi questo comporta l'export di tutti i nostri file quindi più sono grossi e più tempo ci vorrà il consiglio che vi do è di utilizzare le ore notturne o comunque di prendervi un giorno o delle ore in base alla grandezza del progetto per realizzare i file prima dell'effettivo montaggio perché appunto se no rimarrete bloccati insomma questo è solo un management del tempo di lavoro però vi assicuro che una volta che utilizzerete i proxy non riuscirete più a farne a meno perché la fluidità di lavoro cambia completamente è tutto un altro mondo quindi adesso non ci resterà che aspettare le ore necessarie a fare l'export dei nostri proxy e poi saremo pronti ad andare su premier per attivarli tramite questo tasto ok quindi per questa lezione è tutto nel caso in cui ci siano delle domande dei dubbi delle informazioni maggiori di cui avete bisogno scrivetelo nei commenti perché possiamo aprire un dialogo tra di noi aiutarci a vicenda e trovare soluzioni migliori insieme per fluidificare in questo caso per semplificare il montaggio di tutti prima di passare alla prossima lezione assicurati di aver ben compreso tutti gli argomenti trattati in questa e appena sei pronto passa alla prossima benvenuti finalmente nella prima esercitazione pratica di premier pro oggi metteremo in atto insieme tutte le nozioni gli strumenti inerenti il montaggio video su premier pro che abbiamo imparato nelle precedenti puntate il materiale che inizieremo ad utilizzare oggi il progetto che creeremo ce lo porteremo avanti anche nelle successive esercitazioni pratiche di premier quindi create il progetto in un luogo sicuro insomma dove riuscirete a mantenerlo per il corso di questo videocorso e insieme così andiamo a creare il vostro primo video completo quindi oggi partiremo con il semplice montaggio la creazione del progetto e delle sequenze per poi andare nel corso delle esercitazioni a realizzare un video completo di color correction e di effetti audio e video per iniziare che cosa ci serve innanzitutto dobbiamo scaricare il materiale video nelle risorse del videocorso troverete un link a una cartella drive che vi permetterà di arrivare a questa cartella in questa cartella chiamata esercitazione pepsi abbiamo tutta una serie di clip registrate con una blackmagic 6k e poi riesportate in mp4 per semplificarvi sia nello scaricare il file e sia nel montarli poi su un qualsiasi dispositivo tutti questi file di un video product da questa cartella drive potrete iniziare a visualizzare già le immagini come se fosse un player di youtube ma comunque vi consiglio di scaricarle tutte per essere tutti in linea sullo stesso lavoro una volta che avrete scaricato il materiale ci vediamo per iniziare a organizzare le cartelle e per iniziare il montaggio una volta scaricato il materiale cerchiamo di ordinarlo subito in una maniera efficace quindi creiamo la nostra cartella del progetto in questo caso si chiama esercitazione montaggio 1 però chiamatela come volete e creiamo delle diverse cartelle per tutti gli elementi che potranno servirci in questo caso abbiamo già la cartella delle clip in cui inseriamo tutte le clip che abbiamo scaricato poi vi consiglio di creare una cartella edit in cui andiamo a inserire tutti i file di edit in cui andremo a salvare effettivamente il progetto di premiere pro una cartella export in cui andiamo a mettere tutti i vari export che andremo a fare di questo video e un'altra cartella dove io per esempio la chiamo elementi che possono essere musiche effetti sonori grafiche insomma tutto ciò che è al di fuori così abbiamo un progetto bello ordinato ok quindi arrivati a questo punto non ci resta capire il progetto di premiere pro e iniziare a settarci prima di fare questo ancora una piccola premessa su quelli che sono gli obiettivi di questa lezione l'obiettivo è di creare un video pubblicitario di 30 secondi utilizzando il materiale che abbiamo a disposizione ovviamente noi adesso andremo a fare un esempio insieme ma vorrei che faceste un lavoro creativo quindi andiamo a vedere insieme quali sono gli step e come ci si può lavorare per poi andare in autonomia a realizzare il vostro video quindi nel corso di questa lezione troverete anche dei miei suggerimenti dei tool che utilizzo io per quelli che sono tutti gli elementi accessori anche al montaggio vero e proprio un'altra cosa fondamentale questo video lo creeremo in tutti i formati più utili ai social network anche per vedere questo processo partendo da un file insomma studiato per i 16 nonni andare a vedere effettivamente come andare ad aggiustare un video per le varie pettaforme ok quindi direi che possiamo iniziare aprendo premiere pro ok siamo su premiere adesso andiamo spediti su questi processi che dovremmo aver già comunque visto a livello teorico e creiamo un nuovo progetto rinominiamolo in maniera inequivocabile solitamente io parto da il cliente in questo caso videocorso uso lo slash per identificare i vari segmenti quindi in questo caso prima il cliente poi il lavoro che è esercitazione edit1 e poi uso lo slash per identificare che questo è il progetto utilizzando prj però in realtà potete fare un po' come volete sicuramente la cosa migliore è avere un nome più dettagliato possibile poi andiamo a identificare dove salvare il nostro progetto e abbiamo creato la nostra cartella posta edit e andremo a salvarlo qua importante controlliamo che i dischi di memoria virtuale siano tutti salvati su come progetto questo abbiamo già visto che è un aspetto importante per avere il tutto salvato nello stesso posto premiamo ok e ci si aprirà il nostro premiere pro allora per lavorare a questo progetto cerchiamo di utilizzare tutti lo stesso tipo di layout così da essere più semplificati nel seguire o meno gli step che andremo a realizzare in questo caso per partire la cosa migliore è lavorare dal pannello assemblaggio quindi selezioniamo il pannello assemblaggio andiamo su finestra spazio di lavoro e ripristina all'eye auto salvato in questo modo saremo tutti uguali e poi in base anche al tipo di versione che uno utilizza però abbiamo una base di partenza solida qual è la prima cosa da fare? ovviamente importare il materiale ma l'abbiamo già visto quindi importiamo il materiale e ci sarà molto semplice importarlo nel momento in cui abbiamo messo tutto in una cartella facciamo importa adesso come potete vedere abbiamo tutte le nostre clip visibili in questo pannello possiamo andare a fare una cosa già utile ovvero selezionare tutto ciò che è più o meno lo stesso take che è una roba simile insomma anche qua a livello visivo nel player e dargli un'etichetta magari diversa quindi anche semplicemente scorrendo con il mouse sopra l'anteprima potremmo vedere più o meno di che tipo di clip si tratta ovviamente io in questo progetto vi ho messo anche i take sbagliati così da darvi proprio la possibilità di capire come si lavora e come si seleziona il materiale durante un vero lavoro ovviamente io sto mettendo le etichette diciamo a caso nel senso non mi importa che ci sia una risposta colore scena però in realtà è una cosa molto utile farlo qualora ci siano diverse scene ad esempio in un matrimonio è molto utile dividersi le clip della sposa di un colore e le clip dello sposo di un altro ad esempio però in questo caso avere già un tipo di riferimento visivo è molto importante ora un altro step prima secondo me di creare un progetto può essere quello di andare in questo in questo tipo di visualizzazione ad elenco per vedere che tipo di file stiamo lavorando quindi abbiamo un tipo di file a 50 fps e andando a cliccare su proprietà possiamo visualizzare su questo pannello qua il tipo di formato adesso non lo andiamo a fare su tutte su tutte le clip sappiamo che il tipo di sequenza che vogliamo creare è una sequenza generalmente in 50 fps perché comunque tutto il materiale che abbiamo è in 50 fps e in 1920x1080 per montare il nostro video in 16 noni quindi quello che vi consiglio di fare è creare innanzitutto un nuovo raccollitore chiamandolo sequenze al cui interno creare una nuova sequenza ok in questo caso mettiamo personale a 50 fotogrammi 1920x1080 è importante mantenere una conformità dei valori della sequenza rispetto a quelli che sono i valori delle clip che utilizziamo diciamo che per quanto riguarda la base temporale quindi i fotogrammi al secondo della sequenza l'importante è mantenere la proporzionalità che c'è tra i fotogrammi anche perché è possibile avere una sequenza con fotogrammi misti quindi 25 50 e così via l'importante secondo me è cercare di non avere fotogrammi misti che siano ad esempio 24 29 30 con clip a 50 25 insomma cerchiamo sempre di mantenere questo rapporto 25 50 100 in maniera tale da non avere delle perdite a livello di fotogrammi in questo caso noi comunque l'output lo faremo in un futuro a 25 fotogrammi ma non ci crea nessun problema avere anzi ci rende il tutto molto più rapido avere la conformità maggiore tra sequenza per quanto riguarda le dimensioni del fotogramma anche qui sicuramente ci semplifica a livello di montaggio avere la conformità maggiore certo è vero che se giriamo SK possiamo benissimo avere una timeline in 1920x1080 perché quello che ci importa realmente è la proporzione quindi il fatto che siano 16 noni un 1 a 1 un 4 quinti quanto più la quantità di pixel e appunto parlando di proporzione il valore imprescindibile è esattamente questo noi abbiamo girato con un valore di pixel quadrati quindi mi raccomando questo è il primo valore da controllare qualora ci fossero delle non conformità nelle clip ok direi che possiamo creare la nostra sequenza e iniziare ad importare le clip in timeline ok però com'è che eseguiamo un montaggio sicuramente un elemento importante per fare questo è la scelta di una musica quindi come possiamo trovare delle musiche per i nostri video allora sicuramente un primo step per trovare le musiche è andare su youtube youtube studio raccolta audio e qui abbiamo già un tot di musiche gratuite che potremmo utilizzare poi per chi è abbonato a siti come ad esempio artlist o altre librerie musicali può comunque utilizzare la libreria che preferisce io direi che per semplificare tutti quanti nella ricerca delle musiche possiamo andare a cercare la canzone direttamente sulla libreria della raccolta di youtube adesso questo step lo possiamo anche saltare insomma cerchiamo una canzone che ci aggradi fate lo stesso giocate di creatività trovate qualcosa che vi piaccia per un tipo di montaggio che avete in mente insomma allora cosa vi può essere utile per trovare al meglio le tracce su questo tipo di portale come vedete qua abbiamo una serie di tracce ovviamente ma abbiamo anche una barra di ricerca in cui poter fare una ricerca tramite titolo genere stato d'animo nome dell'artista durata e anche soprattutto attribuzione non richiesta o richiesta del copyright questo c'è molto utile nel momento in cui effettivamente realizziamo dei video per dei clienti che devono utilizzarli a scopo commerciale quindi questo c'è prima di tutto utile effettivamente per trovare la nostra traccia per questo video sicuramente partiamo dallo stato d'animo quindi dobbiamo avere sicuramente qualcosa di motivante di felice e di vivace quindi questo può essere già un tipo di filtro che possiamo utilizzare per trovare la canzone qualsiasi canzone voi utilizzate utilizzate anche canzoni famose insomma non è importante in questo caso scegliete una traccia guardando anche il materiale che avete a disposizione così da settare il mood fate la scelta creativa che meglio preferite ci vediamo una volta che avrò trovato la traccia ok dopo dieci ore di ricerca abbiamo trovato finalmente la traccia che più ci piace e possiamo importarla ovviamente io questa traccia ve la metto comunque negli elementi da poter scaricare così potrete utilizzarla io vi ho detto un tipo di tool che si può utilizzare ovviamente sta a voi a scegliere se utilizzare la stessa traccia per provare a emulare quello che faccio io oppure appunto cosa che vi consiglio andare per una vostra strada più creativa ok quindi importiamo la traccia e qui secondo me c'è già un primo aspetto fondamentale della parte di montaggio ovvero decidere che porzioni di traccia utilizzare e quindi anche tagliarla e montarla perché fitti a livello temporale nella quantità che preferiamo ci sono in realtà anche dei tool che fanno il remix in maniera automatica quindi impostando la quantità di tempo che si vuole ottenere la quantità di tempo di destinazione per poi fare il remix automatico della traccia per esempio con audition si può tranquillamente fare e per accedere ad audition non basta fare altro che premere il tasto destro e fare modifica clip in audition però dato che sarebbe un software in più la facciamo manualmente da premiere ok quindi abbiamo la nostra traccia selezionata la prima cosa da fare è fare un ascolto per creare il mix abbiamo detto quindi andiamo a creare il mix insieme ok questa parte ci piace vogliamo salvarne 30 secondi ok qua come sentiamo nella traccia c'è già un suo primo una sua prima pausa che è caratteristica di questa traccia andiamo a riascoltarla più o meno intorno ai 10 secondi qua abbiamo questa sospensione quindi ci andiamo a fare un marker con la M e andiamo magari in una porzione di chiusura della traccia a cercare un'altra cosa simile a cercare ok qua abbiamo un altro punto di quel tipo quindi possiamo già direttamente andare a creare ok qua abbiamo quella specie di ricarica che fa anche nel punto che abbiamo selezionato e quindi direi che possiamo anche crearci il nostro montaggio qua e vedere se si collega con il marker che abbiamo fatto ovviamente la traccia è ancora troppo lunga quindi andremo a realizzare degli altri tagli però proviamo a sentire così ok funziona ci togliamo il ricarico andiamo direttamente sul drop ok ok ci siamo è leggermente in ritardo ok funziona così funziona e come vedete abbiamo già eseguito un primo taglio adesso andiamo a cercarci un altro punto magari per agganciarci verso la fine ok possiamo tenerci anche solo la chiusura questa parte qua ok adesso ma io una cosa che proverei a fare andiamo più o meno nell'area in cui vogliamo eseguire la nostra chiusura proviamo a incollare e vediamo se funziona vediamo se abbiamo fortuna ok sì direi che abbiamo abbastanza fortuna perché abbiamo un richiamo un richiamo del vocals quindi comunque siamo in un buon un buon giro della traccia proviamo semplicemente a mixare così non male non male direi che che abbiamo un buon punto di partenza ok quindi come vedete nel flusso lavorativo io decido sempre di dare una precedenza al montaggio audio questo perché l'audio setterà in realtà il mood del mio montaggio quindi cosa andiamo a fare adesso ci andiamo a fare un altro ascolto di tutta la traccia per individuare tramite dei marker dei punti di montaggio quindi dei punti ritmici su cui magari vogliamo effettuare un cambio di scena o comunque enfatizzare tramite il video il beat musicale quindi andiamoci a fare un ascolto completo della traccia inserendo dei marker quindi direi che per semplificarci cancelliamo tutti i marcatori così da non avere distrazioni con quelli già creati prima e facciamoci il nostro ascolto ok ripeschiamo questa parte grazie a tutti abbiamo finito di inserire i nostri marcatori per farlo vi ricordo che dovete premere m della vostra tassiera o comunque andare su preferenze e selezionare uno shortcut per questa operazione oppure potrete inserirli da qua come vedete appunto da questo pulsante qua io dove ho inserito i marcatori io ho inserito i marcatori dove ritenevo che ci fosse un cambio di ritmo sufficiente a potenziare il cambio di immagine ovviamente non è su ogni singolo su ogni singola percussione su ogni singolo battito è semplicemente su quelli che io ritengo siano i cambi ritmici che vorrei sfruttare per il montaggio del video arrivati a questo punto cosa dobbiamo fare niente dobbiamo montare il video quindi andiamo a sceglierci potenzialmente l'arco narrativo che vogliamo creare in questo caso abbiamo la clip del bicchiere con il ghiaccio che viene inserito andiamo a trovarci la clip che riteniamo buona per quello che dobbiamo fare noi questa mi sembra una buona clip direi che per il drop del ghiaccio questa non è male e potremmo giocarcelo dato che è a 50 fps anche a slow motion per per andare a tempo sul ritmo con il ghiaccio che cade ok abbiamo messo il ghiaccio poi vediamo adesso sto semplicemente importando le clip a livello cronologico di quella che sarà la sequenza del video non inizio già a metterla tempo dato che un video molto molto breve mi concentro più che altro sull'aspetto narrativo quindi sul fatto di di trovare il materiale adeguato per la clip che voglio realizzare ok allora direi che potrebbe essere buono avere l'apertura anzi no mi piace questa clip qua in questo momento che indica la freschezza della pepsi come vedete una porzione di clip molto lunga io cosa sto facendo sto selezionando le porzioni buone allora troviamo quella dove ci piace di più l'apertura buona mi piace partiamo già dalla bottiglia aperta e ce la importiamo ok quindi quel take è il migliore e poi direi che potremmo andare sul versamento della pepsi ok devo dire che questa parte qua è quella che mi interessa di più quindi vediamo da qua se questa è quella che mi piace di più la mettiamo qui troviamoci una buona clip per il riempimento questa bella abbiamo anche la gocciolina che ci fa percepire la freschezza e ce la mettiamo tutta lunga del suo riempimento buona ovviamente super lunga e poi vediamo un po questa invece mi piace molto come clip fatto che ci sia la mano che prende che mette la pepsi partiamo dalla pepsi già in campo bam mettiamo questa magari questa può essere un'interruzione che possiamo giocarci quando c'è il cambio di ritmo e poi questa direi che è proprio la conclusione clip del product vediamo ok qua c'è un buon un buon mantenimento del fuoco ok perfetto ora che abbiamo tutte le nostre porzioni di video selezionate andiamo a giocare con il tempo e con quindi il montaggio più creativo questa diciamo che è solo la linea temporale del tutto poi in realtà si può fare il tutto in in contemporanea però questo mi sembra il metodo più semplice su cui lavorare quindi adesso che cosa andiamo a fare in contemporanea andiamo a rendere queste clip a tempo a rendere il video dinamico divertente piacevole da vedere pubblicitario almeno per quanto riguarda la porzione di montaggio e poi andiamo ad aggiustare tutto il framing del nostro materiale quindi magari a riadrizzare una determinata clip poi come vedete queste sono registrate non in 16 noni ma semplicemente perché erano a più fps e poi sono riesportate a 50 fps e quindi andiamo anche eliminare queste barre perché direi che non ci servono ok iniziamo con il montaggio creativo adesso che abbiamo in realtà importato tutte le clip e non importeremo più altre clip in questa timeline possiamo passare benissimo per avere anche una visualizzazione migliore sul pannello di montaggio andiamo su pannello di montaggio, finestra, spazio di lavoro, ripristina a layout selvato ok in questo modo come vedete abbiamo più spazio per lavorare abbiamo la possibilità di avere il pannello effetti sempre presente e anche il controllo effetti quindi andare a fare tutte le modifiche che dicevamo prima in diretta ok in questa porzione direi che lascerò il mio microfono disattivato e lo attiverò solo se ci sarà qualcosa di importante da riferire ok in questo caso voglio giocare un po' con la modifica temporale quindi mi sposto tutte queste clip più a destra mi do un po' di spazio in timeline e a livello temporale voglio giocare con il modifica tempo direttamente dalla clip quindi adesso zoomiamo perché in questo caso voglio rallentare in questo punto voglio rallentare leggermente la velocità della clip per vedere se riesco a far sincronizzare l'altro pezzo di ghiaccio poi possiamo giocare in questa clip su un avvicinamento progressivo quindi andiamo sul controllo effetti principalmente di scala la aggiustiamo che non si vedano più le barre ok in 106 non si vedano più le barre e poi andiamo a modificare gradualmente il crop qua in questo caso andiamo ad aggiustare anche la rotazione perché è un po' storta quindi zoomiamo di conseguenza e aggiustiamo la rotazione che sia un po' più dritta ok ok allora io devo dire che mi trovo meglio su un montaggio di 15 secondi con il materiale che abbiamo per fare una cosa più piacevole quindi taglio leggermente il video questo potreste farlo anche voi ovviamente cioè il limite massimo è di 30 secondi in realtà più si va avanti più diventa facile perché appunto cerchiamo di limitare il materiale realizzato e il materiale selezionato buono al minimo indispensabile quindi diventa più semplice realizzare un video più corto però all'inizio in realtà è molto più semplice sforare e fare video di minuti quando in realtà non serve per quello il video come tempo limite è 30 secondi in questo caso io preferisco optare per avere un video migliore su un risultato finale di 15 secondi quindi adesso vado a modularmi la durata di conseguenza della traccia ok così non va bene ok buongiorno Grazie a tutti Ok cosa sto facendo in questo momento tramite una tecnica chiamata speed ramping Praticamente sto andando a passare da un momento molto lento a un momento molto veloce per poi ritornare a un momento molto lento Ovviamente questa operazione qua la possiamo fare anche tagliando la clip in tre diversi punti e con command R andare a modificare la velocità di questi punti Però cosa succede? In questo caso adesso vi faccio vedere un prima e un dopo delle diverse tecniche Quindi in questo caso vado a cancellare questo montaggio che ho fatto Adesso ovviamente le distanze temporali non sono esattamente le stesse Ok in questo caso non abbiamo lo stesso ritmo però possiamo vedere molto chiaramente quanto una sia più dura rispetto all'altra Questa è la versione senza usare appunto il pannello modifica tempo direttamente sulla clip applicando dei keyframe Adesso andiamo a vedere la differenza tra i due metodi per fare questo tipo di effetto Quindi lo speed ramping direttamente tagliando la clip e velocizzando quella di mezzo e rallentando Comunque lasciando velocità normale quella iniziale e quella finale Ok ha laggato un po' li faccio vedere Ok no non ha laggato un po' semplicemente il movimento come vedete è molto duro il passaggio tra il lento e il veloce Mentre invece utilizzando appunto questo metodo qua abbiamo la possibilità di creare una transizione Come se fosse una sfumatura tra un tipo di velocità e l'altra Questo ci permette ovviamente di avere un effetto molto più morbido Andiamo a vedere Vedete è totalmente diverso Riguardiamo l'altra versione Super scattoso Super fluido Quindi questo è un altro tool interessante da utilizzare Ovviamente ci sono delle situazioni in cui funziona molto di più questo E delle situazioni tipo questa dove funziona molto di più Un passaggio morbido Ok quindi abbiamo la nostra clip iniziale finale Grazie a tutti Grazie a tutti Ok cosa sto facendo adesso qua a livello creativo semplicemente mi sembrava molto più interessante Avere la mano dell'attore che appoggia la Pepsi Ok come in questo caso Ci siamo quasi Ma mettendola all'indietro Cioè è normale che tante cose a livello creativo arrivino poi durante il flusso Cioè è tutto normale Giusto che sia così Qua sarebbe anche figo inserire un movimento di rotazione E un po' di scalata magari Ok direi non vi preoccupate ovviamente in queste clip di esempio Che siate a una scala di 250 eccetera In questo caso non vi preoccupate perché ovviamente sono delle clip che sono esportate in 1920 Ma sono dei nativi 6K Erano studiati già per essere molto zoomati Quindi comunque è solo ai fini di esercitarvi Ovviamente difficilmente si arriverà a dei livelli di scala così alti su delle clip Girate ad esempio in 1920 Perché ovviamente ne andrete a perdere di qualità Però ad oggi stiamo cercando di esercitarci sul montaggio creativo Sull'utilizzo delle tecniche che abbiamo visto fino ad oggi Quindi non ce ne preoccupiamo troppo Ok qui abbiamo un buco Di una clip Vediamo se troviamo qualcosa nelle clip che ci può andare bene Ci può aiutare Tra l'altro devo dire che Questa porzione è molto meglio rispetto a quella che ho scelto io Quindi la vado a sostituire Qua in questo caso ecco non abbiamo il ritmo sul taglio Ma abbiamo il ritmo sul movimento della Tor Buono Grazie a tutti 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 Ok qua ovviamente ci potrebbe essere una grafica tipo Pepsi Ok ottimo Io direi che come montaggio ce lo riguardiamo Ovviamente privo di effetti È solo un montaggio tramite i tool che abbiamo imparato fino adesso Sicuramente lo andremo a modificare più avanti nel corso delle esercitazioni Con delle stabilizzazioni con magari degli effetti visivi con delle grafiche delle scritte Insomma questo è lo scheletro su cui andremo a lavorare Io come avete ho lavorato su generalmente due livelli proprio per aiutarmi a sincronizzarmi nelle durate Diciamo che ora che abbiamo un montaggio più o meno definitivo Possiamo anche tirare giù le clip che abbiamo sopra E lasciare tranquillamente Data la semplicità di questo montaggio Dato che non ci sono sequenze che si intrecciano come dialoghi eccetera O come sovrapposizioni in opacità particolari Possiamo tenere questa linea qui Ok direi che ci siamo Come primo scheletro può andare molto bene Quindi direi che per questa esercitazione possiamo fermarci qui Andiamo avanti adesso ancora con una porzione di videocorso più teorica Andiamo a vedere delle altre informazioni Per poter poi concludere questo montaggio che abbiamo iniziato oggi Quindi salvate il progetto Lasciatelo in un posto in cui si potrà riaprire Perché andremo a terminare questo progetto per realizzare uno spot definitivo Ovviamente io ho scelto questo tipo di narrativa Ma potrete fare come volete Se volete seguire assiduamente il mio montaggio E provare a realizzare lo stesso identico video Siete liberi di farlo O comunque di giocare a livello creativo Ovviamente il materiale è poco Proprio per aiutarvi a selezionare i punti migliori Per aiutarvi a non disperdervi nel cercare mille immagini Una roba semplice e veloce Poi nelle prossime esercitazioni Implementeremo sicuramente anche del materiale un po' più complesso Direi che per il momento questa lezione finisce qui Quindi prosegui solo se sei sicuro al 100% di aver compreso tutti gli argomenti Fino a questo momento Ok Abbiamo finalmente finito Sei arrivato fino a questo punto E hai terminato il corso base di Premiere Pro Innanzitutto complimenti per il tempo dedicato a questo percorso Hai tutta la mia stima e il mio rispetto per la dedizione applicata È il momento di accedere al nostro videocorso completo Tramite il link in descrizione Lì puoi trovare un videocorso continuamente aggiornato nel tempo E oltre 10 ore di esercitazioni pratiche di montaggio Più tutta una sezione dedicata alla ripresa video Per diventare un videomaker a 360 gradi Buon proseguimento in questo mondo incredibile E buona fortuna Grazie a tutti